Buongiorno e benvenuti a tutti, vi ringrazio di essere qui, so che molti sono venuti anche da lontano e ci fa molto piacere. Sono qui per introdurre, non ci metterò tanto tempo, però anche per spiegarvi come mai siamo qui. Ringrazio la Scuola Normale e il Laboratorio di Documentazione Storico-Artistica coordinato da Ferretti con cui lavoro e gli informatici che hanno supportato il nostro lavoro e tutti i membri del gruppo Futurama, per cui ricordo soprattutto il coordinatore del nostro gruppo, Mattia che conoscete tutti, Mattia Patti e di questo gruppo ricordo quello che sta parlando in inglese sui auricolari, membro del nostro gruppo e che oggi fa da interprete, Austin Nevin. E poi ringrazio la Fondazione Livorno che oggi, non vedo ancora, però dovrebbe essere rappresentata da Giuseppe Argentieri, l'Opificio che lavora con noi e il MART, dove siamo andati a lavorare e torneremo, abbiamo avviato una collaborazione, eccolo, è arrivato, una collaborazione che speriamo fruttuosa. Dunque, l'idea del convegno, di organizzare un convegno sui materiali, materiali dell'atelier del pittore, ci è venuta quando ci siamo trovati di fronte a dei materiali molto ricchi dell'atelier di Grubisi Benvenuti, un pittore divisionista, un caso su cui si soffermerà Claudia Marchese e Ilaria Bonaduce, rappresentanti del nostro gruppo più avanti. Questo comunque è stato un momento, insieme agli studi negli archivi dell'Alefran, è stato un momento che appunto ci ha avvicinato al problema e al contesto della circolazione dei materiali tra fin de siècle e primi due decenni del Novecento, su cui si focalizza il nostro studio, la nostra ricerca. Il gruppo Futurama, che è un acronimo, come potete vedere, si è fortemente multidisciplinare e vede il convolgimento di competenze storico-artistiche, che è il caso dell'Università di Pisa e il mio caso, mi occupo appunto di fonti scritte e scientifico-tecniche, che è il CNR di Milano e di Perugia. Dunque, partendo da fonti testuali, come a tutti note, quelle più tradizionali, carteggi, tacquini, manuali, trattati, riviste, cataloghi di vendita, e dalla catalogazione, dalla studio di materiali d'atelier, quelli con cui ci siamo trovati a lavorare, il nostro gruppo sta conducendo un esame diretto anche di alcune opere, confrontate appunto con questi materiali. Nella Fondazione Livorno abbiamo potuto lavorare proprio perché i materiali sono accanto a una collezione ricca di opere dello stesso pittore. Opere divisioniste e futuriste, spiegherò appunto come mai Grubisi, che non è certo un futurista. Dunque, abbiamo un sito, anche che probabilmente avete già visitato, dove saranno visualizzabili le analisi condotte su alcuni case studies e c'è un viewer che permette appunto vari tipi, la visualizzazione delle immagini ad alta risoluzione e le diverse analisi condotte. Al momento, diciamo, questo è in fase abbastanza di sperimentazione, ma se volete andare a controllare, abbiamo per ora solo un'opera e sarà sempre più perfezionato. Ultima cosa appunto di self-promotion, vi annuncio appunto che c'è una mostra che si aprirà a settembre, il 22 settembre all'Esteric, che renderà conto delle analisi condotte sui dipinti proprio di quella collezione, dal nostro gruppo e sarà aperta fino a dicembre. Dunque, per parlare appunto dell'argomento della ricerca di oggi, vi vorrei citare delle parole di Giorgio De Chirico, che nell'articolo celeberrimo sul ritorno al mestiere su valori plastici, nel 19 diceva che in fatto di materia e di mestiere il futurismo ha dato alla pittura il colpo di grazia. Dichiarazioni di questo genere abbondano appunto negli scritti degli stessi protagonisti del futurismo e quasi un voler rinnegare lo strumento della propria pittura. Eppure sappiamo tutti che di tecnica e di materia si nutrono le stesse riflessioni teoriche dei padri del futurismo e si sostanziano come ovvio le loro opere. e scavare in questo terreno e eventualmente scardinare formulazioni teoriche legate a miti modernisti è uno degli obiettivi principali del progetto Futurama. Il focus cronologico sul primo ventennio del secolo permette di sviluppare una ricerca su un periodo in cui i problemi, le sperimentazioni sulla luce e sul colore erano già stati impostati dai divisionisti, un periodo molto ricco per la storia tecnica dell'arte. un tempo di radicali innovazioni, un tempo dell'introduzione di nuovi materiali per la pittura e un tempo in cui l'adozione di nuovi pigmenti sintetizzati industrialmente conviveva e la loro rapida emissione sul mercato conviveva con la contemporanea aderenza a pratiche e materiali tradizionali, artigianali spesso. Nello studio delle fonti, che è quello che mi riguarda più da vicino, si sta tentando la ricostruzione di un contesto di sostrato, un contesto di background, sulla formazione pratica di questi artisti futuristi, di artisti dei primi due decenni del secolo. è una ricostruzione dei discorsi, della circolazione del mercato dei materiali per la pittura e in questa ricostruzione includo sia le fonti testuali, appunto citate, le scritte degli artisti manuali coevi e la pubblicistica di settore, le riviste indirizzate agli artisti e le fonti archivistiche che non mancano e che documentano l'uso di questi materiali e di questi prodotti. e però si includono anche le fonti audiovisive, non lo so, le testimonianze fotografiche, rappresentazioni dell'atelier, interviste quando ci sono e fonti materiali o realia, quelle di cui ci occupiamo oggi appunto. e dunque questo è un tipo di distinzione che segue molto la formulazione fatta dal gruppo di lavoro dell'ICOM di cui Joyce Townsend fa parte sull'Art Technological Source Research, ci sono state già molte riflessioni su questo argomento. sono fonti, queste fonti materiali, ovviamente di difficile leggibilità e che impongono quindi quesiti metodologici e naturalmente questa ricerca sulle fonti sappiamo tutti che è complementare allo studio e all'analisi scientifica delle opere e può essere integrata in modo molto utile dalla ricostruzione di campioni di materiali. E' tutto a posto con l'inglese? Ok. Forse c'è bisogno di un altro... Ok. Sì, quindi così, come lo studio sui materiali dell'atelier Grubici Benvenuti, confluito tra l'altro in un volume appena uscito, fresco fresco, di stampa, e della ditta Lefranc, può essere considerato come un utile approfondimento, non una deviazione, questo vorrei chiarirlo, sottolinearlo, sulle basi della formazione tecnica del futurismo, perché il futurismo lombardo in un certo senso. Questa giornata è molto in questa linea di studi, di volontà di approfondimento, di intenzione di porsi dei quesiti più ampi, e quindi partendo da un arco cronologico come quello nostro, abbastanza ristretto, abbiamo aperto una finestra sul tema dell'atelier del pittore, ampliando la prospettiva cronologica e geografica, come vedete anche dagli interventi della giornata. Quindi una prospettiva più ampia che copre due secoli, l'Ottocento e il Novecento, per stimolare un dibattito più sulla metodologia che sul singolo caso studio, che può essere utile per confronto. Del resto la cronologia è abbastanza nota, è scandita dalle tappe determinate dalle scoperte scientifiche nella chimica dei colori, in questi due secoli e anche precedentemente scoperte nella fisica ottica, le conquiste tecnologiche e l'introduzione, come ho detto, di prodotti sul mercato. E inoltre per l'Ottocento, coperti da questo convegno, abbiamo i materiali, abbiamo la fortuna di conservare spesso i materiali negli studi o musealizzati a volte. Fin da questo periodo di cui ci occupiamo, il periodo della seconda rivoluzione industriale, si diffonde in Europa questa figura dell'artista scienziato, che è una figura molto interessante su cui c'è molto ancora da studiare e da indagare. È un tipo di artista che tenta nuove soluzioni tecniche, sperimenta molto, materiali antichi e nuovi. Tutto a posto? Piacerebbe che capissero tu. Ah, ok. Bene. Questa sperimentazione viene condotta naturalmente per dare nuove possibilità espressive in ambito pittorico. Le fonti fondamentali oggi per studiare questo periodo sono per la ricostruzione della storia dei pigmenti tra l'Ottocento e l'Ottocento, sono negli archivi di queste grandi aziende, pioniere nel mercato dei prodotti per belle arti, le più famose sono la Winsor & Newton, la Lefranc, che tutti abbiamo in mente e queste offrono fonti documentarie sia testuali, i manoscritti, le ricette, i cataloghi a stampa e anche reali, appunto materiali. E ci siamo resi conto di un fatto con il gruppo Futurama, di un fatto forse evidente, ma abbiamo riscontrato come lo studio delle tecniche pittoriche in questo periodo, in realtà sempre si può dire, non può limitarsi a una fase cronologica troppo circoscritta e non può riferirsi naturalmente a categorizzazioni e periodizzazioni che sono ormai superate, in particolare appunto per lo studio delle tecniche, anche quando gli artisti, questo tipo di artisti di cui facevo riferimento, si servono di fonti antiche, trattati, la cui conoscenza è sempre di più ampia divulgazione, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, sia di fonti antiche che di una manualistica moderna, dedicata agli scienziati e anche agli artisti dilettanti e anche agli decoratori. Artisti si servono di questi fonti e lavorano sia con materiali antichi, sia con materiali nuovi di produzione industriale, possono essere insoddisfatti da questi materiali, possono per la qualità povera, adulterata delle materie in commercio, oppure per gli esiti di omologazione prodotti dall'uso di materiali prodotti di fatto in modo seriale. E sono comunque talvolta artisti colti, molto informati, aggiornati, scrivono spesso, per i casi di visionisti ce ne sono molti, ce ne sono alcuni, scrivono spesso loro stessi dei trattati, degli scritti riflessivi o rielaborazioni di queste loro letture. autori tra l'altro sono gli stessi autori di nuovi brevetti, in seguito acquisiti e prodotti industrialmente dalle stesse ditte specializzate in materiali per belle arti. Quindi è un discorso molto complesso e che segue una linea di continuità molto da ricostruire, per questo appunto partire da un artista che apparentemente, almeno nelle sue dichiarazioni teoriche, si discosta proprio dal futurismo. Abbiamo voluto questa cosa, proprio per il ruolo importante, come vedrete dall'intervento dei miei colleghi successivamente, per il ruolo importante che ha avuto questa figura nella promozione, nella circolazione di materiali per tutti, non soltanto per certi determinati artisti di scuola o altro. molti musei di arte moderna e contemporanea, specie se dedicati a un singolo artista, oggi conservano l'ultima tavolozza, una cassetta di tubetti, insieme, se abbiamo fortuna, all'ultimo dipinto in cui l'artista ha tracciato delle pennellate. Spesso sono oggetti che sono musealizzati un po' come dei feticci o degli oggetti che servono per ricreare, evocare lo spazio di lavoro dell'artista. C'è un vuoto giuridico anche di fatto intorno a questi oggetti, non si sa bene come considerarli, se cimeli o quello che stanno diventando ora oggetti di studio, fonti appunto. e da questo punto di vista questo punto di vista sarebbe stato approfondito da Alessandra Donati, professoressa che studia molto questi aspetti e che oggi non poteva essere qui ma contribuirà al dibattito al momento della pubblicazione negli atti. Nell'ambito degli studi accademici storico-artistici è stato fatto molto e vorrei ripercorrere brevemente soprattutto attraverso le persone che sono presenti qui, la presentazione dei presenti qui, un po' lo stato degli atti su questi argomenti. Però muovendomi in un ordine geografico più che cronologico, come vedete invece il programma a un ordine cronologico. Dunque l'interesse si è concentrato in questi ultimi decenni nel reperire, nel raccogliere, nell'analizzare e talvolta anche nel mappare gli oggetti dell'atelier e nel confrontare questi risultati con le informazioni fornite dalle fonti, nel tracciare le vie dei prodotti disponibili sul mercato, ricostruire i percorsi, i prezzi e le pratiche mercantili. Quindi tutto questo implica competenze incrociate di storici dell'arte, storici dell'economia, conservatori, scienziati. E in area anglosassone, oltre alle ricerche note a tutti in ambito impressionista, per l'occasione delle mostre Art in the Making, curate da Bonford, agli studi della Cullen, è stato fatto molto, sappiamo anche, soprattutto per un periodo più relativo all'età moderna, c'è stato un convegno importante che si spinge fino al 1700, Trade in Artist Materials, e sono stati studiati per invece l'epoca più contemporanea gli archivi dei Colorman, e fino agli studi condotti dal Colton Institute sulla Windsor-Newton. Da questo sono nati database molto utili, e su cui si spera di costruire ancora molto, sono strumenti che ritengo veramente fondamentali. La nostra prima eratrice, Joyce Townsend, darà conto delle sue ricerche, ricerche analitiche sulle tecniche, le fonti documentarie, l'uso dei materiali di alcuni artisti dell'Ottocento inglese, e confrontando queste riflessioni, discutendo e mettendo anche in questione la loro attenzione alla conservazione dei materiali, appunto con un confronto con la pratica artistica e le opere. Nei Paesi Bassi pure c'è una grande attenzione a questo tema, è stato avviato uno studio, ad esempio, dell'archivio Blocks, la famiglia di mercanti di colori ad Anversa, in Francia ci sono dei contributi importanti, di Clotilde Rothmayer sui marchands de couleurs, oppure di Pascal Labrush sul mercato di tele a Parigi, fra 700 e 800, e anche qui c'è stata l'eroporazione di un database sui fornitori di materiali per artisti che ritengo molto utile. In area nordica ci sono gli studi sui materiali dell'atelier di Munch, che sono un caso veramente che merita una grande attenzione e di cui riferirà una delle nostre ireratrici, Biljana Topalova Casadiego, e ci parlerà della consapevole selezione di materiali operata da Munch in rapporto ai supporti, alle preparazioni e mettendo questo in rapporto a strategie di costruzione e di esecuzione delle opere. In area germanica ci sono studi molto vivi sul dibattito tecnologico, sull'aggiornamento tecnico degli artisti nel periodo fin del siècle, lo stesso periodo appunto di cui ci siamo occupati noi con Grubisi, e su un periodo in cui si è discusso molto e ci si è molto accapigliati sulle questioni della tecnica più perfetta e del materiale da usare, non senza interessi in un certo senso commerciali, forse, a quanto ho imparato, ho appreso da qualche interesse, ho appreso dal recente libro di Katrin Kinzer che è venuta oggi a parlarci appunto di controversie fra artisti e chimici nella Monaco tra fine ottocento e primi novecento, nell'ambito della società tedesca per la promozione di tecniche pittoriche e razionali, così si chiamava, un nome molto lungo e che già ci fa capire la complessità e l'elaborazione di questo problema che appunto risale ad allora e che ha una lunga tradizione. e sul fronte delle opere a Monaco c'è un lavoro eccellente del Donner Institute che ha combinato lo studio delle fonti con l'analisi delle opere ed elegante caratteristico chiedendosi e provando a complicare il discorso della tempera, non tempera anche con esperimenti di ricostruzione di campioni e di questo ci parlerà Patrick Dietermann evidenziando problematiche quindi che hanno risvegliato un'attenzione a livello internazionale infatti di tempera ci parleranno anche Simona Rinaldi e Francesca Izzo che percorreranno per noi alcune tappe della fabbricazione dei colori a tempera elaborate artigianalmente da Cesare Laurenti Mario De Maria oppure commercializzate da pittori come Mariano Fortuni Alfonso Muzzi e Gianni Maimeri in Italia le tecniche del divisionismo hanno dato occasione per studi e dato nuovo valore ai materiali reperiti negli studi degli artisti in particolare lo studio di Pellizza da Volpedo e aprendo a nuove prospettive e musealizzazioni più attente e a temi quali la distribuzione di materiali industriali in un'area come l'Italia di fatto abbastanza periferica a livello industriale rispetto all'Inghilterra senz'altro Aurora Scotti-Tosini ci parlerà di questo ci parlerà che del divisionismo è una delle studiosi più eminenti e che anni fa ha organizzato un convegno sullo spazio dell'atelier ci parlerà delle vicende dello studio di Giuseppe Pellizza da Volpedo rapportando i materiali in esso contenuti alle richieste di forniture presso rivenditori parigini, italiani e alle osservazioni sull'uso dei singoli pigmenti e alle analisi del sulfate sulle opere poi ci sono altri due casi divisionisti oggi proposti da Claudia Marchese insieme al gruppo Futurama sulle preparazioni dei dipinti di Vittore Grubici do Dragò in relazione ai materiali d'atelier e da Giuseppina Perusini e Enrica Appi e il loro gruppo e appunto entrambi sui tubetti a olio di Giuseppe Cominetti entrambi questi due ultimi casi presenteranno risultati preliminari di studi che in modo credo analogo sono stati contotti sia in modo parallelo sulle opere e sui materiali di analisi sui materiali che sulle opere e quando si parla di musealizzazione come si è detto per Pellizza è giusto fare un accenno agli studi anche sempre vivi sull'immagine dell'atelier dell'atelier Cenacolo e Bottega al luogo di affermazione ora qui io vi ho messo alcune immagini di Emporium una rivista che qui in normale c'è molto cara che risalenti appunto al primo decennio del secolo in cui si vede come l'atelier luogo queste sono fotografie ma in realtà si riferiscono a un'iconografia della rappresentazione dell'artista nel suo studio molto antica ecco quindi luogo di affermazione autorepresentazione dell'artista fino all'atelier come teatro di oggetti come prendo questo termine in realtà da un libro appena uscito molto recente di Bertrand Tillier su uno studio sull'atelier come immagine e ritratto dell'artista quello era uno studio sugli spazi a noi oggi in realtà del teatro di oggetti ci interessano gli oggetti soprattutto e questi studi sull'atelier e sull'immagine dell'atelier sono supportati da una pletora di fonti perché chiunque abbia letto un manuale per artisti vede come le descrizioni e raccomandazioni sulla disposizione dello spazio nell'atelier siano fornite in modo molto chiaro o centrati no questo ancora ora sulla mappatura dello spazio ora sull'esperienza della visione dell'artista e si coniugano a svariate esperienze moderne di recupero di allestimento e di musealizzazione e Marilena Pasquali Grazia De Cesare insieme a Paolo D'Azzurlo Romana Severini Margherita Capoc Margarita Cap ci parleranno da diversi punti di vista dello storico dell'arte del restauratore del testimone diretto e del curatore di esperienze importanti relative a Giorgio Morandi a Giacomo Balla a Gino Severini a Francis Bacon e quindi appunto parlando di questa immagine degli atelier e dello spazio anche di lavoro dell'artista per concludere qui sappiamo che quello che noi studiamo cioè la storia tecnica dell'arte è un terreno abbastanza nuovo e nel corso del secolo scorso sappiamo che nuove tecniche di analisi scientifica delle opere d'arte ha modificato radicalmente il nostro modo di considerare gli oggetti quindi è nuovo per noi storici dell'arte ma in realtà non è nuovissimo è con la disposizione di un numero crescente di strumenti di diagnostica gli storici dell'arte i conservatori e gli scienziati hanno sperimentato in tempi sempre più recenti il valore di una cooperazione e di una collaborazione interdisciplinare inizialmente si chiamavano Technical Studies a partire dalla metà degli anni 90 si chiama Technical Art History e comunque è un filone di studi che in un certo senso permette di superare questa visione di storia dell'arte come il regno dell'archivista o dell'iconografo che si serve solo di fonti scritte per leggere un quadro e quindi tutto questo si è legato a una nuova attenzione alla corporeità dell'oggetto alla misura alla scala fino al materiale grezzo eppure a partire dalla seconda contemporaneamente questo diciamo risveglio di interesse degli storici dell'arte a partire dalla seconda dopo guerra il dibattito accademico aveva visto in un primo momento il materiale come un problema irrisolto della storia dell'arte quando invece gli artisti si servivano del feticismo dell'oggetto del materiale per attaccare la forma attraverso di esso e qui vorrei semplicemente fare uno dei tanti esempi che si potrebbero fare qui c'è un'opera recente recente insomma della fine degli anni ottanta ma Daniel Spurri ha lavorato su questo tema fin dalla fine degli anni sessanta la tavolozza la tavolozza che è uno dei nostri dei materiali di cui ci occupiamo oggi è diventata per gli artisti oggetto dell'attenzione nel ruolo però di soggetto e non più come un attributo che era parte dell'autorepresentazione nell'atelier il pittore con la sua tavolozza e come come si vede da questa serie delle palettes d'artiste di Spurri i tavoli di lavoro degli artisti sono sono identificati con le loro tavolozze sono ribaltati e esposti in modo verticale come era la consietudine di quest'artista e il materiale rimpiazza la realtà dipinta e oggi ancora le tavolozze degli artisti del passato sono conservate nei musei e sono assemblate in sequenze fotografiche questa è una dalla serie di Mattias Schall da Smeisterstück che vorrei andare a vedere alla fondazione Cini a Venezia perché espone in questo momento a Venezia e interpreta anche questo lo strumento del lavoro dell'artista un po' come il suo ritratto accostando gigantografie di tavolozze dei grandi della pittura moderna da Turner a Kandinsky e quindi la tavolozza di fatto che è un tema molto che ha risvegliato presente nella trattatistica ha risvegliato discussioni interminabili sulla disposizione dei colori in tutti i manuali Wiberg che è una figura interessante di artista scienziato chimico e pittore appunto su cui si sono soffermati i nostri studi sui prodotti Lefra in particolare Wiberg stesso menziona una collezione di tavolozze di artisti presente all'Uvr come una grande lezione per i giovani artisti e quindi il rapporto stesso dell'artista con la sua tavolozza vorrei citarvi una frase di Kandinsky che parla appunto delle sensazioni di piacere dell'occhio che è titillato come il palato da un piatto molto speziato e da questo dei per i colori disposti sulla tavolozza e lascia intendere quindi il ruolo fondamentale che ha assunto questo che non è più semplicemente uno strumento appunto per l'artista ma che sembra a volte sostituire quasi il quadro stesso bene allora vorrei lasciare spazio agli altri soprattutto agli interventi della giornata e vi chiederei di parlare 20-25 minuti in modo da avere in fondo visto che abbiamo iniziato già un pochino abbastanza in ritardo avere un pochino di tempo alla fine della mattinata per una discussione e poi magari alla fine del del pomeriggio oppure dunque quindi io lascio la parola a Joyce Townsend dimenticavo Joyce Townsend Senior Conservation Scientist alla Tate ha studiato da sempre materiali d'artista e siamo molto contenti di averla qui perché appunto ci offre un risultato di studi veramente decennali e si è riferita soprattutto al studiato per l'ambito dell'ottocento inglese e specialmente su Tarnal bene bene prego good morning can you all hear me yes I will be speaking in inglese next slide ok 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 I chose to talk about British artists from the 19th and into the early 20th century and what they said or what they didn't say about their materials and the permanence of their materials there are not that many good sources of information in the 19th century not from the artists writings one very good source is the diary of Ford Maddox Brown he was a pre-Raphaelite painter not as well known as some but most of the information which is really useful from the point of view of conservation and materials research if this is one's area of interest are from the later 20th century and up to the present almost beginning with the book by Leslie Carlyle the artist's assistant which is comparing all the what was written about materials at the time including many different editions of the same author and what they said later but not first and research by the artist's descendants particularly if they're actually art historians or conservators or restorers is particularly interesting and so is technical studies but really there is not a great deal of information to go on there are plenty limited sources of information now can you read these slides or would it be better if we could close these curtains to get a little less light on the screen I think it might be is that going to help at all yes okay because I can see it is going to be very hard for you to see them isn't it you can see from here that's good okay right so one of the good sources of information although it still is limited is the diary of Joseph Farrington he was a member of the Royal Academy he knew all the artists of his day and he wrote a diary from 1788 to 1921 he mentioned many conversations with artists but not much about materials or what he said was very much written for himself because he knew exactly what he meant he was not thinking that others would read the diary in the future so he would say something like Benjamin West said McGilp will stand as well as anything that means this material called McGilp will last as well as anything else is going to do and and he mentioned Joshua Reynolds he said he used McGilp now McGilp is mastic varnish and drying oil and this is a term that was kept coming up and was regularly used and he found that this did not answer meaning it didn't work for in a few months it was sure to become yellow or brown and was obliged to be taken off so he is a useful source for finding out which artists were not using conventional materials but there is no detail John Ruskin wrote many books even modern painters is five volumes and there is virtually no information on materials in there the same with the collected correspondence of artists and their diaries other manifestos other memoirs written by others so even exhibition catalogues and biographies don't say a lot the problems began with Sir Joshua Reynolds who was very highly regarded and so successful a painter that for two generations afterwards people tried to produce paintings that looked like his and they knew that he experimented a lot with materials he experimented constantly and no two paintings are alike for example that portrait on the left is in Tate's collection and was easy to restore in an American collection at the Huntington Art Gallery is a similar one it looks similar it's painted in a completely different way and is almost impossible to restore the materials are quite different for the central painting Lord Ligonier it was treated at Tate and that was so easy that we think it was painted by his assistants and not by Reynolds and on on the right you see the most difficult one of all the one we cannot restore painted in beeswax and resin not oil and would be impossible to clean with any conventional treatment which we can now do so Reynolds although he experimented and experimented even in important commissions would not teach the worst of his methods he would only teach conventional painting methods to his students which is interesting he didn't document his methods for any painting and at times he would destroy significant paintings by others to to see how they had created them now this is one of Reynolds' experimental canvases when he died there were eight and one has survived he wrote his notes in Italian interestingly on them and he was obviously trying out different materials adding wax adding other things so this is an illustration of some of the materials he might have used but no clues to where his paintings today are in very poor condition and if you look at the x-ray of the age of innocence which was recently restored at Tate you will see huge losses of paint can you see the no you are not seeing the pointer to the right of the little girl these dark areas are huge losses of paint very characteristic of his work and there is also darkening of most of the landscape areas the trees above her head and often surface defects too now one of the artists who tried to emulate Reynolds was John Opie and of all the artists in our collection his paint surfaces look most like Reynolds and the cross sections and the samples look most like Reynolds in fact they're indistinguishable equally complicated and when he was asked what he painted with he said brains meaning he used his head the intellectual concept was more important than the materials and this is an attitude which would persist through most of the 19th century Farrington in his diary was writing about many people whom he described as the process painters of whom Benjamin West is a good example but not in my collection so I have never examined one they tried to avoid using oil paint many of them invented their own process this was what they were discussing with one another and with Farrington they borrowed ideas from each other they borrowed ideas from the ancients based on archaeological discoveries then going on and being published and also from contemporary fraudsters who would say they were selling a wonderful new material a lot of them were working like that and I chose two examples by one is by Henry Thompson and when it was being restored it is really worked out in a kind of grisaille and then there is glazing on top for the colours it was exceptionally easy to retouch and to infill conservators said because really the way you restore a painting with a glaze like material is very similar to the way it was painted in the first place and below you can see a work by Henry Perrinet Briggs which in fact has tremendous drying cracks and darkening and is more typical of the surface you see of Reynolds the cross sections are also quite like Reynolds but not quite as complicated William Blake was an artist who took the use of unusual paints to an even greater extreme he didn't like oil paint he said he never used it he invented a painting process which he called fresco nothing to do with fresco as understood in Italy in fact it was a tempura based method none of his large paintings survive the ones you are seeing here at the top which is in poor condition is actually a very small painting and I mean small and it's painted on steel and is very much darkened he developed his own paint medium and it was based on gums a mixture of gum tragicanth gum arabic and sugar he used a narrow range of pigments but he never wrote about his materials and the ghost of a flea the illustration on the bottom is one of the better preserved of his tempura works it still is very dark compared to the original now John Constable was a very late adopter of new materials he painted more conventionally he often did reuse and paint over his works and he applied his own primings but he didn't use very experimental materials his paint is mostly oil based he used a very traditional process of developing a sketch and a small oil study and a full scale oil study and then the full scale painting and the surface is unconventional but in general they are in very good condition compared to his contemporaries both sketches such as the one you see at the top and paintings many of which are large now I have spent a lot of time studying the works of Turner whose paintings are regarded as being in very bad condition after Reynolds he is the most difficult person to restore paintings so he often used a homemade priming he used pigments normally for watercolour in oil painting and he was a very early adopter of new materials I sometimes keep account of who used a newly invented colour first and always it was Turner he used pigments and combinations that were thought to change and lose colour he wouldn't listen to advice from artists colourmen and he was even asked by some of his clients and he was a very successful artist to repaint the damage he would always refuse he neglected his paintings his library at the time of his death included books from the 18th century he did however talk to scientists and to the inventors of the day but it doesn't seem to have influenced his attitude towards permanence which was that you should paint for immediate effect and not be concerned about the future so the paintings which are unfinished today as at the top are in good condition his very last painting I'm showing at the bottom is in bad condition and I have some details now of these this is from top painting in good condition Turner was a great user of McGilp because it modifies the texture of the paint you can make this kind of light soft impasto which you see in details or you can use it for glazing as on the left and it is a very desirable material to use when you make the recipe you want to paint with it you can see exactly why they did but but used too thickly or too much or over other paint you get results like this on the left is a detail of a corner and the others are very close details of cracks and this looks really like many of the paintings by Reynolds today so this is the issue faced by conservators that they are often some components are highly soluble and it is a very disrupted surface the cracks really affect the appearance by the middle of the 19th century the pre Raphelites were rejecting Sir Joshua Reynolds they wanted to paint in a new and more colourful way it was slow and it was labour intensive and they wrote in great detail to one another about how to apply the paint they believed in painting before the subject if it was an outdoor subject as here they would go outdoors if there was moonlight they would paint by night and they did use newly invented materials particularly for the priming this is an early example here for strayed sheep the whole of the sky has got a local priming of zinc white very new material and the whole of the sky has got a lot of cracks which continued to be a problem with this material and they also used new paint media but with greater success they appreciated that some of these materials took many days to dry and they would build this into their painting method so they worked in small areas more in the manner of fresco and didn't come back to the area until it was well dried some days later and and their paintings and in perfect condition sometimes they did rework but they disguised it very well they looked like the first examples for decades of well well preserved British paintings as they grew older the pre raphaelite brothers worked together less and they developed their own style and Miele in particular discarded all the methods he began to paint much more rapidly he used varnish between the layers of paint which was particularly noticeable in the centre image there of hearts or trumps the dark area to the right behind the three women was a very challenging area to clean very soluble whereas there are no such issues with the real early pre raphaelite painting Ophelia at the moment the northwest passage is in the studio and it's being cleaned it has varnished into layers it has surface problems and the artist even dissatisfied with the top right hand quarter of the painting cut it out and lined in another piece of canvas so he would make very radical changes to the paintings he said of Ophelia when it was pointed out that the colour had changed it's true some of the foliage has gone quite blue you can see it behind her in the water but he said I could put it right in half an hour if the owner would let me so this was the owner I don't think did he also said that artists should paint for the ephemeral taste of the day he didn't believe that permanence should be a concern now William Holman Hunt on the other hand was very conscious that he was the grand old man and he was setting an example he saw himself as the awakening conscience of British art and he saw artists as innocents who were being ill served by the colour men who were providing bad materials and lack of information for them so Hunt in the course of a very long life he made paint samples he painted out examples of all the paint which he used regularly in about 1860 he reviewed them after 20 years he made his own paint medium and when he saw how much these paints had changed over 20 years he reported the failures to the colour men he wrote endless letters to his colour men he wrote letters to the times he gave very long lectures to artists he shared his information in a way that would please all of us involved with conservation and it was written of him Hunt writes no end letters it seems being of opinion that it is more needful than painting to an artist this was said even when he was young and he said to won't I come down like a thunderbolt on the trade if I prove right and then he did a similar artist with a similar attitude was George Frederick Watts who was a contemporary of Hunt he would work for up to 20 or 30 years on a single canvas and he wanted to convey Solomon religious concepts he was very conscious too that he was setting an example and he asked Colorman about the stability of the materials he tried to soak out the oil because he thought that oil was the problem in oil paint he even asked Colorman not to sell him materials that were unstable even if he asked for them his paintings today are very matte in appearance they have tended to sink in he probably did create contrast between gloss and matte by the careful use of varnish but because he was so concerned not to have much oil in his paint they are today very matte and hard to read and it's also difficult to decide how they should be varnished and how he might have intended them to look in detail but they are the only two artists who had a really great concern with the permanence of their materials Whistler for example didn't he did create his own medium modifier which he called a source because he wanted very liquid paint you can see in the example there that he used very long brush strokes and he developed methods using subtle and thin layers of colour such that the colour of the ground often a grey or a greyish brown would have a tremendous optical effect on the painting for the nocturnes it's a very successful method but as well as doing this he also rubbed out and rubbed down the areas of the painting he didn't like he would rub down until there was a lot of bare canvas so there are many examples which where the painting itself and the canvas is now full of varnish and lining adhesive and virtually impossible to treat because these materials are yellow and they're forming part of the structure of the painting so that in the fire wheel which you see at the bottom it is very hard to see anything it is a night scene but a night scene with carefully designed lights and lighting the effect of which is completely lost today my most recent study has been of John Singer Sargent an artist who like most of the others didn't comment on the permanence of his materials but he did always choose very high quality materials and he always used the same quite wide range of materials but he may he didn't write at all about them his own correspondence is not preserved so we don't know if it was a choice not to use the less permanent materials of the day he did use diluent turpentine and he used commercial McGill but no special recipes of his own he would rework areas and that gives local problems of minor cracking on the paintings but in general they are in good condition and he used very thin varnish throughout his life as a choice and we have in the course of this study we have found two or three paintings of which this is one which have still the original varnish and no later varnishes so that is close in appearance to his intention we know he used McGill because a paint box and two pallets in private hands were lent for the study and there are actual tubes of McGill the box it appears dates from about 1884 1886 we know this because of the labels and the style of the typeface on the labels and it makes it contemporary with some of the key paintings including the one I have just shown the box went out of use because someone spilt oil into it it's a travelling box and one of the key paintings of this decade was painted in a town called Cheltenham the labels indicate many of the tubes came from Cheltenham possibly the oil was spilt travelling back to London and so the box was preserved so are there really any trends in the way artists thought about permanence or the way they painted for permanence the knowledge of permanent colours and pigments was very poor before the mid-19th century in many ways Turner was right not to be concerned because there was no good advice to follow within his lifetime colourmen did improve their knowledge and manufacturing methods a lot from the mid-19th century to the 18th century they began to know more than artists in Britain sometimes they replaced historic materials with better ones and kept the historic name so artists would not really know what they were getting anyway but the colourmen did engage a lot with the artists who asked questions and who wanted permanent materials and they would make special recipes for them the biggest trend that I can see from this really is that the artists who had a very long life and who lived to see the paintings change and deteriorate were the ones who worried the most and the only ones who experimented at all and really tried to make things better independent scientists were more concerned than artists from the mid 19th century at least in Britain and one of the very key publications was by Russell and Abney it was called the action of light on watercolors from 1888 but it was really bringing to the awareness of artists and of museums fading and colour change but when it came to the early 20th century there were really no further improvements in knowledge at all some early 20th century artists used exactly what was provided by the colour men for example the Camden town group who were active from the late 19th century into the 1920s and you see an example they painted very directly with tube paint and their paintings are in good condition there were some artists who read original sources particularly Cianino Cianini a Libra dell'arte they read them very carefully and then they invented their own medium they didn't follow his methods there were very few artists using the true tempera in the early 20th century in Britain but there were many artists who wrote that they were using tempera by which they seemed to mean anything which was not pure oil tube paint so rather like William they could mean whatever they wanted it to mean and the center of experimentation moved from London to Paris experimental artists such as Picasso were based always in Paris not London and they were adopting house paints and new materials and found materials my last example includes wood which was already painted and textile and other things and then he applied paint and this is the way that experimentation would go for many European artists but not for the British ones they seem to have worked more in tempera based materials which have yet to be investigated in detail because again they didn't write very much there are not many clues as to who was using it and it's an area that could have more research applied to it because these works are getting to an age where now treatment might be necessary for some of these paintings we would not line them but in many museums they would and we don't know if they're actual oil based paintings are more complicated so it is not really a growing awareness in answer to my question were artists concerned about the durability of materials I have to say by and large no not in Britain anyway thank you now parla Aurora Scotti Tosini che appunto ho già nominato come studiosa di divisionismo professoressa all'università statale di Milano poi al Politecnico di Torino e al Politecnico di Milano e si è occupata di storia dell'architettura ma soprattutto di divisionismo da proprio da fin dagli anni dalla mostra del 70 a Milano ecco da quell'epoca lì non sto a citare tutte le pubblicazioni ma in riferimento a Pellizza di cui si parlerà oggi di lui ha curato il catalogo ragionato naturalmente i convegni e la mostra e il convegno sullo spazio dell'atelier è un convegno importante anche sui colori dei divisionisti e le tecniche dei divisionisti allora buongiorno e grazie la presente relazione si propone di contribuire a sistematizzare la ricca dotazione dello studio di Pellizza da Volpedo tirando le fila delle diverse iniziative di studio incominciate nel 2000 con Paolo Bensi e proseguite negli ultimi dieci anni anche per impulso appunto del convegno sul colore del 2005 con le analisi di Terri del Giuseppe Laquale e Gianluigi Poldi e i successivi sviluppi dal 2005 in avanti condotti con gli stessi collaboratori per i divisionisti del gruppo che per comodità chiamiamo Lombardo dal luogo Milano in cui esposero e discussero le loro esperienze soprattutto sotto leggi da di Vittore Grubici Bellizza era il più giovane Segantini era nato nel 58 Morbelli era nato nel 53 1800 naturalmente Previatti nel 52 Longoni nel 50 Pellizza invece nel 68 quindi era di circa 10-15 anni più giovane e di conseguenza aveva avuto anche un'itee di formazione diverso nei confronti degli altri divisionisti diverso anche nei confronti degli sviluppi della tecnica e della produzione di vernici e colori questo spiega ad esempio nonostante le affinità su molti aspetti della ricerca pittorica l'assoluta assenza nei manoscritti di Pellizza di riflessioni sui pigmenti sulla traccia di antichi trattati sul tipo delle annotazioni di Morbelli probabilmente della fine degli anni 80 studiate da Paolo Plebani appunto nel 2005 considerazioni assai più problematiche e più inquietanti cioè veramente di ricerca su che cosa si può fare su come si può giungere ad arrivare a colori stabili quindi molto più riflessive di quanto non fossero poi i pensieri stesi da Morbelli in vecchiaia nella sua via crucis del divisionismo in Pellizza non era assente la volontà di documentarsi come aveva fatto anche Morbelli su alcune tecniche antiche dall'incausto ai procedimenti che avevano portato all'uso della pittura d'olio ma queste problematiche erano state da lui affrontate quando già aveva incominciato ad applicarsi alla tecnica divisionista tra l'altro tanto l'anziclopedia di Roet il volume sui colorist del 1856 di Parigi quanto il libro dell'arte di Cennino Cennini i vari precetti della pittura dell'Armenini per citare solo opere comuni anche alle prime ricerche di Morbelli furono acquistate da Pellizza solo nel 1893 il che non significa che non potesse avere una conoscenza precedente nelle biblioteche accademiche ma segnala comunque che la sua volontà di documentazione approfondita è legata ad un periodo in cui il pittore aveva già una notevole perdonanza della sua tecnica e si poneva problemi solo di approfondimento storico le pagine per esempio che sono state più lette nel volume di Cennini furono quelle relative alla natura dei colori e ai modi di fare con stabilità una fresco cosa che Pellizza poi non ha pressoché mai praticato se non quello di dipingere le pareti del suo studio che vedete quindi in questa diapositiva l'approfondimento per tutti i divisionisti come noto avvenne passando anche dalla lettura dei manuali di Luigi Bellotti del 1886 alla conoscenza del testo sulle teorie scientifiche del colore di Ogena Rood e con estremo rigore Pellizza oltre ad acquistare questi testi acquistò poi ma più tardi a fine secolo il volume Le principe scientifique de Boussard di Bruch ed Helmholtz nella versione francese lui l'aveva acquistato devo dire che gli appunti sul libro rivelano ormai una fase superiore rispetto a quanto sostenuto nel testo e quindi dice che era inadeguato a spiegare quelle che erano i raggiungimenti degli artisti di fine ottocento comunque l'attività di Pellizza era incominciata quando la produzione di colore in tubetto era abbastanza avanzata soprattutto in Francia Inghilterra e in Germania con un mercato in espansione anche in Italia ci si stava avviando ad una sempre più articolata importazione e commercializzazione di questi prodotti internazionali l'assenza di riflessioni critiche da parte di Pellizza non rivela un'assenza di interrogazioni si trattava di un processo di formazione che Pellizza compì da giovanissimo in autonomia dentro e fuori l'accademia e che non ha lasciato precise tracce scritte lo si forse solo ipotizzare sulla base degli scarsi appunti su acquisti di colore o con l'attenta osservazione delle opere giovanili qui vedete rappresentato lo studio in cui il pittore ha lavorato è ricchissimo in questa immagine perché ci sono le tele presentate in occasione di una mostra sull'attività del pittore giovane qualche anno fa quello che invece vedete alle pareti è la dotazione stabile dello studio e ha alcuni dipinti della prima dei primi anni diciamo del pittore quindi bisogna ricavarla dall'osservazione delle opere giovanili che però dovrebbe essere accompagnata da una campagna di analisi parallela a quelle effettuate sulle opere divisioniste e che finora non abbiamo ancora potuto realizzare un punto fondamentale comunque da cui partire per approfondire la posizione di Pellizza è la presenza nello studio di Volpedo di una tavoletta in legno quindi una tavoletta in legno con una serie di prove di colore che il pittore eseguì e datò scrivendo sul retro 14 luglio 1892 si trattava di una prima prova di colori Lefranc acquistate dal droghiere Badino con negozio Genova negli allora portici Vittorio Emanuele XII vicino al porto a cui l'aveva indirizzato non un collega Lombardo ma l'amico Plinio Novellini la lunga lista di tubetti ordinati da Pellizza a Badino segnala la volontà di ampliare la propria tavolozza non è casuale che nelle biblioteche di Pellizza si sia conservato contrariamente a quanto avevo sostenuto in un altro articolo anche il catalogo della Lefranca nell'edizione per l'Italia del 1891 che reca in copertina l'appunto di Pellizza con l'indirizzo del rivenditore genovese per cercare ulteriore informazioni sulla prima fase della formazione pelliziana ho quindi ritenuto opportuno ripercorrere le note manoscritte alla ricerca di indizi e dati certi scorrendo quindi gli appunti e minutari delle lettere nel periodo dell'educazione accademica i riferimenti ai pigmenti e gli strumenti di lavoro sono molto generici nei primi anni troviamo soprattutto note di acquisto di carta per disegni da farsi per disegni da farsi in Accademia lo vedete in quei due disegni che compariono sulla sinistra e si tratta di carta reale carta canson cartoncino per pittura carta grigia e con l'acquisto di vari lapis marca Faber carboncini di marca Contè con qualche acquisto anche di color nocciola più sporadici e indefiniti sono gli acquisti di pennelli e colori nel marzo del 1885 è ad esempio documentato l'acquisto imprecisato di 21 colori unitamente a vernice mastice e a sei pezzi di tela a gesso quindi questo segnala l'indirizzarsi del pittore verso l'esercizio della pittura al di fuori dell'ambiente accademico dove frequentava solo le classi di disegno per gli studenti dell'Accademia poteva essere comodo l'acquisto di materiali di lavoro da Caccaterra un antico negozio di colori non lontano da Brera e possiamo rilevare anche la nota sulla copertina di un tacuino del 1885 a Caccaterra si compra più bene altra bottega quindi che fa supporre il passaggio a Caccaterra dopo aver provato altri fornitori negli appunti del 1886 troviamo l'acquisto di pennelli ma anche di colore bianco colore giallolino e lacca bruna l'acquisto di biacca e giallolino è ripetuta qualche volta anche un pochino più avanti accompagnato dall'acquisto di pennelli palizzi acquaraggia e di tela grossa le riflessioni sulla pittura si fanno più intense nel 1887 quando il giovane dopo poco più di un anno passato alla scuola di Pio San Quirico si era impratichito nel ritratto e dice nella testa di Esther predomina sempre il rosso giallo mancano sempre mezzettinte sulle spalle per farle girare devo comprare pennelli lunghi e grossi che abbiano poco pelo quindi noi vediamo che si si riesce genericamente a pigmenti a tinte bianco giallolino rosso senza ulteriori specificazioni nel 1888 però troviamo la prima menzione di un rifornimento più corposo di colori da Carcaterra e la gamma si amplia pur non avendo ancora indicazioni precise di marca dei colori Carcaterra rivendeva colori anche inglesi e tedeschi oltre a fabbricare qualcosa lui stesso e del resto il rifornimento di materiali inglesi come la vernice Robertson Medium citata da Morbelli che peraltro sperimentava vernici e costruzione di vernici e pigmenti improprio quindi anche il Robertson Medium probabilmente veniva dallo stesso rivenditore bellizza ordina a Carcaterra sei pani di biacca plaster un tubo grande di biacca zinco due tubi giallo grande sopraffino due tubi blu oltremare due tubi cobalto scuro un blu cobalto chiaro un verde cobalto un terra di siena bruciata due rosso di Saturno un cadmio numero 4 una terra verde una lacca marrone e un giallo brillante e una lacca scarlatta quindi una scelta molto ampia che presenta i colori nuovi di produzione industriale con una nomenclatura quindi con un nome ben preciso cosa che non aveva mai fatto prima adeguata alla volontà di cominciare a cimentarsi nel ritratto ma anche nel paesaggio non credo sia casuale che questo elenco sia dell'88 perché che agli inizi dell'88 Pellizza aveva compiuto un periodo di formazione presso fattori e fattori da quanto ricaviamo appunto dagli studi di Favaro Vigata eccetera recentemente usava come probabilmente gli altri macchiaioli una serie di colori in tubetto quindi di diverse gradazioni e quindi probabilmente questa fase della sua formazione lo rende più sensibile e più attento a individuare quindi l'articolazione complessa dei pigmenti e la loro vendita in tubetti l'acquisto di tele e gessi è già documentato anche a novembre e dicembre dell'88 probabilmente dopo l'arrivo a Bergamo alla scuola di Tallone è probabile che a Bergamo Pellizza trovasse altri rivenditori da cui fare acquisti di teli colori e pennelli nel febbraio dell'89 troviamo infatti segnalato per esempio l'acquista di colori Lecler forse Lecler la casa fondata nel 1858 e con filiale italiana Ponte Chiasso dall'89 e che probabilmente era stata anche veicolata diciamo via Francia che la chiamavano la ditta Lecler poi con pennelli e due tubi di biacca di gaffuri probabilmente era un divenditore bergamasco di cui non abbiamo notizie non sappiamo se Pellizza avesse avuto problemi con questi colori però nell'89 torna a rifornirsi da Calcaterra nell'89 e 90 i vari acquisti sono da porre relazione all'avvio di opere di più grande scala fra cui i ritratti dei genitori questa scusate questa è la piazza di Volpedo un dipinto eseguito nell'88 dopo il ritorno dal periodo di frequenza dello studio di fattori in cui l'impianto della costruzione del dipinto rivela la conoscenza del prassimo a Chiaiola e quindi anche i colori usati per la tela probabilmente risentono di quella esperienza nel momento successivo invece fa i ritratti dei genitori e Pellizza rimarca nel gennaio del 1890 viene incominciato nell'89 e finito nel 90 questo ritratto di aver fatto la barba e il colletto del ritratto del padre modellando prima con le dita quindi come molte volte succedeva modellando con le dita e poi finendo col pennello per caratterizzare i peli della barba nel 1889 acquista spatole piccole pennelli colori biacca in pani e colori da macinarsi quindi l'appunto è proprio questo colori da macinarsi per questo vi faccio vedere una serie di questi ritratti giovanili sono tre in sequenza il primo fatto a Firenze con fattori il secondo a Bergamo con tallone nel periodo bergamasco con tallone il terzo è il ritratto della madre che fa da pandan al ritratto del padre ecco acquista in macina colori che ancora oggi si conserva a volpedo e che recca tracce evidenti di un uso prolungato soprattutto con pigmenti verdi ancora nello stesso anno Pelliz acquista pennelli con setole di media grossezza verde e blu di cinabro mastice e poi ancora biacca plaster vernice mastice terra gialla chiaro terra di siena asfalto verde cinabro verde schweinfurt cadmium saturno nero avorio questo è un altro ritratto pelliziano ecco qui vediamo per esempio quello che vi dico fra poco l'assenza di marca per quasi tutti i prodotti non impedisce di ipotizzare l'acquisto da calcaterra con prodotti della ditta schonfell di düsseldorf per il verde schweinfurt per esempio o per il rosso saturno della crueil o di altri produttori come il verde veronese che qui vedete conservato nello studio e prodotto da una imprecisata fabbrica torinese contemporaneamente il giovane si fa realizzare anche una tavolozza probabilmente la tavolozza grande conservata nello studio che è simile a quella grande usata in studio da Cesare Tallone l'arricchirsi della gamma cromatica non spiega da sola le cromie delle opere giovanili di Pellizza perché come è stato osservato nelle analisi dell'Opificio di Firenze sulla spannocchiatura mi dispiace che non ho l'immagine un piccolo dipinto eseguito attorno al 91 i risultati mettono in evidenza la complessità della miscela di composti per ogni singolo colore caratterizzato quindi da più pigmenti e dall'aggiunta di addizionanti e stabilizzanti per esempio i pigmenti blu dominati commercialmente come blu oltremare sono risultati in quello specifico dipinto contenere sia vero e proprio oltremare sia piccole quantità di blu di cobalto e di ematite come hanno pubblicato appunto nel 2006 una complessità che è stata riscontrata anche per dipinti successivi della fase divisionista dalle analisi di Bensi e della sua equipa la presenza nei citati appunti di acquisti di colori anche di lacca conferma il precoce uso di questo elemento uso confermato anche con molta evidenza appunto nei ritratti dei genitori che avete visto nel 1890 Pellizza incomincia a ritenere essenziale preparare l'impianto del quadro studiando stendendo piazze di colore quindi dagli stati preparatori colorati su cui può intervenire con strati pittorici superiori cercando di rendersi conto anche del rapporto tra queste parti sottostanti e le stesure di superfici essenziali per ottenere effetti di trasparenza e luminosità nel 1890 nota le assicelle su cui faccio gli studi di cielo le preparo con la biacca pura proverò a mescolare alla biacca un po' di giallolino e nel 91 dice ore e tre e mezza circa del pomeriggio faccio la prova su un lembo di blu sereno sopra la collina di poggio di casinasco ho messo quattro diverse pennellate la prima composta da biacca più cadmio numero 2 e da cobalto più la seconda composta da biacca ceruleo cobalto numero 2 da biacca cadmio numero 2 cobalto blu olio di lino e acqua ragia la terza pennellata composta da biacca ocra gialla numero 2 e cobalto la quarta pennellata il numero 3 cioè la stessa del precedente più olio acqua ragia in proporzioni uguali la mescolanza quindi di bianco giallo e blu per saggiare la resa della luminosità con interesse per la stabilità e l'alterazione dei colori trova d'altronde riscontro nel marzo del 1892 segno di una riflessione che ormai andava in direzione di una pittura di luce e di un'attenzione per le alterazioni dei pigmenti con risultati negativi sulla percezione dei valori luminosi infatti il 7 marzo per l'izzanota avevo il cielo il quadro è questo avevo il cielo del quadro Prato Cassanini da ritoccare ho imitato il colore del cielo sereno e delle ombre delle nubi adoperando per il poco giallo che occorre del giallo di cadmio numero 2 con un po' di olio di noce e acqua ragia identico stamane di colore a quel sotto fatto un anno prima lo trovo ora dopo 4 ore soltanto ingiallito immessamente il mio studio è riscaldato a carbon coq misto a legno non vi è fumo il calore sarà a 8 gradi circa fuori vento freddissimo ora il perché dell'ingiallimento repertino è l'olio ovvero il giallo cadmium ovvero il calore farò esperimento quindi dà idea delle sue complesse riflessioni ancora nel maggio del 1892 dice ho copiato un effetto di sole con nubi prima ho messo il tono e colore generale del cielo sereno preoccupandomi fosse in relazione col massimo chiaro della più chiara nube poi ho fatto la massa delle nubi per il cielo sereno ho adoperato biacca blu oltremare e oltremare verde proverò poi col cobalto se mi verrà più trasparente quindi questi esercizi erano congeniali proprio allo schiarimento della tavolozza nel momento in cui stava eseguendo uno dei primi quadri en plein air di grandi dimensioni è quello che vedete a sinistra che si intitola Mammine con una ricerca di luce e trasparenza nei colori affidate ad una tecnica ancora basata sull'uso delle velature perché proprio per Mammine Pellizza parla di come si fanno le velature e poco dopo delle prime sperimentazioni divisioniste frutto delle discussioni genovesi con Nomellini e di Nomellini è il dipinto fienaiolo dell'89 che vedete e la prima prova divisionista è il pennello del ponte sul corone quindi questo piccolo abbozzo in cui Pellizza appunto prova a usare la tecnica puntinata e in un certo senso riduce la gamma proprio a dei colori essenziali cioè al giallo al verde al blu però con tocchi di arancio con tocchi di rosso quindi con una puntinatura sottile purtroppo questo l'ho ritrovato solo pochi anni fa è di un privato quindi di analisi su questo non sono riuscita a farne e non so aiutarmi a individuare i pigmenti però il 93 quindi l'anno successivo è lo stesso anno in cui sono documentate le già citate liste di colori ordinate a badino che vi avevo letto in prima battuta precisando in questo caso però di volere colori le franca e come abbiamo visto si trattava di un ampio spettro di gialli verdi blu e lacche troviamo infatti a scadenza ravvicinata due minute di lettere con richiesta di bianco di zinco bianco di argento e bianco di piombo bianco di zinco blu cobalto verde cromo ocra gialla terra Italia naturale oltre a essenza di petrolio premessa per una più dettagliata e corposa ordinazione su cui già mi sono soffermata nel 2005 ma che forse si può risintetizzare facendovi vedere anche appunto alcuni di questi tubetti infatti bianco di zinco bianco piombo blu cobalto e bruno di irlanda poi c'è un brun rouge un carmè de garance un giallo cadrim citron e poi un citron moyenne fransè un giallo indiano un giallo peruviano lacca file di garance lacca garance moyenne fransè giallo carmè de garance per un totale di 46 e 80 lire seguono poi ocra gialla ocra d'oro ocra trasparente quindi qui vedete le varie l'ocra gialla e l'ocra trasparente gli ultimi due ocra rouge ocra de roux che c'era nel catalogo Lefranc oltre mare extra quindi un altro elenco riprende poi appunto alcun altro di questi colori aumentando il numero delle lacche e specificando blu cobalto blu oltremare verde di cobalto verde sberaldo ma anche violetto e violetto di mar quindi ampliando a questa pigmento che è particolarmente intrigante nelle pitture dell'ottocento pellizza arriverà poi anche a chiedere direttamente alle franche a Parigi delle tele alla caseina anagolo e quelle ordinate da segantini quindi la sperimentazione su questi nuovi colori viene portata avanti qui intanto finisce ecco viene portata avanti nei due quadri di sul fienile e poi processione nelle stesse opere sperimenta la stesua a piccoli punti a lineette sensibili soprattutto nelle zone di luce mentre nelle zone di ombra adotta anche più lunghi filamenti come documenta sul fienile che è il quadro più in alto il divisionismo sembra rigoroso e soprattutto la varietà delle dimensioni delle pennellate unitamente all'interesse per il complementarismo che riesce a creare le vibrazioni luminose su questi temi avviene l'incontro con Morbelli e con Segantini e nello stesso tempo nel 1893 un soggiorno fiorentino fornisce al pittore l'occasione per studiare la pittura dei quattrocentisti con i loro colori luminosi nei quali Pellizza cerca di individuare le origini della propria tecnica cercando di chiarire anche gli esiti della sua ricerca infatti notava gli oggetti lontani devono essere fatti con la divisione ottica e il primo piano con colori mescolati intermedi a seconda della maggiore o minore distanza dovranno essere divisi o meno quindi tutta una riflessione continua che si introduce poi in un divisionismo applicato rigorosamente su tutta la tela con pennellate di colore puri molto regolari come in processione che vedete sotto contemporaneamente Pellizza doveva studiare a fondo l'uso delle lacche anche se cioè delle lacche poiché le analisi alla fluorescenza UV su un dipinto come paesaggio presso Volpedo regione San Rocco che è quello che vedete in basso a destra hanno documentato sia l'uso più consueto negli strati superficiali di una lacca rossa ma anche l'uso di una lacca rossa mescolata al bianco di piombo per dare una tonalità rosata allo strato preparatorio l'uso delle lacche era stato sperimentato da Pellizza facendo anche in questo caso delle prove di colore che teneva in studio e che di cui saggiava appunto la durata e l'alterazione rispetto alla luce e al calore ecco però l'acquirsi del significato della ricerca della perfezione tecnica si legava anche a una maggior ricerca di significato per poter rappresentare non solo sentimenti ma anche idee o più ampli valori ideali e allora non poteva più essere la piena luce solare a prevalere ma bisognava avere una ricerca che attraverso il colore accentuasse il significato simbolico del dipinto questo avviene con Fiumana che è il quadro che vedete in alto a sinistra e che colpisce per l'intensificarsi dell'effetto cromatico su gambe rossastre e bluastre con la complessità della resa sono sbagliata ho messo dopo ecco della resa di piccole pennellate a tratti punti e linette su uno stato preparatorio per stesura omogenee e qui si vede appunto lo stato preparatorio che ha un'ocra un po' omogeneo su cui però si dispongono proprio le piccolissime pennellate di colori puri per ottenere un effetto di maggior dinamismo questo è abbastanza interessante perché come vedete avete anche delle linee che servono a indicare probabilmente dove poteva cambiare per ottenere una variazione un po' più intensa di colore per segnare una proiezione d'ombra quindi il bozzetto è raffinatissimo proprio per queste soluzioni quindi qui vedete altri dettagli torniamo indietro questi dettagli dei personaggi anche sui volti è una specie di impasto di base su cui si interviene appunto con delle piccole varianti lo specchio della vita fatto tra 95 e 98 rivela una sapienza divisionista molto avanzata con sperimentazioni tecniche interessanti le vibrazioni luminose presenti nel cielo non nascono solo dalle pennellate accostate sulla base delle relazioni sul cerchio cromatico diffuse da bellotti guarta e da root eccetera ma soprattutto dal giocare sull'alternanza di uno stesso pigmento il cielo per esempio questo è lo specchio della vita li avete un dettaglio sulla destra è un dettaglio di una delle zampe delle pecore e qui vedete la ricchezza appunto dei colori divisi in questo caso proprio cercando di aumentare nell'intensità con accostamenti sapienti c'è anche l'uso del violetto abbastanza importante ma qui vedete che il cielo è ottenuto in questo caso proprio su una base di colore azzurro su cui è stato distribuito un ceruleo più chiaro su cui il pittore è intervenuto a grattare con tratti piccoli e paralleli per lasciare emergere il colore sottostante le gradazioni si completano poi con le nubi chiare quasi bianche il cui andamento peraltro riprende l'ondulazione delle pecore in primo piano il gioco di azzurri dovesse fu ottenuto non solo alternando i pigmenti ma anche mescolandoli con bianco nel frattempo Pellizza appunto andava mettendo appunto la sua tavolozza per fare Fiumana prima e poi il quarto stato questo è Fiumana fatto appunto nel 95 e volevo solo richiamare l'attenzione sulla stretta concordanza fra tecnica e significato dell'opera perché fu un errore tecnico nei rapporti luminosi tra il primo piano cioè il terreno su cui spiccano i personaggi principali e l'insieme della raffigurazione a costringere il pittore a riprendere tutta l'opera per raggiungere non più la massima luce o l'effetto un plenare bensì una soluzione di armonia e di soddisfacenti ed efficaci rapporti reciproci di luce fra le varie parti del dipinto la rielaborazione di Fiumana quindi di questo quadro è comunque ben chiarita sia nella preparazione che nelle fasi esecutive e adesso si riferisce di certo l'elenco di colori acquistati nel 95 bianco d'argento di diverso numero le franc numero 13 e 10 bianco di zinco blu ceruleo blu cobalto giallo d'antimonio giallo cadmium citron giallo di cadmium chiaro oltremare extra foncé oltremare numero 2 chiaro oltremare lapis oltremare rosso di puzzuoli vermiglione permanente verde di cobalto verde sberaldo violetto di cobalto ocra giallo ocra rossa terra di siena arfer terra di siena naturale nero d'avorio nero d'avorio pennelli di martora per filettature pennelli più piccoli eccetera quindi alla Lefranca di Firenze ordina nel marzo ben 18 pennelli alcune di martora per filettature ed altri due di puzzola oltre ad una dozzina di pennelli assortiti di setola bianca in Fiumana bellizza appunto confessò di essersi accorto dell'errore di valori a cui avevo accennato e proprio riflettendo su questi fatti dice bisogna preparare il colore rossastro purpo con santré come ho già preparato blu il fienile sbagliando e poi finire con i colori complementari ciò si deve fare per tutti i colori che sono sulla terra il cielo invece deve essere preparato con colore blu tendente all'ossastro o al verdastro quindi a seconda delle parti il metodo che ho adoperato nella Fiumana non va quindi probabilmente non aver ottenuto gli effetti luminosi a cui pensava la delusione si accentua inoltre per l'impossibilità di ottenere sulla tela un effetto rispondente alle nuove esigenze di oggettività nel calibrato gioco compositivo delle figure e delle loro relazioni con l'ambiente circostante e costringe il pittore a rielaborare una nuova tela ed è in questo ambito che acquista ancora dei nuovi colori ordine alle franc a calcaterra i colori le franc vernice d'essenza di petrolio un tubo di blu cobalto cadmium citron un cadmium verde di cobalto un blu di pompei un terra verde che reputa necessari per il bozzetto dei lavoratori questo è il bozzetto della ultima tela che vuol dipingere così chiama sinteticamente il suo quadro soprattutto per costruire le figure in relazione al terreno soleggiato in cui il colore predominante è composto da bianco di zinco le franc macinato da me terra verde bruciata le fiori le franc e terra gialla a queste note si aggiunge appunto una prova di colori specificamente dedicata alle ricerche per questo dipinto e queste prove di colori recano sul retro la nota del 30 novembre del 99 tono giallo della strada illuminata nel quadro lavoratori fatto con bianco di zinco e cadmium foncé mentre per le nubi più vicine e per quelle temporalesche in data 23 dicembre era scritto bianco di zinco e bianco rouge le franc quindi queste sono le prove di colore fatte e questo è il retro di questo cartoncino su cui ci sono queste annotazioni le campagne fotografiche recenti e quelle riflettografiche di qualche anno fa hanno documentato la ricchezza di dati presenti sulla tela e l'esattezza di queste annotazioni il quarto stato che sembra raggiungere il massimo di oggettività ed evidenze rappresentative è costruito attraverso un sapientissimo gioco di rimandi e di armonie cromatiche costruite con un moltiplicarsi e interrecciarsi di colori distribuiti a lineette a punti a tacchette di diverse dimensioni la ricerca era finalizzata una calibrata armonia fra le varie zone interessate da effetti luminosi legati al passaggio dalla piena luce dei primi piani al fondo più oscuro sottolineato rispettivamente da intonazioni a base cromatica giallo-rosata nei primi piani verdasto-rossastra nelle zone intermedie e infine intensamente bluastra nel cielo di fondo le stesure dei vari pigmenti si distribuiscono su zone di preparazione cromatica diverse per le varie parti ed effettuata con terre in stesura a larghe campiture probabilmente ottenuto macinando direttamente i colori il tutto tenuto insieme poi da una unificante luminosità rossastro-durata un lavoro raffinatissimo lungo ma efficace anche nel suggerire il movimento qui vedete un punto dove una caduta di colore ha permesso di vedere la preparazione verde sotto sono state fatte appunto delle analisi con falso colore e quindi si è appurato che era una preparazione a terra quindi vi faccio vedere in una rapidissima carrellata i dettagli di questo di questo dipinto che ha un impianto non statico ma ondulato e una raffinatissima tecnica divisionista quindi in tutte le varie parti ecco in fondo voi vedete anche qui una grande precisione appunto nel dare tutti i vari tutti i vari passaggi la tavolozza era ricca e i tubetti che rimangono nello studio comparati con i giudizi espressi a margine dei cataloghi Lefranca e Calcaterra in cui aveva cancellato e evidenziato i vari tubetti sulla base del giudizio di stabilità ci dicono del grande sforzo per giungere a questa resa luminosa dinamica e ariosa i colori l'elenco dei colori rimasti nello studio è il seguente però non ve li sto a ripeter li sono bianco d'argento bianco di zinco bianco di blu cerule o cadmio tutti i vari bruni garance rose lacca di garanza orange in tutti i modi e quindi vedete qui un esempio della ricchezza di questi tubetti sono disposti abbastanza in ordine anche qui altri dettagli ecco l'abbandono però del divisionismo ottico di fienile o processione per le stesure che sottolineassero determinate condizioni di luce accordate con il dinamismo che Pellizza ritenera di poter identificare nell'essenza della natura e di dover riprendere nelle sue opere gli imponevano una stesura ricca di variazioni l'avete vista anche nel cielo e di sovrapposizioni quale stanno documentando le recente analisi su vari quadri di paesaggio ma sono visibili anche occhio nudo nelle straordinarie prove dei quadri del primo novecento fino ad arrivare il sole qui vedete un quadro il paesaggio presso il prato di Pissone del 1904 e in questo i pigmenti individuati sono quelli acquistati più volte da Pellizza dal bianco di zinco al blu cobalto al blu ceruleo al viola di base in diverse gradazioni fosfato di ferro ossido di ferro lacca di garanza al verde viridian al blu di prussia alla terra bruna alla lacca di garanza la tecnica è estremamente libera e varia sia nello spessore che nel ductus dei sottili filamenti a impasti schiariti e distribuiti a più allungate pennellate spesso vitalizzato da incisioni realizzate col retro del pennello per ottenere un effetto arioso frutto però della sapiente sperimentazione divisionista condotti negli anni precedenti ecco in qualche caso è talmente sottile diciamo la massa di colore è talmente diluita che sembra quasi che ci sia una soluzione a pastello invece che ad olio eppure forse questo permette di considerare anche la presenza nello studio di pellizza di alcuni colori raffaelli quindi che penso poi Simone Rivaldi magari ci spiegherà commercializzati dalla Lefranc e che rimangono in due sole esemplari a base nera e verdastra e forse sarebbe anche utile analizzarli per compararli con alcuni dettagli di quadri eseguiti nel 4 come questo che è il sole nascente della raccolta grassi e ulteriori e qui vedete altri dettagli di quest'opera anche questo è un altro quadro del 4 anche in questa abbiamo degli effetti sembra un olio molto magro potrebbe magari essere in qualche caso anche una qualche parte di tempera qui vedete un po' di passaggi di dettagli e volevo finire con questo perché un gerio riflessione può essere data anche dalla presenza dei colori a tempera muzzi che sentiremo poi da Simone Rinaldi perché finora non erano mai stati mi sembra approfonditamente indagati si trattava di tempere brillanti di cui si valtava la qualità e le differenze rispetto alle tempere in uso che nell'asciugarsi cambiavano di tono Pellizza sappiamo che usò i colori muzzi sicuramente per due opere tarde diciamo tra il 5 e il 6 una è questa quindi è questa rosa che proprio ha una grande brillantezza di colori senza nessuna alterazione un altro è uno studio di pianta di cui non ho la rappresentazione però noi sappiamo da documenti antichi che Pellizza si servì dei colori muzzi anche per tutti i paesaggi fatti nel 6 in Engadina di questo rimangono solo due pastelli ma non sono e carboncini quindi non sono colorati sono disegni più che quadri e probabilmente il recupero se si riusciva a trovarli di queste opere considera anche di chiarire come perché in che quantità e con che scopo quindi Pellizza ha usato questa nuova tecnica grazie ora mi sembra che ci sia un break sì? ok bene quindi rimandiamo abbiamo altri due interventi e poi insomma vi invito a rimanere per la discussione va bene abbiamo qui come vi avevo annunciato Claudia Marchese e Ilaria Bonaduce che sono che rappresentano la parte storico-artistica e scientifica parte della parte storico-artistica e scientifica del del nostro gruppo Futurama e appunto veramente nel nostro gruppo siamo tantissimi sarebbe lungo nominarli tutti qui ci sono alcuni che hanno lavorato in particolare su questo sulle preparazioni di Vittorio Grubici di Dragon buongiorno a tutti mi sentite così va bene allora c'è il problema che la nostra voce è troppo alta e poi quelli che sentono la traduzione sono disturbati qui proviamo a non parlare troppo vediamo se così così meglio ok allora buongiorno a tutti intanto l'importanza delle preparazioni per la buona durata nel tempo delle opere era ben nota agli artisti ed è un concetto che ritorna negli scritti e nei trattati sulle tecniche questa è una citazione da Merefield che veramente vuole essere soltanto un esempio Vittorio Grubici che fu prima di tutto mercante d'arte poi critico e sostenitore della poetica divisionista nonché pittore ma pittore autodidatta era anche lui consapevole appunto in linea teorica del ruolo che questa fase del processo esecutivo aveva per garantire la buona conservazione dei dipinti è quanto emerge ad esempio in una lettera che scrive al suo più affezionato allievo benvenuto benvenuti di Livorno nella quale dice gli artisti le cui opere sono figlie dell'amore sentono sempre una meticolosa preoccupazione per le preparazioni delle tele ma come nasce l'approfondimento di questo intervento e da dove siamo partiti per affrontare questo tema il lavoro si colloca all'interno del progetto Futurama e si collega alla scelta di approfondire la figura di Vittorio Grubisi come punto di riferimento per la diffusione delle informazioni sui materiali e le tecniche artistiche ma anche per la diffusione proprio effettiva dei materiali Grubisi fu autore di numerosi articoli fu anche grazie a lui nacque una rubrica la rubrica per i pittori nella rivista cronaca d'arte nata proprio con la stretta collaborazione della ditta parigina Lefranc con lo scopo di informare gli artisti su questi temi naturalmente di sponsorizzare anche di pubblicizzare i prodotti Lefranc Grubisi è molto importante perché rappresenta uno degli anelli della catena che congiungono proprio dal punto di vista delle tecniche pittoriche la generazione di visionista con quella successiva futurista questo lavoro nasce anche dall'eccezionale possibilità di poter studiare all'interno di uno stesso luogo la fondazione Livorno i materiali dell'atelier Benvenuti Grubisi è la più ricca raccolta di opere di Grubisi appunto entrambi questi nuclei sono adesso conservati alla fondazione Livorno grazie alle generose donazioni degli eredi Benvenuti e qui colgo l'occasione per ringraziare nuovamente da un lato la fondazione Livorno in particolare il presidente Luciano Barsotti e un grazie veramente di cuore a Giuseppe Argentieri e velocissimamente ringrazio anche l'Opificio delle Pietre Dure il Mart e naturalmente tutti gli altri componenti del gruppo Futurama grazie ai quali è stato possibile andare avanti in questo lavoro dimenticavo di dire che questo lavoro si caratterizza anche per l'approccio multidisciplinare che vede collaborare fianco a fianco storici dell'arte restauratori fisici e chimici i primi risultati delle ricerche su Grubisi sono state presentate nel gennaio del 2014 alla fondazione Livorno durante una giornata di studi e poi in maniera più approfondita articolata completa nel volume di recentissima pubblicazione come è stato già detto da Marcherita che si intitola oltre il divisionismo tecniche e materiali nell'atelier benvenuti Grubisi il punto di partenza della nostra ricerca è stata la catalogazione dei materiali dell'atelier il fondo è estremamente ricco vi si trovano colori di varia tipologia tubetti pastelli acquarelli colori in polvere ma anche vernici diluenti tavolozze cassette per la pittura e strumenti vari per dipingere questi oggetti materiali sono appartenuti a entrambi i pittori in parte perché inviati da Grubisi a Benvenuti testimoniando quindi lo scambio fortissimo fra due artisti in parte ereditati dal pittore più giovane in parte ovviamente frutto dell'attività pittorica di Benvenuti stesso ci siamo approcciati a questi oggetti proprio guardandoli come delle fonti assolutamente complementari ad altre tipologie di fonti come quelle scritte e all'analisi sulle opere all'interno dell'atelier Benvenuti Grubisi sono stati reperiti tre contenitori la cui etichetta regala scritta caseina questa presenza ci ha incuriosito ed è stato un ulteriore stimolo per riflettere sulle tipologie di preparazioni utilizzate da Grubisi e per cercare di fare chiarezza su un argomento ancora in realtà poco approfondito la caseina è un prodotto animale deriva dal latte ed è teofilo a trasmetterci la prima ricetta con la quale si poteva realizzare una colla estremamente forte e resistente sia al calore che all'umidità che si otteneva purificando con numerosi lavaggi il formaggio in acqua e poi macinandolo con calceviva ecco scusatemi la caseina è stata utilizzata poi successivamente in arte con molte altre applicazioni è stata sperimentata per il restauro degli affreschi è stata utilizzata come elegante per i colori e nell'ottocento è tornata in voga grazie alla figura di Jean-Jolvibert che fu artista chimico per diletto stretto collaboratore della casa parigina Lefranc il quale nel suo La science de la peinture pubblicato nel 1891 e tradotto da Priviati in italiano nel 93 citava la colla di caseina e la definiva come la migliore di tutte le colle che era possibile ad operare non soltanto per le pitture su tavola ma anche per le pitture su tela in realtà prima di Viber già Léonore Merimet nel suo della peinture al wheel del 1830 aveva consigliato di utilizzare la colla di caseum proprio sfruttandone le caratteristiche di insolubilità perché una volta secca questa colla diventava appunto insolubile in acqua per poter modificare un acquerello una bozza d'acquerello sopra un supporto preparato a gesso e colla un supporto che poteva essere sia tavola che tela ma naturalmente la pubblicazione del trattato di Viber fu senz'altro un ulteriore stimolo per risvegliare l'attenzione dei pittori su questo tipo di preparazioni e non solo in Francia ma anche in Italia dove ad esempio venne sperimentata dai pittori divisionisti Aurora Scotti prima ha citato l'interesse di Pellizza di Segantini ma anche Morbelli per esempio quello che stupisce è verificare la rapida scomparsa sui cataloghi Lefranc delle tele preparate a caseina col metodo Viber questo è il catalogo in italiano del 1895 ma già nel catalogo in francese del 97 compaiono soltanto i pannelli preparati a caseina secondo il metodo Viber quale fosse il motivo in questo momento ovviamente non è noto è possibile che la tipologia di questa colla che era comunque abbastanza una colla molto forte e rigida non si adattava benissimo a un supporto flessibile come quello delle tele e d'altra parte lo stesso Viber nel ricettario alla fine del suo volume consiglia di aggiungere della glicerina alla colla di caseina che poi doveva essere mescolata insieme al bianco di zinco proprio per dare maggiore flessibilità ai supporti comunque è certo che dalla pubblicazione del manuale di Viber le tele preparate a caseina si diffondono sensibilmente per rimanere in ambito italiano e per fare giusto qualche esempio erano disponibili all'inizio del secolo presso la ditta Calcaterra già citata durante questa giornata come si evince dalla encyclopedia artistica che era proprio questo manuale prontuario pubblicato dalla ditta stessa compaiono anche nel manuale della pittura a olio di Califano Mundo nel 1910 per quanto riguarda la presenza della caseina nell'atelier benvenuti grubisi sappiamo innanzitutto con certezza attraverso il carteggio fra maestro allievo che benvenuti richiese nel 1915 a grubisi di procurargli della caseina proprio per la preparazione delle tele quello che vorrei sottolineare in questa circostanza è che grubisi non procurò il materiale a benvenuti lo compro lo invio a Livorno senza fare nessun appunto come invece accade proprio in quei mesi quando grubisi consigliò il suo allievo di desistere dall'idea di comprare una partita di lapislazzuli per macinare produrre il colore in casa e questo denota sicuramente una familiarità con le tele preparate a caseina familiarità che è attestata dallo stesso benvenuti in questo foglio di appunti che raccontano i materiali e le tecniche utilizzate dal maestro nel quale dice proprio in merito alle tele che grubisi utilizzava tele di lino preparate con imprimitura preziosa a colla di caseina in realtà la situazione come vedremo è ben più complessa di quella che emerge da queste parole è l'analisi degli scritti del carteggio degli articoli pubblicati da grubisi un po' senz'altro aiutare per avere un'idea più precisa di quale fosse il punto di vista di grubisi su questo tema tra il 1892 e il 1893 grubisi pubblica una serie di articoli su riviste come cronaca d'arte e la riforma nei quali affronta anche e tocca insomma anche se in certi casi velocemente il tema delle preparazioni se da un lato sembra riconoscere i difetti di alcune tele prodotte industrialmente e lo fa citando le critiche avanzate dal pittore Gaston Latouche senza smentirle in alcun modo dall'altro lato difende e promuove i prodotti Lefranc i prodotti Viber della Lefranc in particolare le tele a caseina che erano state oggetto di forti critiche perché secondo alcuni avevano danneggiato alcuni dipinti del pittore francese Pascal Daniel Bouveret si schiere inoltre a favore delle tele preparate a gesso e colla contro quelle che definisce le tele confezionate con preparati perniciosi a base d'olio corresponsabili secondo lui del grave danno alla produzione pittorica contemporanea questa posizione in linea con molta della trattatistica ottocentesca italiana per esempio da Selvatico a Seccosuardo fino ad arrivare a Previati ma anche inglese lo registra ad esempio Merrifield nella sua introduzione agli original treatises o francese da Bouvier a Montabert a Viber questi autori sottolineavano proprio le migliori garanzie per la durata e conservazione dei colori date dalle preparazioni cosiddette assorbenti rispetto a quelle a biacche olio che d'altra parte erano anche quelle più comunemente immesse in commercio in una lettera piuttosto tarda che Grubi si scrive a Benvenuti emerge come tutte le opere di questo ciclo inverno in montagna come a Panteista furono realizzate proprio su imprimiture a base gessosa con abbondante gesso che era finalizzato ad assorbire l'eccesso d'olio presente nei colori ormai venduti dei colori in tubetto che si acquistavano già pronti questa lettera è estremamente importante anche perché è l'unica l'unica occasione in cui almeno fino a quello che abbiamo fino alle ricerche che sono state fatte fino ad ora sappiamo che per questo è l'unica occasione in cui sappiamo che per questo dipinto Sinfonia Crepuscolare Grubi si utilizzò delle tele preparate a caseina ma non in fase realizzativa ma in un momento successivo ovvero per eseguire il trasporto del colore dalla tela originaria che era stata preparata a gesso ad una seconda tela preparata a caseina che appunto Grubi si definisce come un avorio la possibilità di disporre a Livorno di un altissimo numero di dipinti ciò spinti a continuare con le analisi non invasive che sono state condotte attraverso il laboratorio mobile MOLAB dell'Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari del CNR di Perugia e dal centro SMART dell'Università di Perugia in collaborazione con il laboratorio di diagnostica di Spoleto attraverso una campagna di indagini puntuali e non invasiva è stato possibile analizzare i materiali e le tecniche utilizzate da Grubisi su dieci dipinti soltanto su sei però è stato possibile fare un'analisi più approfondita sulle preparazioni e questo perché moltissime opere conservate dalla Fondazione Livorno ma non solo sono state interessate da massicci interventi di foderatura realizzati quando Grubisi era ancora in vita come emersi proprio dalle ricerche eseguite all'interno in occasione del progetto Futurama e che venivano realizzate con un sistema molto simile a quello definito alla francese da Seccosuardo nel suo il restauratore dei dipinti con un sistema che prevedeva di rifilare i margini della tela fino ad arrivare all'area dipinta e naturalmente questo ha comportato una perdita della tela originaria che per noi sarebbe stata preziosissima per studiare le preparazioni i risultati delle analisi non invasive eseguiti su questi sei dipinti hanno rivelato innanzitutto la presenza in quasi tutte le opere meno che in una di pH mescolata a minori quantità di solfato di bar e carbonato di calcio che erano componenti spesso addizionati alla pH per quanto riguarda l'identificazione del materiale organico con queste tecniche non invasive il discorso è più complesso perché la presenza della pH nasconde la maggior parte degli altri segnali nonostante questo non si può si può comunque ipotizzare la presenza di una componente lipidica associata spesso ad una componente proteica e qui vedete i segnali tipici della proteina in due opere lavandaialierna e figura di ragazzo su tre opere proprio sulla base delle indagini non invasive è stato deciso di prelevare dei campioni dai margin delle tele e le opere in questione sono lavandaialierna che pace aggan è venuta sul lago maggiore fortunatamente si tratta di tre dipinti che rappresentano dal punto di vista cronologico dei momenti diversi dell'attività del pittore sappiamo è ben noto che Grubisi lavorò attivamente dal 1885 al 1898 per poi lavorare pressoché esclusivamente sui dipinti che già aveva eseguito con le sue continue rielaborazioni prima di passare la parola a Ilaria che ci racconterà meglio i risultati delle indagini di laboratorio vorrei sottolineare alcuni aspetti che sono emersi dalle ricerche e dalle analisi finora eseguite innanzitutto non è stato possibile determinare con certezza se Grubisi utilizzasse tele già pronte quindi comprate già preparate oppure se le preparasse da sé cosa certo meno probabile naturalmente gli interventi di foderatura non ci hanno aiutato nell'analisi dei supporti ma le tele rimaste in prima tela non presentano né timbri né stampi che suggeriscano l'acquisto presso un rivenditore in particolare quello che si può senz'altro dire è che la preparazione è stata stesa fino al margine della tela quindi è stata data in un momento antecedente rispetto al tensionamento sull'attuale struttura di sostegno la presenza di BH di olio è associata alla colla animale è probabilmente utilizzata come turapori la presenza di tutti questi materiali è stata confermata come vedremo dall'analisi di laboratorio suggerisce l'utilizzo da parte di Grubisi proprio di quelle tele preparate con materiali perniciosi con sostanze perniciose a base d'olio che aveva in realtà attaccato e deprecato nell'articolo di cui vi ho parlato prima e questo testimonia una contraddizione tra pensiero teorico e prassi operativa forse legata anche al fatto che ricordo Grubisi era un pittore autodidatta non aveva formazione accademica e questo certo influì sulle sue conoscenze tecniche per quanto riguarda l'utilizzo della caseina l'ipotesi della massiccia sperimentazione che così come ci viene raccontata dal suo allievo benvenuti non è stata dimostrata non ha avuto conferme soltanto in un caso come vedremo è stata rilevata la presenza di un secondo materiale proteico oltre la colla animale che potrebbe essere caseina il dipinto è la Vandaia Lierna realizzato nel 1887 e quindi questo comporterebbe l'utilizzo la sperimentazione delle tele a caseina da parte di Grubisi in un momento antecedente rispetto alla pubblicazione del volume di Viper si può infine affermare che Grubisi prediligesse delle tele con preparazioni bianche che sono state riscontrate su tutte le opere analizzate nell'Ottocento gli artisti recuperarono l'utilizzo di preparazioni chiare o bianche anche a fini espressivi e con lo scopo proprio di preservare i toni dei colori penso per esempio ai pre-Raffaelliti ma ebbero grande diffusione anche in Italia come ricorda ancora una volta Merrifield negli scritti di Grubisi non sono stati riscontrati riferimenti a questo aspetto quindi non sappiamo se lui si servisse di tele bianche proprio per gli stessi fini espressivi di certo in questo si differenzia almeno in parte da quello che fecero gli altri divisionisti come Morbelli e Pellizza che sperimentarono basi colorate ancora una volta abbiamo già sentito nella prima parte della mattinata l'utilizzo di piazze di colore da parte di Pellizza e fino ad arrivare al caso estremo di Segantini che nella famosa lettera a Carlo Orsi del 1896 dichiarava di utilizzare preparazioni a gesso e olio sulle quali applicava una stessura di terra rossa perché il bianco della tela non lo posso soffrire sotto agli occhi l'intervento non è finito si era staccato il cavo scusa mi sentite allora io vi parlerò vi riassumerò brevemente alcuni aspetti delle indagini che abbiamo fatto di tipo chimico fisico in generale quando invece di analizzare i materiali di riferimento quindi ci troviamo ad analizzare campioni che sono stati prelevati dai dipinti abbiamo diverse problematiche di tipo analitico intanto intanto i campioni sono dimensioni molto ridotte e questo vuol dire che dobbiamo operare delle scelte perché dobbiamo decidere quali sono gli aspetti che vogliamo investigare sono presenti materiali che sono degradati per effetto del tempo ma anche per effetto delle condizioni ambientali e in ogni campione troviamo delle miscele di materiali inorganici i pigmenti e le cariche e di materiali organici eleganti questi sono presenti in miscela all'interno all'interno dello stesso strato e ogni dipinto è caratterizzato dalla presenza di diversi strati quindi se vogliamo comprendere la tecnica pittorica in un campione noi non dobbiamo solo identificare i materiali in maniera affidabile che sono presenti ma dobbiamo anche capire come sono stratificati nella successione degli strati pittorici questo fa sì che dobbiamo scegliere un approccio analitico che ci permetta di ottenere tutte queste informazioni insieme con un solo campione spesso non è possibile se il campione è di dimensioni sufficientemente grandi che può essere diviso in sottocampioni allora a quel punto cerchiamo di utilizzare più di un approccio analitico perché ciascuna tecnica analitica ci fornisce informazioni diverse informazioni su un determinato aspetto del campione quindi ad esempio se vogliamo fare una identificazione del materiale utilizziamo tecniche di spettrometria di massa o spettroscopiche se vogliamo localizzare la posizione dei vari materiali senza ottenere lo stesso livello di qualità dell'identificazione che possiamo ottenere con le tecniche che vi ho citato precedentemente utilizziamo delle tecniche di imaging che ad esempio si basano spesso sulla spettroscopia infrarossa ora vi farò vedere come mettendo insieme queste tecniche le informazioni che otteniamo abbiamo cercato di capire quali fossero i materiali utilizzati nelle preparazioni qui vediamo appunto veduta sul lago maggiore sono stati prelevati diversi campioni da questo dipinto dai margini della tela questi campioni contenevano selettivamente delle volte solamente della preparazione delle volte preparazione strato pittorico oppure ad esempio colature della vernice in maniera tale che poi incrociando i risultati delle analisi che abbiamo ottenuto abbiamo cercato di capire appunto la stratigrafia del campione questo è un altro campione un campione sempre stato prelevato dal retro della tela scusate dal retro della tela qui vediamo un frammento pittorico non abbiamo un puntato qui vediamo a sinistra vedete in alto a sinistra vedete un frammento pittorico microscopia ottica in cui vediamo forse tre strati sicuramente si riconosce la tela c'è uno strato bianco superficiale che abbiamo indicato con tre probabilmente c'è anche uno strato intermedio quello che abbiamo indicato con due se andiamo a guardare la sezione del campione quindi il campione inglobato lucidato in sezione sembra di poter riscontrare di nuovo la presenza si vede chiaramente la tela e poi questo strato di preparazione sembra essere divisi in almeno due strati forse quello superficiale è uno strato oppure ad esempio un accumulo di sporco se facciamo l'analisi in spettroscopia infrarossa direttamente sulla superficie del campione senza inglobarlo vediamo questo è lo spettro infrarosso si riconoscono chiaramente i segnali di un materiale proteico ed è di nuovo presente biaca come era stato detto in precedenza non possiamo dire di che tipo di materiale proteico si tratta in questo caso se poi inglobiamo il campione e facciamo spettroscopia infrarossa di nuovo in modalità di riflessione speculare possiamo ottenere delle informazioni a livello stratigrafico e se guardate gli spettri infrarossi che sono mostrati qui a destra in basso in nero troviamo uno spettro di riferimento di un olio siccativo con la biacca e in alto vediamo gli spettri tipici della riflessione speculare in cui nello strato più in basso quindi siamo a contatto con la tela appare la presenza di un materiale proteico mentre via via che ci allontaniamo dalla tela si vede che compare il materiale lipidico assieme alla biacca il campione poi è stato anche tagliato non inglobato ma una porzione del campione è stata tagliata e schiacciata d'accordo per ottenere una sezione sottile ed è stata analizzata con spettroscopia infrarossa con luce di sincrotrone che ci permette di ottenere degli spettri con un rapporto segnale rumore più alto e quello che possiamo distinguere con certezza sono tre zone di nuovo abbiamo in basso lo spettro che è tipico ad esempio di un materiale polisaccaridico quindi la tela una tela di tipo vegetale dopodiché quello che vedete in nero è lo strato che sembra essere vicino alla tela che lì abbiamo indicato con 3A il quale contiene un materiale proteico mentre allontanandoci quindi dalla tela troviamo lo spettro caratteristico di un materiale lipidico in presenza di BH a questo punto volevamo capire di quali materiali si trattasse perché c'era la domanda stiamo parlando di colla oppure di caseina abbiamo identificato dei materiali proteici in questo caso abbiamo trovato in uno dei campioni analizzati qui vediamo il cromatogramma abbiamo identificato con l'animale lo facciamo perché lo possiamo fare perché è presente l'idrossiprolina che è un marker della colla animale e perché tramite analisi statistica dei dati se confrontiamo il profilo cromatografico con quello di un database di campioni di riferimento vediamo che il nostro campione si va a collocare in prossimità del cluster della colla animale abbiamo trovato abbiamo trovato dei materiali polisaccaridici questo è uno spettro infrarosso in trasmissione micro in trasmissione di una polvere del campione d'accordo e si ritrovano i segnali di nuovo della biacca ma troviamo anche i segnali caratteristici di un carboidrato abbiamo identificato anche materiali lipidici questo è il cromatogramma troviamo acido palmitico osteorico e troviamo acido azelaico che ci dice che stiamo parlando di un olio siccativo l'identificazione degli oli in realtà è molto complessa e anche molto discussa scusate se è possibile o meno identificare un olio siccativo in un campione pittorico diciamo che poiché c'è della biacca possiamo ipotizzare in questo caso dai dati che abbiamo ottenuto che si tratta di un olio di lino quindi tornando alla stratigrafia del campione abbiamo una tela la quale tela è stata preparata con colla animale e anche con un materiale saccaridico troviamo in superficie sicuramente uno strato che contiene olio siccativo e biacca e in intermedio troviamo della colla animale anche se va detto che è difficile stabilire se questo qui sia un vero e proprio strato preparatorio o sia un eccesso del materiale che è stato utilizzato nella preparazione della tela che si è accumulato in superficie utilizzando lo stesso approccio analitico abbiamo analizzato i campioni che sono state prelevate dalle lavandai allierna e questa è la stratigrafia di nuovo abbiamo una tela che è stata preparata con colla animale in questo caso troviamo di nuovo un materiale polisaccaridico e dall'analisi gas cromatografica è stato possibile identificare gomma di frutta troviamo un olio siccativo come legante pittorico quindi in superficie ma di nuovo troviamo l'olio siccativo con la BH per la preparazione degli strati come preparazione pittorica e di nuovo a contatto con la tela troviamo questo strato di proteine potrebbe essere un accumulo del materiale di preparazione della tela potrebbe essere uno strato vero e proprio è talmente sottile che è difficile fare questo tipo di distinzione avevamo dal dipinto che pace agganna solamente un campione quindi non abbiamo informazioni di tipo stratigrafico qui però di nuovo troviamo olio siccativo e con l'animale quindi se vogliamo confrontare i dati che abbiamo ottenuto in stratigrafia sulle preparazioni delle tele che sono state utilizzate troviamo da una parte quindi in entrambi i casi le tele preparate con colla e con un materiale polisaccaridico troviamo il materiale proteico a contatto con la colla e troviamo l'olio siccativo qui va detto che nel caso delle lavandaie il materiale proteico non è colla animale troviamo un materiale proteico che ha delle caratteristiche che chiaramente non sono della colla animale l'identificazione esatta non è possibile farla perché i campioni che ci hanno permesso di caratterizzare questo strato così superficiale erano di dimensioni talmente ridotte che l'analisi quantitativa non si poteva fare quindi per questioni tecniche non possiamo identificare il materiale la colla animale però si distingue facilmente perché è caratterizzata da un marker l'idrossiprolina quindi possiamo escludere la presenza della colla animale quindi potrebbe trattarsi ad esempio di caseina quindi le tele sono state preparate in maniera molto simile e quindi tornando al problema della caseina troviamo solamente colla animale negli ultimi due dipinti compreso quello che è stato dipinto nel 97 quindi dopo la pubblicazione del trattato nel 1891 mentre troviamo un materiale diverso dalla colla animale nella preparazione della tela invece nel dipinto che è stato nel dipinto che è stato realizzato prima della pubblicazione del trattato e comunque appunto come diceva prima Claudia la pittura è stata applicata su uno strato con BH e olio siccativo quindi concludo ringraziando tutti quelli che hanno lavorato perché sono state tante persone che hanno contribuito anche all'analisi e alla discussione dei risultati grazie è il turno di Giuseppina Ferusini Enrica Appi che sono qui in rappresentanza anche loro di un gruppo di un team molto più ampio allora dove mi trovo questa presentazione ce l'avete qui ti metti tu qua che così allora intanto approfitto per dire che di questo team molto più ampio di cui ora vedrete anche nella slide tutti i nuovi chi chiude ma anche purtroppo la componente di questo team molto più ampio manca purtroppo totalmente oggi la componente scientifica per cui noi possiamo illustrare in maniera abbastanza primitiva direi quello che concerne appunto le indagini allora il nostro intervento intende dar conto comunque di quelle che sono le prime indagini tecniche di tecnica pittorica essenzialmente relative ai materiali usati dal pittore Giuseppe Cominetti indagini che sono state effettuate grazie alla collaborazione fra il Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali dell'Università di Udine e l'Istituto per l'Energetica all'interfase del CNR di Padova tali indagini tuttavia non sarebbero state possibili senza la cortesia della famiglia Gilardo di Torino erede del pittore Cominetti che ha messo a nostra disposizione i dipinti e i tubetti di colore dell'artista che si conservano ancora presso l'abitazione di famiglia dobbiamo ancora verificare se e quali documenti cartacei interessanti per la nostra indagine si conservano presso l'archivio devo anche dire purtroppo che questa indagine che è cominciata sotto i migliori auspici e che ha avuto una prima fase anche nella tesi di Enrica Appi sul pittore Cominetti appunto ha già avuto una battuta d'arresto poiché per quello che riguarda la parte scientifica chi seguiva queste indagini al CNR che è Monica Favaro è stata comandata a Bruxelles e l'altra collega del CNR Arianna Gambirasi probabilmente non potrà continuare questa ricerca sempre presso il CNR quindi vedremo in seguito quali sviluppi ci saranno ora poiché si tratta di un pittore abbastanza noto ma non famosissimo dico abbastanza noto e oso dirlo adesso perché c'è una sua mostra in corso a Padova c'è una mostra in corso proprio sui disegni di Cominetti è forse il caso di fornire qualche breve informazione biografica e stilistica sul pittore mi scuso per quelli che già lo conoscono nacque a Vercelli nell'82 si formò inizialmente a Torino con i maestri del divisionismo come Pilizza da Volpedo Previati Segantini e Morbelli e nel 1902 si trasferì a Genova dove era attivo Plinio Nomellini che aveva appunto introdotto divisionismo poi simbolismo in Liguria e da questo momento anche Cominetti iniziò a utilizzare la tecnica divisionista rifacendosi in un primo momento soprattutto la pittura di Previati basata sulla stesura di lunghi filamenti di colore che seguono l'aspetto plastico dei soggetti Cominetti avrebbe poi elaborato una tecnica più personale basata sulla stesura di tratti di colore rapidi e spessi che potevano anche essere trasversali incrociati a questa data cioè almeno nei suoi dipinti iniziali Cominetti usava ancora prevalentemente tinte scure egli infatti iniziò a schiarire la tavolozza solamente dopo il 1906 e in maniera ancora più evidente dopo il trasferimento a Parigi nel 1909 dove aderì per breve tempo anche al futurismo negli stessi anni guardò anche alle opere dei cubisti dei fove che lo indussero a un ulteriore schiarimento della tavolozza e giunse poi a un impiego di un tratto pittorico sempre più dinamico nel 1911 iniziò poi a lavorare anche come scenografo illustratore un'attività che avrebbe continuato tutta la vita insieme a quella di ceramista ecco purtroppo qui non si riesce a vedere bene dalle immagini soprattutto nel dipinto di sinistra lussuria lui usa una tela molto grossolana e una preparazione magrissima anche un colore molto molto diluito purtroppo con le immagini è difficile avere la percezione di questo però insomma tutti questi dipinti tra l'altro devo dire si trovano ancora nella collezione Gilardo di Torino dove ne abbiamo campionati otto però i risultati del lavoro che vi presentiamo riguardano uno solo che è quanto abbiamo al momento nel 1911 Cominetti si arruolò volontario in cavalleria e divenne corrispondente e disegnatore di guerra e su questi disegni c'è ora la mostra in corso alla Villa Conterina e Piazzola sul Brenta nel 19 Cominetti tornò in Italia da Parigi e visse prevalentemente a Roma a Genova dove vabbè insomma credo che per quello che riguarda la vita ciò basta devo solo dire che morì piuttosto giovane nel 1930 in seguito a un incidente che lo portò a un emiparese un incidente accaduto nel 1928 ora per studiare la tecnica pittorica di Cominetti ci siamo basati essenzialmente su due canali di indagine uno l'esame dei suoi tubetti di colore che egli lasciò alla morte presso la famiglia che ancora gli conserva e poi l'esame e il campionamento di questi dipinti che si trovano sempre presso la famiglia Gilardo vi dicevo che abbiamo campionato otto dipinti purtroppo ad ora vi possiamo presentare solo i risultati relativi a questo dipinto che si intitola I due re ed è del 1916 cioè del periodo parigino dell'artista dal dipinto sono stati prelevati cinque campioni che sono stati analizzati col microscopio ottico a luce bianca riflessa luce ultravioletta col microscopio elettronico a scansione tramite la sonda EDS e col FTIR queste analisi hanno evidenziato che per esempio in questo dipinto I due re è stata utilizzata una preparazione tradizionale a base di gesso e colla quindi Giacomo Inetti esclude le preparazioni a olio così come esclude preparazioni a caseina vi dicevo preparazioni a gesso e colla in cui però sono state trovate addizioni di barite e calcite che poi vedremo anche in altri strati il legante impiegato è un olio ossiccativo e vabbè la stesura pittorica presenta la caratteristica sovrapposizione e accostimento dei tratti pittorici che caratterizza gran parte dei dipinti divisionisti per quello che riguarda la vernice si può dire sempre in base alle analisi che è stata usata una vernice terpenica che in base anche alle altre informazioni che abbiamo sulla tecnica di Cominetti possiamo ritenere si tratti di una dammar sciolta in essenza di petrolio cioè perché questo perché il solvente non è olio e sappiamo che Cominetti ha usato ora lo vedremo essenzialmente materiali pittorici della Lefranc dunque sapendo che c'era questa vernice Viberde della Lefranc che era realizzata con dammar sciolta in essenza di petrolio possiamo facilmente supporre che fosse questa la vernice utilizzata da Cominetti tali vernici peraltro erano state usate abbastanza spesso anche da altri pittori divisionisti ora l'essenza di petrolio tra l'altro volatilizzava questo lo sapranno gli scienziati meglio di me penso sia vero senza lasciare residui che potessero ingialire nel tempo questo era lo scopo principale di impiego di queste vernici come accadeva invece nelle vernici sciolte in essenze vegetali e inoltre la vernice questa vernice Viberde poteva essere realizzata con tre sistemi e tre metodi con scopi diversi la vernia Tableau la vernia Pendre e la vernia Retoucher che avevano anche funzioni differenti ovvio è interessante notare tra l'altro come calcite e barite non si trovano soltanto nella preparazione ma anche negli strati di colore dove avevano verosimilmente la funzione di cariche adulteranti poiché essendo delle sostanze di basso presto e a basso potere coprente venivano aggiunte ai colori per aumentarne peso e volume dico molto brevemente ora ma poi se ho tempo voglio riprendere questo discorso che aveva iniziato la collega Arianna Gambirasi facendo delle indagini sulle materie coloranti che in linea di massima questa era anche una delle linee di ricerca che ci eravamo prefissi cioè di verificare se e come i colori le franc fossero corrispondessero a quanto era scritto sull'etichetta vi dico che in linea di massima per quello che si è potuto vedere che è comunque poco i colori le franc corrispondono effettivamente a quello che c'è scritto sull'etichetta non è così per altre case per esempio le indagini condotte sul bleu de cobalt claire della Talens hanno permesso di verificare che non c'è nulla di cobalto in questo pigmento vabbè torniamo al al nostro Cominetti per ora dall'esame dei tubetti lasciati dal pittore che risalgono verosimilmente all'ultimo decennio di vita cioè 20-30 cioè quello che precede la morte non è stato possibile stabilire quali pigmenti impiegasse verosimilmente sempre Cominetti però dei 110 tubetti rimasti 83 ben 83 cioè l'80% del totale appartengono alla ditta francese Lefranc di conseguenza si era tenuto opportuno approfondire l'analisi sui pigmenti Lefranc utilizzando anche alcuni testi e documenti conservati negli archivi della ditta non avevamo ancora a disposizione il vostro libro se no ci saremmo risparmiati questa fatica vabbè abbiamo quindi esaminato alcune pubblicazioni come l'opinion du nom di colore edito edito nel 1930 dalla ditta Lefranc dedicato appunto ad Alexandre Lefranc e in questo testo dopo aver illustrato appunto l'attività di Alexandre forse il principale fra gli diciamo patron della ditta vengono presentati i migliori prodotti messi in commercio dalla Lefranc appunto dall'epoca di Alexandre fino al 1930 e di ogni prodotto viene illustrata la storia le caratteristiche chimiche le proprietà gli aspetti innovativi e i metodi di impiego queste descrizioni sono molto simili a quelle che si trovano a quelle con cui i vari prodotti venivano presentati nei cataloghi della ditta quindi si tratta di un'impostazione più che altro divulgativa e promozionale un altro testo è quello abbastanza utile la notizia adressée a monsieur le membre du jury della classe caravanduse che è un libretto stampato in occasione dell'esposizione universale di Parigi del 1900 per presentare alla giuria la ditta Lefranc in esso vengono fornite sia informazioni in tecniche tipo la sede legale ed altro sia informazioni di carattere più generale sui prodotti e infine abbiamo anche guardato i cataloghi della ditta Lefranc pubblicati tra il 1955 e il 1927 di cui sono stati presi in esame soprattutto alcuni materiali come i tubetti di colori ad olio ed in particolare quelli messi a punto con la collaborazione del chimico Jean Viber che appunto erano stati usati da Cominetti da questo esame emerso come a cavallo fra 800 e 900 la ditta Lefranc puntasse soprattutto a creare dei prodotti di buona qualità sia per l'aspetto cromatico che tecnico ciò portò la Lefranc a collaborare tra l'altro con Jean-Geor Viber che non ha bisogno di presentazioni in questo consesso all'inizio degli anni 90 Viber brevettò insieme alla ditta Lefranc alcune linee di prodotti di sicura stabilità a cui diede il suo nome tra questi vi sono i color superfins broyer all'huile d'après le procédé de monsieur Viber una linea di colori ad olio di ottima qualità che venivano commercializzati in una ristretta gamma di tinte proprio perché il chimico francese aveva escluso tutti i pigmenti che presentassero problemi di stabilità questi colori avevano un prezzo elevato ed erano adatti alla pittura de cavalletto questi colori nella fattispecie non vennero usati da Cominetti Viber ideò anche l'essenza di petrolio che veniva prodotta dall'Alefranc in una specifica raffineria e grazie proprio all'essenza di petrolio egli poté produrre le tre vernici a cui già accennavo cioè la vernia a tableau a pandre a retouché e poi fu l'inventore di alcune preparazioni a base di zinco con la di caseina di cui si è appena parlato nonché di alcuni pigmenti come il Brun Viber e la Lac de Fer dall'89 la ditta Lefranc aveva anche cominciato a stampare la composizione chimica dei pigmenti sull'etichette e dal 1897 la composizione chimica veniva indicata anche nei cataloghi accompagnata a partire dal 1898 anche da un breve testo esplicativo intitolato Composition Chimique de Colors che è appunto questa di cui vabbè abbiamo riportato anche il testo che peraltro credo tutti conosciate dall'esame dei cataloghi è emerso che anche Cominetti si era servito di differenti linee di colore fra quelle fabbricate dall'Alefranc tra cui la più utilizzata l'80% dei tubetti rimasti nell'aceto Cominetti appartengono a questa linea di colore che vedete qua nella slide e sarebbero i colori extrafinan tube per la Pantilla Aluil di cui nel catalogo si leggeva tutti questi colori sono di prima qualità e di una perfetta raffinatezza questi degli 83 tubetti dell'Alefranc che si trovano nell'ascito Cominetti 56 appartengono a questa linea di colore abbastanza costosa e di buona qualità ma non proprio il top come quella Viber altre linee di colore cioè il 20% dei tubetti usati da Cominetti appartenevano a altre due linee pubblicizzate nei cataloghi dei Franc che sono appunto i colori fin broyer Aluil per la decorazione artistica in questo caso si tratta di 13 tubetti sempre su 83 e poi un po' meno 4 tubetti su 83 i colori matti per la decorazione artistica per la Pantilla e imitation di tapisserie la prima linea era più economica ed era stata ideata proprio poiché la Lefranc si era resa conto che i colori extra fini cioè questa diciamo tipo C erano troppo costosi per i decoratori e quindi questi erano costretti ad accontentarsi di colori ad olio di scarsa qualità la ditta parigina aveva allora creato per essi dei prodotti di discreta qualità ma di costo comunque contenuto che all'interno dei cataloghi erano presentati in questo modo dovrebbe esserci anche una leggenda questa nuova serie di colori che garantiamo la qualità e la finesse riunite tutti gli avanti come l'emploi per la grande esecuzione eccetera eccetera ce l'abbiamo il testo sì ecco allora vado via più veloce senza riportare tutto allora e invece come vi ho già detto non risulta che Cominetti utilizzasse i colori superfimuro e aluil realizzati secondo i procedimenti di Viber garantiti da Viber sia per la scelta dei coloranti sia per la scelta dei leganti un altro esame che abbiamo fatto ma di cui penso sia un po' noioso dar conto in questa sede è quello delle etichette correlate alle varie serie di pigmenti che purtuttavia abbiamo dovuto fare perché molti di questi pigmenti dell'ascito Cominetti erano rovinati e quindi per identificare la serie utilizzata dal pittore spesso abbiamo dovuto ricostruire anche la tipologia dell'etichetta ora tornando alla tecnica pittorica di Cominetti si trattava quindi di capire se le sue scelte tecniche erano affine a quelle degli altri pittori divisionisti e se e come l'ambiente divisionista in cui egli si formò avesse potuto influenzare le sue scelte tecniche è noto infatti che i pittori divisionisti presentavano una grande attenzione alla stabilità dei materiali pittorici ma in realtà questo dibattito risaliva già ai primi decenni dell'ottocento quando iniziarono a diffondersi tra gli artisti i pigmenti e i materiali pittorici di fabbricazione industriale e nel contempo la formazione pittorica veniva progressivamente accantonata nelle accademie a favore di quella grafico-disegnativa è un problema a cui ha appena fatto riferimento anche Lara Marchese gli esempi sono numerosi citeremo soltanto la testimonianza di Jean-François Merimet che nel suo trattato della Pantri-Rawil del 1830 scrisse eccolo qua i pittori non preparano più essi stessi da sé i propri colori e quindi non sono più in grado di distinguere i cattivi da quelli meno buoni e li utilizzano senza scegliere e molti spesso poi utilizzano per un malinteso spirito di risparmio i peggiori e queste sono le principali cause a cui vanno attribuite va attribuita la rapida rapido degrado di molti dipinti moderni in realtà oltre alla cattiva scelta e allo spirito di economia dei pittori c'è anche il fatto che molti fabbricanti di colori usavano pigmenti più scadenti di quelli dichiarati nelle etichette oppure aggiungevano degli additivi di basso prezzo che aumentavano il peso e il volume dei pigmenti di questi colori ma nell'ultimo decennio del XIX secolo artisti e trattatisti iniziarono a chiedere sempre più spesso maggiori informazioni sui colori venduti ed alcune ditte come la Lefranc e la Windsor e Newton cominciarono a indicare la composizione chimica al grado di stabilità dei loro prodotti come abbiamo appena visto in queste indicazioni uno dei manuali più importanti di questo periodo fu indubbiamente la science de la penture di Jean Viber che ebbe origine tra l'altro da un ciclo di lezioni e conferenze sulla chimica applicata alle belle arti tenute dall'autore presso l'Ecole des Beaux-Arts e come è appena stato ricordato fu tradotto appena due anni dopo in italiano da Gaetano Frebbiati Viber come già Merimè imputava lo scadimento tecnico della pittura contemporanea al progressivo disinteresse degli artisti verso i materiali pittorici a cui aggiungeva la disonestà di molti produttori insomma sono due cose che vanno sempre insieme ecco ricordo qui alcune alcune di queste citazioni che immagino tutti conosciate per cui non occorre rileggerle non ho guardato il tempo per cui mi affido ah ecco allora siamo quasi alla chiusura Viber ecco vediamo infine per concludere nel quinto capitolo del suo libro Viber affrontando il problema delle materie coloranti descrive la composizione chimica dei pigumenti distinguendo quelli stabili da quelli instabili ed è interessante notare che tutte le ricette riportate sono quelle seguite nella produzione dei colori Lefranc per cui al termine del suo testo Viber fornisce una specie di garanzia sui prodotti della ditta francese cosa peraltro nota e gli scrive infatti queste sono le citazioni che vediamo allora mi accingo alle conclusioni e quindi per quello che riguarda il confronto tra le tecniche pittoriche dei divisionisti e quelle di Cominetti possiamo molto sinteticamente dire che entrambi usarono materiali dell'Alefranc di cui iniziava 1882 quindi è una generazione successiva a quella dei divisionisti ricordati prima dalla professoressa Tosini e poi i divisionisti come i Cominetti si servivano spesso di preparazioni tradizionali ma Cominetti in particolare a base di gesso e colla non era così univoca abbiamo visto per altri artisti questa scelta anche se dunque in molte di queste preparazioni ma questa è anche una cosa che si verifica abbastanza frequentemente troviamo adizioni di barite calcite questo è normo ed infine sia i divisionisti che i Cominetti utilizzarono spesso le vernici Viberlefranc quello che si può dire per quanto riguarda Cominetti allo stato attuale della ricerca è una diciamo consapevolezza tecnica infinitamente inferiore a quella per esempio di Pelizza da Volpero che sta appena ricordato cioè si limita a fare una buona scelta di materiali che per lui è la scelta dei colori Lefranc dopodiché non risulta al momento attuale nulla di scritto nelle sue lettere o altri testi per quello che riguarda la stabilità la durabilità dei prodotti ne risultano prove di materiali ecco quindi una situazione infinitamente più semplificata rispetto ai pittori che sono stati ricordati precedentemente un'altra notazione riguarda l'uso dei pigmenti di nuova introduzione ecco sia in Pelizza e Segantini che anche in Cominetti troviamo molti pigmenti per così dire nuovi quindi per esempio ecco lui non usa giallo indiano verde giallo peruviano violetto di Marte violetto Van Dyck blu de chine branviber che usano Pelizza e Segantini però usa blu ceruleo naturalmente lacche di Alizarina rouge de cadmion verde chine violet mineral e violet de cobalt ecco questi sono al momento attuale gli unici pigmenti di recente introduzione che sono stati trovati nell'ascito Cominetti ci sono anche delle tavolozze rimaste che per ora non sono state ancora analizzate quindi non ho però una drastica riduzione della gramma cromatica questo non si può dire però diede comunque molta importanza alla qualità e alla stabilità dei prodotti che gli adottò e comunque cercò anche di fare una scelta prudenziale non estrema nella scelta della qualità dei materiali come vi dicevo scegliendo la qualità più alta se non proprio il top dei materiali forniti dal Lefranc vi ringrazio grazie 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 essere quadri di pellizza, però sono magari del 1915, a quel punto non è neanche il materiale perché i colori Lefranc erano uguali nel 1890 e nel 1915 perché la signora ha detto che avevano testato i tubetti verificando il componente, l'avevamo fatto anche noi su quelli di pellizza, quindi databili prima di quelli di Cominetti e la rispondenza era perfetta, quindi a quel punto non è un dato di pigmento, un dato di colore, è magari la messa in relazione del dato di colore col fatto compositivo, magari con la presenza di un disegno preparatorio o meno, qualcosa che si riferisce al ductus proprio della pennellata, ecco sì, però queste non sono analisi che da sole servono per chiarire qualcosa, quindi è così, e infatti è il nostro dramma che a volte si trovano dalle cose che sono anche belle, ci ispirano di no, però non possiamo basarci sul colore, non possiamo basarci su altre cose per dire che non lo sono poi il falsario non va, il falsario non va, sui falsi recenti è un'altra cosa, ma sulle imitazioni, chiamiamole così, sulle imitazioni storiche, quindi di 10, 20, 30 anni dopo l'esecuzione dei quadri è molto difficile, è proprio l'esercizio critico che deve arrivare a una conclusione Non so se ho risposto Sì, Paolaia Azzurlo Grazie, no, volevo intervenire in merito a questa questione dei falsi perché siamo stati spesso coinvolti noi come restauratori dell'Istituto Centrale per il Restauro che ci occupiamo di contemporaneo e in effetti dipende un po' dall'artista ovviamente di cui stiamo parlando però in effetti dei marker temporali ci sono e sono in realtà molto preziosi la professoressa parlava del bianco di titanio per cui chiaramente si tratta di un tipo di pigmento che se si trova in opere che cronologicamente dovrebbero essere prima del 1916-19 diciamo sulle emissioni perché poi dobbiamo parlare delle emissioni sul mercato oltre che alla semplice brevetto è molto probabile che possano essere delle esecuzioni posteriori e poi soprattutto l'aspetto dei leganti perché molte opere per il periodo che interessa a lei credo che riguarda proprio il periodo futurista su cui ci siamo cimentati e ci siamo stati coinvolti dai carabinieri in realtà sono stati spesso si sono rivelate eseguite con leganti sintetici che effettivamente in quel periodo non esistevano quindi tutto ciò che è acrilico o vinilico deve necessariamente essere considerato posteriore può essere considerato un falso molto più difficile è quando invece ci troviamo a lavorare con i carabinieri che ci chiedono spesso queste collaborazioni per definire, accertare appunto la falsità o meno di opere che magari fanno riferimento ad artisti che sono morti molto tardi che hanno lavorato comunque già dopo gli anni 60, 70 lì veramente diventa molto molto complicato si tratta veramente di intrecciare tanti fattori e veri e propri marker temporali non li abbiamo però ecco per quanto riguarda il periodo precedente di cui abbiamo parlato in questa mattinata in realtà è molto più facile poi di quello che si può pensare perché a volte molto spesso chi falsifica lavora con prodotti sul mercato immessi dopo non so se ho risposto Passo a Ezio Buzegoli una considerazione anche da fare nell'ottica del riconoscimento di un falso è quella dell'inserimento all'interno della produzione di un qualche cosa che si riteneva non potesse essere scoperto mi alludo per esempio alle possibilità offerte dalle moderne attrezzature riflettografiche per cui si riesce a mettere in evidenza il disegno preparatorio o la struttura stessa di certe sovrammissioni e se il falsario ha fatto il falso prima che questi metodi potessero entrare in uso non ne ha tenuto conto e quindi in questo modo si riconosce Francesca Modugno un'osservazione che mi viene in mente proprio ascoltando questi ultimi contributi e che anche se forse si tratta ancora di qualcosa di non attuabile allo stato dell'arte presente però proprio in tutti quei casi le imitazioni i casi in cui non abbiamo dei marker temporali come i polimeri di sintesi usati come eleganti come dei pigmenti introdotti successivamente ma abbiamo delle imitazioni realizzate necessariamente con gli stessi materiali come componenti principali idealmente una caratterizzazione chimica avanzata dei materiali d'atelier dei materiali d'archivio delle case produttrici che ci permettesse e potenzialmente c'è questa possibilità tecnica di identificare la linea cioè a livello di casa di produzione anche di linea di colori grazie non ai componenti principali ma agli additivi alle cariche a quei componenti più strani e più originali come l'ambra o come una serie di additivi che arrivassero a creare una fingerprint della linea di colore quella potrebbe essere invece una possibilità di contribuire all'attribuzione sulla base della scelta di una linea piuttosto che un'altra anziché rispetto a un materiale totalmente improponibile in quel momento storico farei io una domanda a Catherine Kinzer c'è un'osservazione I have noticed that there are a lot of elements in common in the discourse on the materials and on the poor education artist's education technical education lots of points in common between France Italy Germany England so we are here and we're in an international context and this is very useful to speak about this maybe because you you proposed an overview on on this on the German context which is I don't know if it's complete but it's it's quite convincing under for me it's interesting to discover that German academies like Weimar Dusseldorf and and München had laboratories because I would have liked to find something like that in Italy actually but what I would like to know and it would be interesting to see if there were relations relationships between the academies or between these the 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 main persons responsible for these researchers I think of Mussini working for Schmincke what was his background so did this I mean his Italian background did this influence in some way his his relation to Germany or I don't know because we know we know relations from artists Italian the most famous Italian artist that we know was in active in Germany was the Kiriko actually and he knew was quite about informed of this but before was there a discourse a common discourse or was it only a fight a commercial fight between Talens Lefranc Winsor and Newton that's what I would like to to find out yeah thank you for your question which covers such a wide field so maybe first I have to state that the real laboratory for academy paint manufacturing was in Weimar and with their own brand Düsseldorf had his two industrial companies Schoenfeld and Schmincke and in Munich our own brand really never succeeded on the market so it was this normal oil paint which was developing and it was also marketed but it was not really identified with the academy directly as the Weimar Farben in Weimar Jashmincke in Düsseldorf succeeded to buy the recipes by Mussini after his death from his son and so they started to produce this resin oil paint and as I see it this was really new on the market industrially manufactured resin oil paint because I have no information about how Mussini marketed his paints in Italy if they were already sold in tubes or if it was only a handmade manufacturing process and he delivered it to friends or he produced only for himself like Heinrich Ludwig because Heinrich Ludwig living in Rome he had this small laboratory or hand manufacturing room and produced for his and his friends and Keim was contacting Ludwig and asked him to do a more bigger thing together this failed and Heinrich Ludwig went on with Schoenfeld in Düsseldorf during his lifetime and though you had a second resin oil paint industrially manufactured on the market with Ludwigs petroleum farben and what I can say to this question of connections between the academies what I found was a real competition between the Munich academy or the Munich laboratory for painting techniques and the Weimar laboratory and there is a correspondence between the director of the Weimar academy corresponding to the follower of Adolf Wilhelm Keim Gustav Schulz a professor for chemistry at the technical Hochschule and Schulz was very ambitious to have laboratory in Munich because he said Munich is a place where the research has to take place and not Weimar and in this tradition now is Munich with the Doerner Institute for example and we know very less about Weimar today Well I think when chemists started to get into the field and trying to explain what was going on I think a very fundamental problem became obvious that is not solved until today because the question is what is painting is it something you do is it a hand craft or is it something you can also talk about is it a theory and I think theory and practice still today don't really fit together which explains why it's so complex to explain all these things and I think that problem became quite obvious in the 20th century in Munich I just know a little bit about Munich the people involved in these discussions in Munich were kind of difficult person all of them I think so they didn't get along so well but maybe that is a more fundamental problem that the pieces of the puzzle don't fit together and kind of everybody died except Dörner and he wrote his book that is still famous today and he has a very practical approach and from a chemist point of view this is difficult so when we also Andreas Burmist our director I talked to him about this several times when we read Dörner it's kind of interesting but you get a very bad feeling as a chemist you think well that's not right somehow so it's still the problem is it something you do or not and I think we didn't address that well enough yet for example there was a statement in a talk before the most important question when you ask about the stability of a paint is the ground so it's not the paint it's the way you apply it and I think that's a very fundamental thing we are talking about materials but actually it's not the material it's the application it's also turned up in the talk of Joyce Townsend about McGill one says well McGill is as stable as everything and it's not a question of the material but it's a question of the application and I think we still today do not yet understand well enough or do not have the models that are precise enough to explain the details that are really important and you can see that also in the historic discussion I think I'll try to explain a little bit more in my talk in the afternoon but so much thank you Patrick Monica Vinardi grazie volevo solo una nota sulla sulla supposta contraddizione tra pensiero teorico di grubici e uso delle preparazioni oleose se noi prendiamo come riferimento la lettera a benvenuti che invece consiglia preparazioni gessose e ci stupiamo del fatto che alla fine degli anni 90 lui usa una preparazione oleosa può in qualche modo essere così compresa analizzando vedendo che praticamente grubici in quel momento è molto vicino a Mario De Maria vi è una lettera che loro si scambiano dopo aver realizzato un quadro congiuntamente insieme loro teorizzano proprio addirittura di fare dell'arte impersonale in cui grubici si rammarica del fatto che dell'olio stia tornando da sotto quindi potrebbe essere un riferimento a questo uso di una preparazione oleosa nello strato di preparazione della tela quindi voglio dire grubici era un personaggio molto mimetico si avvicinava agli artisti amichevolmente e ne surgeva ne carpiva tutti i segreti cioè i segreti era uno scambio uno scambio che lui riusciva ad attivare in modo molto aperto così con De Maria era scattato questa sintonia quindi può essere che questo riferimento in questa lettera possa indicarci che alla fine degli anni 90 una pratica forse condivisa con De Maria fosse proprio quella di una preparazione oleosa ecco solo questo grazie mille dell'osservazione intanto senz'altro è una possibilità e magari possiamo parlare anche in maniera più approfondita comunque è sicuramente vero che noi abbiamo appunto analizzato purtroppo veramente pochi dipinti e su quei pochi dipinti è difficile fare delle considerazioni generalizzare fare delle considerazioni molto ampie è chiaro che gli artisti sperimentavano non soltanto una tipologia di preparazione ma ne sperimentavano diversi tipi quindi è possibile anche che ci sia stata un'evoluzione nel suo pensiero quindi che confrontandosi con altri artisti poi abbia deciso di rivolgersi lui è l'estensore della linea commerciale cioè questo è fondamentale lui poi per tutto non elabora una propria teoria del colore ma riporta ampi nei suoi interventi critici riporta ampi stralci da altri testi di riferimento che divulga presso gli artisti cioè è una persona profondamente informata del contesto ma anche dal punto di vista della cioè lui in qualche modo condivide condivide un materiale ampio ma non è non è tanto da vedere come un elaboratore di teorie questo è il fatto della così c'è anche una temporalità dell'applicazione pratica della tecnica artistica quindi no mi interessava perché il periodo è proprio quello della fine degli anni 90 in cui lui è molto vicino a Mario De Maria che aveva fatto sperimenti proprio con i seccativi di Harlem quindi non so da un punto di vista di lettura delle carte io riscontro questo non so se poi si può effettivamente cioè se è proprio questo l'uso della preparazione a cui loro fanno riferimento in questa lettera lui dice proprio torna l'olio da sotto ed è un guaio insomma perché il dipinto si sta rovinando ripartiamo ripartiamo e per quest'ultima parte della giornata al termine di questi quattro interventi avremo poi spero tempo in modo di 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 riaprire la discussione per quanto questo sarà possibile e in questa quarta diciamo così e ultima parte della giornata stiamo per affrontare alcuni casi legati appunto ad artisti e casi studio che saranno affrontati non non tanto diciamo così da un punto di vista meramente scientifico analitico conservativo ma anche con lo sguardo appunto alla complessità alla totalità diciamo così dei problemi dei materiali e della gestione anche degli spazi legati all'atelier dell'artista l'intervento che apre questa ultima parte è di Marilena Pasquali presidente del centro studi Giorgio Morandi alla quale do subito la parola ringraziandola grazie davvero per l'invito e anche per tutto quello che ho ascoltato fino ad ora che mi ha come dire dato molto insomma mi ha anche insegnato molto sinceramente in effetti il mio approccio è di tipo diverso è di tipo storico-critico quindi non tecnico non storico-tecnico sia per la mia formazione naturalmente per le mie prospettive di ricerca ma anche perché Giorgio Morandi non parla abitualmente non ha parlato non ha descritto né i propri procedimenti né tantomeno i propri materiali nel senso appunto come abbiamo visto fino ad ora e quindi non aiuta neppure in questa ricerca Morandi quando scrive e noi abbiamo moltissime sue testimonianze che sono conservate in massima parte presso il centro studi Giorgio Morandi Morandi quando scrive risponde a sollecitazioni altrui a richieste ma parla pochissimo di sé di sé soprattutto della sua poetica e dei suoi materiali al massimo parla delle sue opere però c'è da dire un però conosciamo molto bene invece come agisce Morandi come si comporta perché abbiamo avuto da un lato la fortuna di poter entrare nello studio conservato dalle sorelle Morandi come si sa aveva tre sorelle nessuno dei quattro era sposato non hanno avuto figli le sorelle sono state veramente un po' le vestali prima le custodi della sua vita e poi le vestali della sua memoria e quindi è arrivato a noi intatto lo studio intatto e questa è stata indubbiamente una grande fortuna lo studio venne trasferito presso l'allora costituendo c'è stava per aprirsi il museo Morandi a Bologna il museo si è aperto nell'ottobre del 93 quindi sono ormai passati 22 anni beh l'anno scorso il comune di Bologna l'ha chiuso ma questo è tutto un altro discorso ha preferito chiuderlo ma a parte questo dicevo si è aperto nel 93 e subito prima praticamente pochi mesi prima si procedette allo spostamento dello studio quindi proprio al trasloco fisico di tutto in una camera del museo appositamente realizzata misure uguali a quelle dello studio originale avevamo naturalmente una base sia di tipo proprio non solo fotografico ma insomma con tutti i rilevamenti del caso e quindi è stato ricostruito identico salvo il fatto della finestra e questo era comunque un grosso problema anche allora perché la finestra era posizionata collocata in un'altra posizione quindi non era materialmente possibile rifarla nello stesso modo però lo studio ricostruito nel museo aveva il grandissimo vantaggio di mettere a confronto vicine le opere agli oggetti quindi alle composizioni di oggetti che Morandi via via andava predisponendo per poter poi dipingere di questo anche parleremo comunque dicevo quindi la grande fortuna di avere lo studio a disposizione con tutto naturalmente opere no le opere erano state tolte alla morte di Morandi dalle sorelle salvo quella l'ultima compiuta però è firmata che è rimasta appunto sul cavalletto quando nel giugno del 64 Morandi è morto ma tutto il resto era rimasto esattamente allo stesso posto addirittura si veniva pulita la stanza ma laddove c'erano gli oggetti tutti intorno ora lo vedremo questo è l'entrata diciamo tutti intorno sono gli oggetti praticamente pulivano le sorelle ogni tanto giusto per non avere un problema di igiene ma non toccavano assolutamente nulla e poi l'altra fortuna che Morandi e questo lo sappiamo è sempre stato un artista molto molto esigente meticolosissimo che ha sempre preteso il meglio nei primi anni questo fino a tutti gli anni 30 fino perlomeno al 1929 quando ha avuto lo stipendio di professori di tecniche dell'incisione all'Accademia di Belle Arti di Bologna Morandi non era un uomo di grandi possibilità economiche con tre sorelle più giovani e la mamma a carico però ha sempre pretesi il meglio sentivo naturalmente stamattina tante volte sono così ricorsi i nomi delle ditte i cui prodotti Morandi usava abitualmente questo si sa cioè e quindi Le Frank Winsor e Newton erano sicuramente i suoi ci sono in studio i materiali e addirittura noi da alcune lettere rivolte agli amici che viaggiavano quindi non lui ma i suoi amici come Cesare Brandi e poi naturalmente Lamberto Vitale e poi i suoi collezionisti come Emilio Iesi o Francesco Paolo Ingrao in tempi più recenti ma ecco lui chiedeva continuamente a chi andava in viaggio di comprargli sul posto ad esempio a Londra i colori inglesi i tubetti i famosi tubetti e quindi ha sempre avuto e poi non solo per il colore le tele migliori la carta quando disegnava soprattutto poi negli ultimi anni l'acquarello per Morandi è un'esperienza soprattutto tarda dal 59 al 64 alcuni esempi precedenti ma pochi negli ultimi anni la carta d'acquarello era la carta Fabriano assolutamente di grammatura giusta abbastanza pesante e anche questi sono addirittura i blocchi di carta Fabriano sono rimasti nello studio e così anche per rispondere per esempio stamattina si parlava del problema dei falsi uno degli elementi uno unito a tanti altri in una complessità notevole uno degli elementi che noi abbiamo per capire a volte sta proprio nella conoscenza della carta la carta per i disegni la carta per gli acquarelli Morandi non usava mai carte come dire casuali d'occasione così non avrebbe mai usato una tela d'occasione io riconosco scusate le modestie ma i dipinti di Morandi quando mi arriva qualcuno lo vedo da dietro no perché quando la tela è troppo ruvida di trama troppo larga eccetera sicuramente non è una tela usata da Giorgio Morandi e così che so per i telai per le cornici la chiodatura dei telai cioè noi abbiamo tutti gli esempi di come fosse assolutamente prima usato il termine esigente direi persino pretenzioso cioè non si accontentava di nulla tanto che i dipinti di Morandi ancora oggi hanno relativamente pochi problemi di conservazione proprio perché sono stati fatti insomma rispetto al tempo e al luogo diciamo in maniera ineccepibile sono stati realizzati in maniera ineccepibile quindi il discorso di oggi mio così verde più sul rapporto con altri materiali di Morandi che sono gli oggetti il passaggio dal rapporto diretto con gli oggetti che lui via via si sceglieva alla composizione di questi oggetti e fin poi alla pratica della pittura e alla realizzazione dell'opera ecco partendo dallo studio per Morandi come si vede anche in questa foto lo studio non è semplicemente l'atelier un po' sicuramente per scelti direi per così la vita per vicende della vita ma lo studio per lui è la sua camera cioè quello che si vede con una specie di turca sul fondo è il suo letto cioè lui viveva in mezzo ai quadri ai disegni alle incisioni in mezzo all'odore di pittura cioè questa era la sua vita la mattina andava in accademia percorrendo sempre le stesse strade e poi in casa a lavorare qui tanto che quando è andato in pensione ha lavorato molto di più perché aveva molto più tempo ha distrutto anche meno fra l'altro Morandi ha distrutto moltissimo ecco qui si vede già in questa foto questa è una foto di Gianni Berengo Gardin perché appunto nel 93 prima di spostare lo studio interpellammo e lui accettò molto volentieri questo grande fotografo perché venisse appunto a dare un'ultima testimonianza fotografica dello studio di Morandi prima dello spostamento prima di lui c'erano stati altri grandi fotografi come Mulas lo stesso Lamberto Vittali Luigi Ghiri di cui vedremo due o tre immagini ma indubbiamente l'ultima fissare l'ultima immagine è quella appunto di Berengo Gardin l'ha fatto lui e questo è naturalmente come una storia ci fu un libro catalogo un volume appunto nel 93 quando si inaugurò il Museo Morandi quando inaugurai il Museo Morandi questo viaggio nella casa di Morandi fatto da Berengo Gardin che comincia addirittura dalla porta d'ingresso poi sale e poi arriva allo studio lo studio era appunto la sua camera da letto preceduto da una stanza dove dormiva dormiva un'altra sorella e poi c'è un'altra porticina dove dormivano le altre due quindi la vita era un po' come in casa balla cioè tutti insieme però indubbiamente questo non era solo il suo atelier ma era proprio il luogo direi un luogo mentale concettuale in cui vite e opera i Morandi si sommano proprio e si fondono è un artista che praticamente non ha lo si sa una vita diversa da quella non voglio dire autonoma diciamo diversa da quella della sua pittura della sua arte spesso viene definito in questo modo abbastanza superficiale il monaco di Via Fondazza sono sciocchezze sono stupidaggine in realtà Morandi era un uomo informatissimo parlava in continuazione di tutto di politica eccetera ma soprattutto teneva la sua arte e a questa veramente ha dedicato tutto se stesso quindi lo studio per lui non è solo luogo di lavoro è proprio a me ricorda molto il concetto rinascimentale dello studiolo in cui proprio ci si spoglia il limite dei panni del quotidiano e si entra in un mondo fatto di meditazione anche di contemplazione l'unica differenza essendo lui un uomo del ventesimo secolo che non distingue le due aree perfettamente cioè non c'è l'ozium e prima o la mattina dopo il negozium ma le due sfere sono fuse in una sola e gli impicci del quotidiano vengono in parte demandati alle sorelle e in parte risolti per quanto però riguardava l'insegnamento perché per tutto il resto assolutamente tutto era affidato alla cura di queste tre prima della madre perché poi la madre è morta che lui va già a 60 anni quindi si può dire che lo studio è uno spazio che espira insieme a lui è proprio la proiezione della sua mente e ancora di più l'unità di misura di uno spazio è una scatola è una cubatura che riflette e si riflette nella scatola cubatura dell'opera perché anche l'opera sono costruite come una scatola prospettico geometrica tutto ciò che è nello studio ha un ruolo e ricordo questa frase che non viene mai citata sapete che di Morandi ci sono soltanto cinque interviste appunto non parla mai di se stesso gliele hanno proprio storte cavate fuori questa è del 64 quindi dell'anno della morte e viene rilasciata a un vecchio non posso dire un vecchio amico insomma un conoscente di tanti anni Arnaldo Beccaria allievo Dungaretti che nel 39 aveva scritto il primo libricino monografico su di lui e appunto Beccaria torna a trovare Morandi quasi alla fine e tra le varie cose una lunga intervista tra le varie cose Morandi afferma ho molto rispetto per gli oggetti che ho usato almeno una volta e quindi conserva tutto Morandi quando è toccato a me questo compito emozionante affascinante di spostare fisicamente tutti gli oggetti di Morandi che poi sono stati fotografati catalogati eccetera e rimessi nello studio del museo un po' d'anni fa il comune di Bologna ha preferito riportarli in via Fondazza solo che nel frattempo la casa di Fondazza era stata completamente trasformata secondo un'ottica di new design che effettivamente con Morandi c'entra molto poco però insomma parlando dell'artista ricordo appunto questo fatto spostando tutti i suoi oggetti dentro dentro le brocche dentro le bottiglie era pieno di ancora adesso perché non è stato toccato nulla di non so i fiammiferi usati biglietti del treno biglietti di mostre infatti sarebbe un'azione un'attività interessantissima di ricerca andare allora non c'era materialmente il tempo di farlo andare dentro a vedere perché per esempio questa storia che Morandi non andasse mai da nessuna parte non viaggiasse volesse solo star lì non è poi vera cioè la sua vita era quella ma lui era costretto molte volte quindi andava spessissimo a Roma spessissimo a Firenze e allora anche tutte queste cose sarebbero in qualche modo suffragate queste notizie storiche che noi abbiamo verrebbero ancora più documentate attraverso anche questa ricerca minima all'interno degli oggetti di Morandi tiene tutto tiene ad esempio i gusci di noce perché perché poi anni dopo addirittura nel 60 61 62 li utilizzerà per fare gli acquerelli per dipingerli dentro gli acquerelli negli acquerelli li usa come forme appunto perché poi Morandi tiene tutto e dopo andrò rapidamente avanti per il semplice fatto che lui non tiene le cose per motivi effettivi e neppure di significato non è mai un discorso simbolico li tiene perché sono forme che gli interessano e quando lui trova scopre trova una forma che gli interessa non la lascia più perché gli rappresenta quel dato elemento geometrico tutto lì noi abbiamo una specie di custodia di cartone che è già usato nei quadri della metafisica e la potremmo mettere accanto a una teiera di un servizio che viene giù dritto da Napoleone attraverso una famiglia nobile bolognese cioè per lui hanno lo stesso valore una teiera diciamo nobile vicino a un involucro custodia di cartone perché sono due forme geometriche che gli interessano semplicemente tridimensionali piene geometria solida naturalmente quando una cosa non è più in uso cioè non usa sempre gli stessi oggetti Morandi lui poi li chiamava i miei modelli seguendo la lezione addirittura rinascimentale quando una cosa non è più in uso non la butta via l'abbiamo già detto ma la ripone in un ripostiglio si sapeva che doveva esserci da qualche parte in questa casa un ripostiglio in effetti Maria Teresa l'ultima sorella di Morandi quella che ha fatto la grande donazione che ha consentito l'apertura del museo appunto sempre all'inizio del 93 in questo caso mi consegnò la chiave e mi disse dove era era nascosto dietro nascosto sapete quelle porticine scomparsi in una casa che è del 600 niente c'era il torchio l'ultimo torchio su cui Morandi ha fatto le prove di stampa delle sue ultime incisioni negli anni 50 fine anni 40 anni 50 primissimi anni 60 e dietro questo torchio la porticina pomeriggio di febbraio apro la porticina insieme a un'altra persona di fiducia di Maria Teresa perché si lavorava appunto per l'apertura del museo Morandi e ci troviamo davanti all'interno di questo ripostiglio ecco questi sono e mi interrompo sono gli appunti appunto vi dicevo tiene tutto anche gli appunti attaccati al muro ma vicino a questi poteva esserci che so una prova di colore questo è lo studio di Bologna in via Fondazza ma a Grizzana sull'Apenino Tosco Emiliano dove andava quasi sempre durante l'estate e dove ha avuto una casa con lo studio sì lì separato negli ultimi quattro anni di vita dal 60 al 64 al 63 poi addirittura sulle persiane esterne delle finestre di Grizzana abbiamo trovato le prove di colore pezzettini di tela dipinte per vedere come reagivano come avrebbero potuto regire questi colori al sole addirittura fili di paglia fili di fieno per vedere come cambiavano i colori anche nella natura anche nell'elemento naturale e quindi in questo caso invece sono appunti che valgono quanto non li ha mai dipinti questa era proprio una vita normale perché appunto lui viveva lì ecco ma vi parlavo del ripostiglio vedete alla vostra sinistra sì alla vostra sinistra la porticina chiusa davanti alla quale appunto c'era il torchio e poi la porticina aperta e si intravede che cosa c'era nel ripostiglio nel ripostiglio c'erano oggetti anche molto amati ma che non usava più negli ultimi anni ci sono oggetti che lui ha usato sempre ad esempio c'è un certo orologio sempre di schiena dalla parte del verso mai si vede l'orologio con la sua funzione diciamo un orologio da tavolo che lui ha usato dalla metafisica fino al 63 64 ma ce ne sono altre che a un certo punto non ha più usato ad esempio i manichini della metafisica che li ha usati solo nel 18 inizio 19 e basta sono qui cioè erano qui poi sono stati portati ecco vedete e proprio qui questo è un angolo del ripostiglio e proprio qui abbiamo scoperto che il manichino vedete questo manichino femminile insomma i manichini che lui usa per i 11-12 quadri metafisici che conosciamo i manichini sono due non hanno mai il volto perché questi sono due manichini da sarta non sono i manichini tipo de chirico quelli da atelier non ha comprato dei manichini da pittore morante li ha avuti chissà da un'amica delle sorelle chi lo sa sono due manichini da sarta questo che è il manichino femminile vedete che c'è un segno nel collo aveva la testa girabile per cui lui l'ha girata e ha dipinto sempre la nuca con questo inizio di décolleté inizio di busto l'altro manichino è maschile ed è tagliato invece in senso verticale infatti lui l'ha rappresentato sempre dalla parte della nuca cioè senza lineamenti senza sottolineature fisionomiche ma a volte intero le due valve accostate a volte le due parti separate come alcune opere testimoniano anche a breve eccetera per cui ad esempio si è scoperto che questo problema dei manichini il manichino femminile è rappresentato in un dipinto straordinario che è l'Ermitage di San Pietroburgo e che ha qui nel collo una specie di fiammella su questa fiammella è stato scritto moltissimo perché si è detto che era addirittura un accenno beh a parte che è del 18-19 ma comunque è il quadro un accenno quasi surrealistico comunque magico di Morandi qualcosa di incantato in realtà il manichino ha un piccolo decoro dipinto su legno di un piccolo fiorellino una cosa normalissima che Morandi però naturalmente ha trasfigurato a modo suo e per quello che gli interessava quindi queste cose nello studio nel ripostiglio scusate e anche nel ripostiglio c'è questo ripiano alto ecco qui ricollegandomi a quanto Mattia dicevi prima per questo rivolgimento di prospettive dopo la prima guerra mondiale anche tutte le ricerche sulle tecniche antiche queste sono terre sono pigmenti sono pigmenti colorati ce ne sono i colori a parte il bianco un po' si intravede ma c'è anche un rosa pesca un rosa salmone incredibile ci sono dei blè pigmenti e terre che Morandi ha utilizzato durante gli anni 20 appunto e che poi dagli anni 30 in poi ha abbandonato appunto per tornare o per darsi forse non è un utilizzatore tardo come Reynolds ma per darsi così alla pittura diciamo ad olio più classica insomma Morandi non usa mai tempera non c'è la tempera in Morandi l'acquerello è acquerello puro eccetera matita normale ecco per esempio sotto questi oggetti sono gli oggetti che lui ha usato una volta questa trombetta e questa questa piccola chitarra la trombetta sul muro e la piccola chitarra Magnani il grande collezionista studioso di miniatura e soprattutto per lui collezionista gli chiede e poi grande musicologo gli chiede appunto una natura morte di strumenti musicali Morandi non la fa non la vuol fare Magnani ci sono tutte le testimonianze le lettere in questo senso gli porta due strumenti bellissimi due strumenti antichi perché lui le dipingesse e Morandi non lo fa prende questa chitarrina da bambino la trombetta addirittura l'ha sistemata lui legandogli il manico con del nastro adesivo un po' blu così un po' azzurro e poi ha dipinto questi due oggetti dimessi semplicissimi poveri però l'ha fatto veramente una volta sole perché gliel'aveva chiesto Magnani altrimenti non l'avrebbe fatto per nessuno assolutamente di cambiare i suoi modelli ecco comunque andiamo ancora un po' avanti perché se lo studio diventa anche una scatola proprio geometrico prospettica una gabbia ecco arriviamo al metodo la gabbia Morandi lavora adesso dopo vi faccio vedere adesso vediamo cosa c'è dopo no questo è ancora lo studio ma vedete i materiali ci arriviamo Morandi lavora su basi cartesiane cioè tutte le sue composizioni sia di natura morta ma anche di paesaggio sono costruite sugli assi cartesiani in questo ci fu anche tutto un versante critico che lo studiò in qualche misura vicino a Mondrian ovviamente Mondrian poi ha tradotto questo non solo in un linguaggio ma in immagini completamente diverse ma anche Morandi tiene tutto legato diciamo tenuto ordinato all'interno della gabbia cartesiana e in fondo lo studio è la stessa cosa questo è un altro particolare ancora una fotografia di Berengo Gardini vedete con le scatole dei colori queste sì che sono le scatole dei colori appoggiate tutte impilate ordinatamente però la cosa che mi interessa è proprio questo tenere tutto componendo ogni figura in uno spazio predeterminato non c'è mai nulla di casuale non c'è mai nulla di come dire di improvvisato in Morandi tutto l'immagine è prima di tutto nella sua mente la adatta cioè anzi adatta le sue forme i suoi modelli all'immagine quindi concettuale che ha in testa compone questi oggetti secondo questa composizione mentale e poi dipinge tanto che si sa che Morandi poteva anche metterci ore giorni a scegliere la singola composizione mentre poi quando arrivava il momento della pittura era rapidissimo rapidissimo nel suo studio appunto abbiamo trovato non solo la classica giacca da pittore con il braccio sporco perché puliva il pennello ma anche i segni della pittura nel sedile sotto evidentemente lui non solo faceva questo era a destra non era mancino faceva questo gesto e poi puliva il pennello sotto la sedia perché proprio aveva una sorta non di frenesia ma di tensione sì quando dipingeva aveva questo rapporto immediato mentre invece era molto lunga la preparazione e ora vedremo il metodo tre sono le fasi che l'artista segue e che diventano base irrinunciabile del suo lavoro proprio il modus operandi che segue per tutta la vita il primo è un livello di realtà fisica vi dicevo l'immagine nella testa ma immediatamente deve incontrarsi con gli oggetti con quello che per lui poi è la sua realtà cioè la porzione di realtà che si è scelto il secondo livello è quello della composizione di questi modelli quindi una realtà di volta in volta messa in posa infatti c'è il termine inglese setup che rende benissimo quello che fa proprio lì sistema fa una sorta di scenografia per cui si può anche parlare di un palcoscenico per questo suo studio perché è il luogo in cui tutto ciò anche ha un'azione un'azione ferma ma è un'azione cioè viene messo in posa ecco il terzo è quello della restituzione una specie di ricostruzione fortemente interiorizzata di tutti i dati in suo possesso che sono dati concettuali sensoriali emotivi il tutto fuso poi in quello che diventa l'opera l'immagine allora così analizzando velocemente questi tre passaggi la realtà fisica degli oggetti la composizione di questi modelli e la loro restituzione pittorica possiamo vedere un attimo il primo cioè la fase A l'intervento sulla realtà fisica degli oggetti non mi ricordo più cosa c'è dopo ci vediamo ecco sì questo può può servire la realtà fisica degli oggetti questa fase operativa è molto legata una manualità di tradizione cioè Morandi lavorava era un artigiano in questo senso lavorava sugli oggetti ad esempio queste bottiglie qui in primo piano che noi vediamo sono bottigline di opalin riempite anzi no queste sono dipinte all'esterno lui prendeva tipo biacca no così e dipingeva queste erano quasi tutte bottiglie di vetro le sue vasi di vetro le dipingeva all'esterno proprio per togliere luminosità e togliere quel efflesso famoso dei lumetti delle lumeggiature cioè in questo modo azzerava diciamo dei disturbi esterni anche luminosi perché lui voleva controllare anche la luce che invece se no avrebbero potuto avere e quindi altre volte invece metteva dell'acqua colorata dentro gli oggetti in modo che l'acqua evaporando lasciasse una patina colorata all'interno dell'oggetto e questo consentiva invece di lasciare all'esterno la luminosità è il contrario era lucido all'esterno quel vaso bianco che si intravede adesso se riesco io non sono mai capace di fare questa cosa ma ecco questo qui questo qua è un vaso d'aceto di Modena è grande così io dico sempre che l'oggetto forse più rappresentato di Morandi un po' come la lettera A del suo alfabeto ecco questo è stato riempito di acqua colorata per cui è bianco all'interno ha dato acqua colorata di bianco in modo da lasciarlo averlo tutto bello bianco però all'esterno butta fuori luce e siccome è prismatico Morandi gioca sempre è che la cosa un po' che ha preso l'unica cosa forse che ha preso dai futuristi il gioco prismatico della luce naturalmente non la velocità né nient'altro oppure vedete la variante dei vasi in alto di questi vasi se ne trovano moltissimi sia nello studio che nel ripostiglio proprio perché gli servivano per costruire varianti il famoso problema non solo questi ma insomma è uno dei tanti tipi di oggetti ecco quindi se era diciamo tradizionale nei mezzi usati perché in questo cioè per esempio la pennellata viene data proprio una pennellata di tipo molto tradizionale potremmo dire classico rispetta la prospettiva a meno che non la voglia ribaltare alla Cezanne o anche secondo insegnamenti del cubismo però altrimenti se vuole la rispetta perfettamente quindi lui è perfettamente inserito in una tradizione classico italiana però a parte questo invece usa questi strumenti per costruire una realtà diversa ecco quindi non solo interviene sulla realtà fisica degli oggetti e di questi oggetti noi naturalmente abbiamo documentazione intera presso il centro studi ma poi pensate che addirittura a volte giunge che so c'è una bottiglia col collo rotto lui l'ha riaggiustata l'ha incollata perché non poteva fare a meno di quella forma se non rinunciando a tutta una catena di forme che a quelle erano legate quindi sono assolutamente collegate secondo punto la messa in posa degli oggetti nello studio di Via Fondazza Morandi si serve abitualmente di tre ripiani su cui di volta in volta mette in posa i suoi oggetti i veri e propri modelli la luce proviene in ogni caso dall'unica finestra a sinistra ah questo era il discorso delle qui è una un'immagine si vede molto male purtroppo un'immagine delle conchiglie anche queste sono conservate pensate le ha usate per una stagione per un inverno l'inverno 42 43 durante la guerra trovò queste conchiglie screziate così molto direi drammatiche non è il contrario della sua pittura di solito e le ha usate solo in quell'anno proprio per dare espressione a ciò che sentiva evidentemente ma proseguiamo in fretta ecco lo studio con i ripiani vi parlavo dei ripiani quindi usa di tre ripiani su cui di volta in volta mette in posa la luce proviene in ogni caso dall'unica finestra a sinistra del cavalletto ma a seconda del ripiano su cui l'artista compone l'insieme di oggetti può risultare trasversale frontale o persino quasi posteriore in un affascinante tentativo di controluce in un interno i tre ripiani sono di forma materna e ampiezza differenti sono costruiti da lui stesso su pezzi di mobili diversi il piano tondo il piano di un tavolo tondo di cui dietro uno schermo di cartone dove è? qui ecco questo qui vedete dietro uno schermo questo cartone l'ha attaccato lui con delle puntine dei chiodini e l'ha fatto proprio per eliminare la fisicità del tavolo la gamba e lasciare soltanto il ripiano tondo quindi il piano di un tavolo tondo di cui dietro uno schermo di cartone viene nascosto il piede tornito un'asse sagomata trapezio e l'altro quello vicino con il lato più stretto verso il fondo quasi a mimare una curva prospettica a sua volta alzata sulle gambe di un vecchio tavolino cioè in questo modo costruisce altezze diverse a sua volta posto su uno sgabello un terzo tavolo invece appoggiato al muro presso il cavalletto cesta da questa dalla parte di qua questa volta di altezza normale ma su cui è stato inchiodato un altro più largo ripiano un tale lavorio può apparire quasi maniacale ma vale per definire altezze diverse e in diversa posizione rispetto alla luce rapporti sempre uguali per situazioni di volta in volta di diversi e gli oggetti i modelli vengono così considerati uno in relazione all'altro secondo una pratica che si rifà alla gestalt al concetto di campo percettivo quindi le analogie tra gli oggetti le proporzioni tra gli oggetti seduto sul letto o in piedi davanti al cavalletto con sguardo lento e penetrante l'artista indaga le proporzioni matematiche le analogie tra le forme bene la restituzione pittorica quindi il terzo livello ecco questa è una foto di Luigi Ghirri vedete gli stessi due ripiani una foto a colori qui si vedono anche per esempio questo vaso di fiori sono rose sempre Morandi non dipinge mai rose fresche fino agli anni 40 qualcosa sì ma dopo più sono rose di seta rose di seta del settecento presi da bozzoli veri di bacchi da seta aperti e dipinti era una una tecnica artigianale bolognese prendevano questi bozzoli di seta di bacchi da seta li aprivano e poi li dipingevano con i colori e Morandi ne ha collezionati diversi di questi si trovano ancora da qualche parte non solo le sue quindi dove era ecco allora Morandi una volta decisa la composizione e questo può richiedere come dicevo vari giorni tenete conto che nello studio c'è un'unica lampadina il filo quella specie di opalin ondulata rotonda e una lampadina stop perché lui non lavorava mai senza la luce naturale non dico di notte ma neanche di pomeriggio quando non c'era luce insomma quando non c'era luce naturale al massimo disegnava o leggeva leggeva studiava pensava ma non incideva e non dipingeva dipingeva solo a luce naturale quindi anche questo è come un maestro del passato insomma quindi una volta deciso quello che doveva fare insomma Morandi realizza uno o più disegni che si connotano come opere non bozzetti non schizzi ma realizzazioni compite e compiute di un'idea progettuale e poi in ultimo dipinge come vi dicevo molto in fretta in poche ore il rispetto della realtà di questa sua realtà interiore si mantiene inalterato perché restano inalterate le relazioni spaziali tra gli oggetti un'ultima notazione vado a concludere nello studio abbiamo trovato anche alcuni rudimentali strumenti ottici lui si era costruito con della della plastica infatti è tutto ingiallito una specie di plastica trasparente si era costruito delle superfici quadrettate di celluloide ecco delle superfici quadrettate di celluloide trasparente una a sessioni quadrate di 3 cm di lato un'altra a fasce sovrapposte di un centimetro d'altezza e la terza sempre ortogonale ma di un millimetrata più in piccolo queste specie di come dire di filtri gli consentivano di così proprio tenere perfettamente in riga le sue le sue composizioni è stata naturalmente una sorpresa anche per noi trovare proprio queste superfici sono come delle tavolette di celluloide trasparente appunto ormai giallina così attraverso cui però si vedono tutti i segni di matita proprio semplicemente li ha fatti li ha fatti per poter misurare secondo la gabbia cartesiana i suoi le sue composizioni naturalmente Morandi rimane sempre una voglia di evasione da questa gabbia e la voglia di evasione è data dalla vibrazione della pittura qui questi sono i segni questi sono i segni sul sul tavolo vi dicevo che per comporre lui poteva metterci anche una settimana o parecchio allora aveva deciso una certa composizione di questi tali oggetti scelti voleva variarla voleva sempre con gli oggetti prima di dipingere voleva capire se poteva essere in parte variato o meno allora si segnava la posizione originale della prima scelta della prima messa in posa poi magari li spostavi facevi il secondo segno della seconda posizione per poi decidere quale seguire ecco vedete questa piccola cosa con adesso se riesco non ci riesco assolutamente lo so questa cosa quella piccolina lì davanti con quei due puntini neri quella è un gheriglio è un guscio di noce aperto usato proprio per creare questo effetto di bicromia davanti alla bottiglietta ecco vi dicevo della sua voglia di versione lo fa con la vibrazione della pittura lo fa prendo l'oggetto apre l'oggetto allo spazio della pagina o della tela in modo che ci sia un continuo passaggio di aria e anche direi proprio di respiro fra il dentro e il fuori lo fa a volte mettendo gli oggetti in bilico in questo caso vedete quello superiore che sembra qui proprio la prospettiva viene completamente reinterpretata per non dire falsata sembra appoggiarsi sul livello superiore del ripiano mentre gli altri elementi sono tutti in aggetto e quindi insomma vedete l'oggetto aperto l'oggetto tondo sulla vostra destra dove la polvere della superficie di quello che è una biscottiera si apre verso questi oggetti semplici casuali sono le bottiglie di brillantina linetti però c'è anche come dicevi il servizio di Napoleone cioè non ha nessuna importanza sono scatole delle sorelle queste Morandi è sicuramente quindi maestro di illusioni ottiche questi effetti gestaltici di micro di macro il punto di visione che si sposta la qualità della luce che cambia un po' lui fa continui esperimenti sulla luce vi dicevo prima anche mettendo proprio i pigmenti alla luce del sole per vedere cosa poteva succedere ultimo e concludo ogni pensiero ogni atto ogni opera di Morandi tengono conto di quella che possiamo definire come l'esperienza dell'oggetto cioè esperire proprio metterlo alla prova mettere alla prova la realtà questa sua porzione di reale secondo la lezione della poetica cesaniana che naturalmente l'artista fa proprio perché Cezanne è l'unico maestro che Morandi riconosce Cezanne aveva scritto nel 1904 io procedo assai lentamente poiché la natura mi si rivela assai complessa e i progressi da fare sono incessanti è necessario guardare bene il proprio modello e sentirlo come giusto e ancora esprimersi con distinzione e forza quindi per Morandi come per Cezanne l'appiglio alla realtà è irrinunciabile e questo passaggio proprio dall'uno all'altro dei tre livelli che valgono sia per il metodo che per tutto dal dato naturale dalla realtà alla restituzione come vi diceva perché questi oggetti per lui appunto non hanno un valore altro che di forma sono uno specchio sono uno specchio del sé dei suoi sentimenti delle sue emozioni e quindi devono essere i più neutri possibile per rispecchiare al meglio riflettere al meglio quello che è il suo sentimento delle cose grazie ringrazio Marilena Pasquali che ci ha appunto aperto gli occhi su un altro aspetto importantissimo che è legato alla tele e i materiali presenti nello studio di un artista e passo la parola a Biliana Topalova Casadiego del Munch Museum di Oslo con la quale ho avuto il piacere e l'onore di partecipare a una campagna di indagini appunto non invasive sui dipinti di Munch diversi anni fa in occasione del progetto del progetto EWAR Tech se non sbaglio ancora del MOLAB che è stato già più volte citato ringrazio Biliana e le passo la parola Buongiorno e grazie molto per invitarmi è un piacere di essere qui e di presentare edward Munch in così un'attività e di così buoni amici e colleghi This talk is going to reflect on Munch studio practice During the second part of the 8080s through the 90s and the first decade of the 20th century Munch developed a gradually more radical approach to artistic production He relied more and more upon innovative painting processes that resulted in less conventional executions often reduced palette distilling his paintings to their essential elements and creating one of the most challenging and experimental works of his career The importance of several of Munch's works resides not only in their formal qualities but also in their physical nature Each reveals the marks of its making as the artist reexamined and revisited the canvas building scraping and carving into the layers of paint It was in this way that Munch explored the limits of his expression on the canvas itself rather through separate preparatory studies embracing the act of creation as a visible and vital subject Munch's paintings are often characterized as having an immediate and direct quality that suggests the works were made in one uninterrupted sitting However the spontaneous look of a painting does not necessarily correspond to the actual production process Works led by the artist on the initial structuring on the composition show clearly different stages of the evolution of the works The first stage in the production of a painting is often a drawing Sometimes this drawing forms autonomous parts of the composition and thus remains visible It is undoubtedly incorporated as a desired effect and lands an impression of sketch light spontaneity For example in the Death Mother and the Child Munch has drawn the composition in black on the canvas In working further with the paint the artist does not follow the underlying sketch precisely He says parts of the drawing leaving them free of paint In Melancholy Evening Munch has used pencil drawing to sketch the elements Characteristic of the work is the varied use of media where the drawing sections are elements of a picture and large areas of the surface are left and treated in the initial stage of elaboration To a certain extent the screen is an example of similar approach The first faces of the painting's development drawn with crayon remain visible on a picture's surface For example in most of the yellow color of the sky A reflector graph reveals the drawing with sketches of the screen figure's head On the neck these are visible as green and yellow lines Drawing with colors makes it possible to emphasize the linear structures of the composition and to make these characteristics more dominant In addition it enriches the painting's coloration since parts of his drawing are exposed and thus included in a final appearance In several works however Munch sketches directly with paint onto the canvas without drawing first The main compositional features are made by the brush while simultaneously comprising the beginning of the same painting process itself How the first layers of paint have been applied on the surface has much to say about the corresponding stages of the painting process These works display the establishment of the raw rendering of the tonality of the painting at an early stage This will usually be part of the gradual advancement of tones when painting further In Johann Martin and Stan Stenersen the figure's outline was initially painted in blue The individual color planes were then painted side by side without overlapping A similar mode of working with color is found in the screen It involves a rational and rapid technique Generally the schematic drawing shown earlier in the presentation is followed by a painting phase where the tones are determined in such a way that the individual color planes rarely run into each other It seems as though the screen has been produced through a continuous stream of revisions without the aim of achieving any high degree of completion It is difficult It is difficult to perceive any sort of consequential development of the artist's handling of the landscape and several sketched elements are not developed further A striking feature of a painting is the free style of a brushwork Typical are the recurring repetitions of the strokes through the whole picture plane and the individual forms are to a great extent subordinated to the artist's personal approach In the portrait of Friedrich Nietzsche the artist has determined much of the coloration right from the beginning and the composition is built up by a color being inserted into independent areas Self-portrait with brushes differ stylistically from the former work but they share common features in the development process especially regarding the arrangement of the background composition Paint application here is notably loose with tonality determined from the very beginning in consistence with a preference for color areas that mix little with each other There is however a color mixing within the areas as well yet without disturbing the overall coloration Amongst works the individual colors reciprocial relationship seems to be in a constant state of change Through this approach he achieves a more vivid color effect In separation the preference seems to diverge from those seen in the previous examples Monk has applied the paint as set as so to eradicate traces of brushwork so that the color seems even and undifferentiated over large areas of the picture The colors are characterized by a subdued tonality and are largely grouped into independent areas bordered by outlines almost evoking glass painting Monk's emphasis on color's role in the composition may have played a part while choosing production method Subtle nuances dominate This creates distinctive results through even and unvaried color arrangement across the whole composition and contribute to harmonizing the surface The painting has a surface with paradoxical blend of delicate color effects and a raw canvas texture The importance most placed on this interplane separations is meaningful and in relation to the picture's motif and tonality The variation shown so far enriches the work's impact and highlights the painterly qualities The characteristics of a paint film are particular to the individual motifs Yet it is not only the surface qualities of a paint that hold coloristic significance There is also the layer's thicknesses textures and weights In addition to a picture iconography and palette the material dimension is also essential for the final expression and effects of the viewer's experience Munch's paintings demonstrate a rich variation in surfaces from gloss to raw from highly thin to extremely thick consistencies The use of brush and color which emphasize the works and pattern can on occasion even appear mannered One particularly apt example is the first version of the sick child The work has an impressively thick paint film distinctive worked and reworked in such a way that the surface seems to have been sculpted with deep impasto layers This work's modernity is striking in comparison with a large spring painted some 3-4 years after the sick child Spring demonstrates Munch's mastery of the media and is a consummate work in the traditional sense The sick child gives the impression of being an unfinished experiment It was also exhibited under the title study in 1886 The use of complex layer structure is not common in Munch's works However, the exploitation of a paint's inherent possibilities when applied thinly and fluidly is An excessive use of dilutants results in a paint that is difficult to control It drips and runs freely down the surface We see this in the sky of train smoke and in a background of self-portrait with cigarettes In Elizabeth I Ternice and Bleeding Man and Sunflower Munch has investigated the application of very fluid paint and the resulting colorist transparency Diluted paint runs down or large sections behaving almost like watercolour These areas are minimally if at all worked further The formation reveals of running colors stands as juxtaposed color effect in combination with paint layers worked with a brush Thin paint is applied to several works by splattering and spraying as well This is an application method that Munch was quite fond of and is found in many of his paintings In Christiania Bohemian are especially obvious and they become a dominant aspect of composition The majority of the coloration in these paintings is actually done by spraying and splattering Similarly there is sprayed paint on large sections of separation The small spray drops function as a view creating softer transitions between the color values In other work sprayed paint is not a striking element at first glance but instead functions more as a discreetly and becomes noticeable only upon close look This is the case of Madonna and self-portrait with cigarette In these works Munch has chosen to spray paint over a composition otherwise executed by brush The result is seemingly without any logical relation to the underlying colors, areas or forms and rather freely added The way in which paint is applied and handled is crucial to the painting's impact and dictates its character All elements of the surface work in their all-intrinsic ways and thus play a role in the picture as a whole Munch's style of painting evolved naturally enough over the course of his career yet his way of applying paint has some consistent signature features The handling of the materials and the application of paint appears to have been guided by both practical and aesthetical considerations In separation for instance Munch used gold stroke to achieve variety The application of gold paint highlights the contours of the woman's hair and creates a nice catching detail Gold is also used in the mermaid Here it intensifies the moon's reflection of the water and on the mermaid's tail and locks of hair In woman touches of metallic paint are applied into the two left figures In Madonna Munch applied thin layers of gold along the woman's torso Application of gold paint enriches the worst quality but it remains a local and sparsely used element in Munch's oeuvre Characteristic of this picture is however a rich and varied surface something that appears as both deliberate and important to the artist Here we go Matthias You know this painting Munch also utilized other methods of achieving variations in the painting Over parts of the color layers the artist specially applied a transparent coating This coating does not necessarily correspond with the brushwork or areas of color It has run down over the paint layer saturating the underlying color so that they change in nuance in contrast to the side colors that have not been coated with this material In addition to saturating the surface and changing the color the substance also influences the degree of gloss Scraping of the paint layers affects the pictures in a variety of ways and yields different marks than brushwork Scraping leaves a negative mark in the paint layer and is associated with work on specific areas or forms of the motif In Madonna thin scraped lines follow the composition's forms incised while the paint was still wet Similarly this occurs in the portrait of Elisabeth Furster Nietzsche The scraping in a thin color of this painting has a predictable and to a great extent calculated effect The sick child and self-portrait reveal scraping of different qualities In contrast with the two former examples the layering process has resulted in a thickly built up film Scraping into such paint leaves plastic marks that result in a significant relief structure Scraping here results in incidental damage to the painting Thus the process is not completely controllable The scraping of paint in these paintings must be read as an integral element in the creation of a work leading to a deliberate formal inconsistency Munch did not paint in the same manner in all his pictures His work represents a range of artistic procedures and the constructive process is suited to each individual composition A common feature of all the works however is a direct application of color through the working process and an exploitation of the surface qualities In some Munch's work one sees paint applied distinctly plastic In the death of Marat in addition to the brushwork Munch also simply squeezed paint directly from the tube onto the canvas In this way a contrast is created between the squeezed out paint and that which has been worked with a brush onto the surrounding areas Through his career Munch preferred to use a brush when applying paint There is a varied brushwork in the pictures with stroke of differing length thickness and character This contributes to achieving great variations in respect to effect and texture Although on occasion the surface was enriched by paint applied by means of other tools and techniques This was not the norm In dark hair men and red hair women a discontinuous layer of paint is applied with an almost dry brush onto the canvas The technique facilitates a surface quality not normally associated with painting which in this instance resembles a crayon A similar result is visible in the whipping woman's torso differentiating it from the elsewhere fluid film of paint The visual differentiation of areas is determined by the manner in which the paint is applied with differing consistencies in terms of fluidity and thickness all those based on the same media Death and life and separation show traces of radical interventions and changes to the surface appearance The painting's appearance has been intensified by their exposure to extreme conditions One sees water stain and rust spots as well as various holes and tears The relationship between Munch's artistic intentions and the picture's actual condition is discussed in the literature There is no doubt that Munch experimented with and used chance occurrences in combination with more traditional choices of materials and techniques Similar phenomena are visible in several of Munch's paintings The portrait of Stanislaw Przebyshevsky is a well-known case When Munch employs different painting techniques at the same time it is in the context of different functions However the diverse handling are incorporated into a general scheme Thus the surface of a respective picture presents a combination of contrasting means and effects As a general rule one can say that the technical execution of Munch's work seems to support his artistic intentions His selection of materials the manner in which they are handled and juxtaposed all suggests a high degree of conscious decision making In Munch's over it is impossible to discern a simple and linear technical development when it comes to the painting process The artist's approach and strategy in the construction and execution of his painting was varied Munch did not create his pictures in accordance with a set of rules His art reflects his continuous interest in experimentation an approach which utilized shifting artistic methods over the course of a long lifetime The changes in his works mirror changes in his own life his preferences and sometimes practical exigency At the same time it is clear that Munch did not discard earlier practices when he introduced something new Instead he continued to broaden his repertoire of techniques and knowledge of painting applying increasingly rich spectrum of artistic means as his work evolved Thank you very much for your attention Thank you so much Biliana Grazie Biliana e adesso passo la parola a Romana Severini Brunori che ci darà un altro tipo di testimonianza appunto su un artista appunto Gino Severini che fra l'altro è stato tra i protagonisti di questa nuova forma d'attenzione per le tecniche nel corso del novecento oltre che essere stato un protagonista assoluto del gruppo futurista su cui è incentrato il progetto Futurama Ringrazio Romana Severini e le lascio la parola Buonasera innanzitutto ringrazio Margherita Daiala Valva e tutti i suoi collaboratori per questo invito in un posto bello di prestigio e un mito per chi ha fatto pochi studi come me mi dispiace non avere immagini di accompagnamento per questo mio scritto che mi sono organizzata male non sono molto pratica di convegni ma farò quello che posso ecco il libera l'immaginazione quello che racconto sono lieta dunque il tema del convegno materiali di artisti è troppo vasto e specifico perché io che non sono un'esperta del settore possa parlare solo di questo proverò a darmi un'idea più panoramica legata ai luoghi di lavoro e agli studi veri e propri nei quali mio padre durante la sua lunga vita si è trovato a piantare le tende è chiaro che per quello che riguarda periodo futurista e ritorno al classico uno dei titoli del convegno mi baserò sui ricordi verbali e scritti dell'artista che avendo traslocato numerose volte non ha potuto materialmente conservare tutto quello che man mano si procurava per il suo lavoro tenendo presente in più che era un periodo di gran povertà e che all'inizio della carriera qualche trasloco o abbandono fu causato dagli sfratti questo successo a Parigi due se non tre volte molte cose sparite e qualche cosa è riapparso poco ho avuto la fortuna fino ai miei vent'anni di vivere in abitazioni studio dunque di memorizzare personalmente quello che vi succedeva anche dal punto di vista dei problemi tecnici e delle scelte dei vari materiali adoperati sia per le esecuzioni delle opere da cavalletto che per quelle decorative più tardi mi sono dedicata alla conservazione di archivi ricordi e materiali la più possibile completa cominciando dall'inizio cioè dai primi anni di mio padre a Roma i suoi lavori venivano eseguiti a olio su tavolette perché erano pitture en plein air ho conservato uno o due tavolette ancora vergini una penso sia di boccioni veramente e molti carboncini su carta questa è en plein air perché partivano per lunghe camminate lungo il fiume Aniene e dunque si portavano queste scatole con le tavolette la pittura a olio era molto cara non alla portata di un giovane artista e così le tele e il materiale di qualche grande quadro eseguito in quell'epoca furono pagati dal committente due bellissimi quadri pre-futuriste del 3 e del 4 sono ancora in Olanda poi vennero i pastelli più alla portata delle sue magre risorse specie durante i primi anni 1906 1910 dopo l'arrivo a Parigi anche qualche quadro di epoca futurista tra il 10 e il 15 venne eseguito su tele riciclate trovate o al mercato delle pulci e poi grattate o donate da qualche mecenate come quel curioso personaggio della baronessa d'Ottingen pittrisce scultrisce scrittrice di tutto e aveva un nome d'arte per ognuna di queste sue attività che generosamente gli diede due sue tele già usate un cavalletto e altro materiale pittorico una di quelle tele adoperata da mio padre per un'opera futurista si trova al MoMA di New York con i raggi si dovrebbe intravedere sotto qualche resto dell'altra pittura questo quadro l'ho rivisto adesso a Parigi alla fondazione Vuitton dove c'è una bella mostra temporanea è uno dei più belli di futuristi molto grande e così le paillettes che rilluminavano diverse opere dell'epoca venivano dalla frequentazione allora abituale dei cabaret di Montmartre di quei lustrini adoperati per i vestiti delle danseuse ne abbiamo ancora conservato un paio di scatole anche perché non si trovano più di quelle dimensioni lì dei ristoratori di Verona ne hanno dovuti far fare perché si trovano quelli minuscoli proprio da carnevale o quelli molto grossi dopo un salto di qualche anno mio padre si trovò ad affrontare la per lui nuova tecnica dell'affresco il suo mercante Leon Sosembea gli aveva procurato questo lavoro presso dei suoi clienti che avevano acquistato il castello di Monte Gufoni vicino a Firenze a Montespertoli veramente questi questi baroni Sittu volevano Picasso Picasso ha detto che non ci pensava neanche lontanamente a imparare l'affresco e così non male è stato mio padre che era molto contento si trattava di dipingere sui muri di un'intera saletta come desideravano i proprietari inglesi i baroni Sittu contento di questa parentesi mio padre non si perse d'animo e come lui stesso raccontava cercò di ricordarsi qualche procedimento di base osservato a Cortona quando guardava lavorare suo nonno capomastro così insieme al valido sostegno di due bravi aiuti muratori del luogo che ogni giorno li preparavano la base riuscì a rendere concreta un'opera che rimane una delle sue più riuscite erano scene con personaggi della commedia dell'arte a grandezza naturale all'epoca mio padre si procurò anche qualche testo che conservò tutta la vita come il prezioso libretto l'outillage le materiel du peintre dell'antichità greca e romaine di Guy Lumier edizione vanoeste del 1922 del resto quando si trovava a dover affrontare qualche cosa di nuovo nel suo lavoro una delle sue frasi era andiamo a vedere come se la cavavano gli antichi ed è proprio questo suo modo di approfondire di non lasciare niente al caso che gli ha permesso durante tutta la vita di affrontare intervallati con i lavori da cavalletto i numerosi impegni per affreschi o mosaici in tante chiese e in numerosi edifici pubblici il suo bagaglio bibliografico si arricchì così di decine di libri sulle diverse tecniche che lo interessavano il mosaico merita poi un paragrafo a parte essendo stata una sua vera passione forse legata alla ricerca sui colori iniziata fin dai primi tempi e portata da lui molto avanti questo è il materiale ce n'è molto a casa mio padre cominciò alla fine degli anni 30 a pensare opere da trasporre in mosaico le prime le espose a Roma alla galleria della cometa della contessa Pecci Blunt altra le scenate importante dell'epoca ha aiutato molti artisti in seguito non soddisfatto di come venivano eseguite dalla casa Salviati di Venezia scusate o dal gruppo mosaicisti del Vaticano ai quali rimproverava la tecnica troppo piatta si rivolse a Ravenna infatti la tecnica era fatta alla rovescia poi venivano delle tessere molto quadrate piatte un po' da pavimento che a lui non piacevano aveva sempre ammirato le chiese che contenevano opere bizantine a Roma come Santa Prasede San Clemente o Santi Cosme e Damiano e poi Ravenna naturalmente dove andò ad imparare l'arte del mosaico per poterlo poi eseguire personalmente cominciò così con qualcuno dei mosaicisti storici del luogo una lunga collaborazione e amicizia appena riebbi uno studio a Parigi l'ultimo della sua vita fece arrivare a più riprese da Ravenna sacchi di pietre di tutti i colori fino a riempirne uno stanzino si fece costruire due tronchi con incudine uno alto e uno basso sui quali tagliava le tessere delle misure che preferiva cioè le più piccole possibili come aveva imparato a Ravenna unico modo appunto per far cantare i colori come diceva un angolo dello studio fu occupato da un tronco con l'incudine qualche cassetto custodiva le scatolette con le tessere in pasta di vetro più preziose soprattutto quelle ricoperte con la foglia d'oro che venivano inserite qua e là nell'opera in lavorazione sempre per ottenerne la desiderata luminosità l'arredamento di quell'angolo era completato da un tavolino di lavoro di ferro con i cassetti per riporre pinze chiodi cacciaviti e tanti carboncini e gessetti c'era poi la base dei mosaici che era molto ingombrante perché all'epoca era costituita da paglia e cemento dunque pesantissima mio padre se la preparava personalmente come aveva fatto per anni con le sue tele inchiodandole e lavorandole a lungo con la carta vetrata di vario spessore su quel famoso mobiletto c'erano anche delle scatolette misteriose con scritto sopra cose che non servono a niente oppure chiavi che non aprono nulla non si sa perché dovevano essere conservate e devo anche accernare ai nuovi materiali che occuparono un certo posto perché voluminosi nello studio durante gli anni tra il 59 il 63 non so come venne come fosse venuta l'idea mio padre di realizzare degli assemblaggi di oggetti di ferro tubi ruote attrezzi catene mescolati a fotografie e a qualche elemento pittorico chiamando questa serie di opere una decina in tutto forse dodici collage de fer age industriel certo è che queste prime idee li vennero a cortona e fu lì che cominciò la raccolta dei materiali tanti e più disparati aiutato da amici cortonesi di buona volontà che poi provvedero a farli arrivare a studio da Parigi appunto rimasero senz'altro diversi scarti che non so però dove siano finiti tornando allo studio romano l'elemento più ingombrante comunque era un grandissimo cavalletto dal mio ricordo frutto di uno scambio anni trenta con il pittore Mario Tozzi questo cavalletto fece almeno quattro volte l'andata e ritorno Parigi-Rome sempre grazie a Tozzi poi nello stesso studio dello quartiere Prati dove lavorò per una decina d'anni guerra compresa un'altra imponente presenza era costituita dal grande manichino di legno spesso vestito con i costumi di Pulcinella e Arlecchino che affiancava molte delle nature morte di quel periodo in vista del cinquantenario della morte di mio padre nel 2016 ho il progetto di lasciare questi due costumi alla rinnovata sala Severini dell'Accademia Etrusca di Cortone anche gli oggetti naturalmente delle nature morte il tavolino tondo insomma speriamo che facciano qualcosa di riuscito negli ultimi anni mio padre non riusciva più a stare in piedi a lungo e lo studio parigino si riempì di tavoloni da architetto sui quali lavorava orizzontalmente seduto su alti sgabelli fu in quel periodo che arrivarono dall'America i primi pennarelli detti flow master che piacquero molto a tanti artisti che ancora non potevano sapere della loro tendenza a sbiadire con il tempo con la luce erano di facile e piacevole uso e mio padre li adoperò per molti dei suoi disegni voglio dire che uno studio non è un luogo dove ci si può astrarre dal lavoro almeno per qualche ora e mio padre diceva di aver sofferto al contrario appunto di altri artisti come Balla o Morandi per non aver quasi mai potuto avere abitazione e studio separati i miei però si erano ricavati una stanzetta da letto in un'alcova tappezzata di libri la sera tiravano la tenda come a teatro e così creavano l'intimità necessaria per staccarsi dall'ambiente di lavoro è in questa alcova che mio padre ha spento gli occhi per sempre lucido e arrabbiato di partire dicendo a mia madre avevo ancora tante cose da dire non ho ancora parlato della scuola di mosaico a Parigi questa volta accetto la scuola della quale mio padre si è occupato per cinque anni dal 1953 al 58 e che lasciò poi alla direzione dell'artista Riccardo Licata morto nel 2014 anche in quella scuola aveva ricavato uno studietto dato che in quel momento tra una sistemazione e l'altra dovevamo abitare in albergo o in studi prestati di questo periodo della scuola mio padre voleva scrivere un libro diviso in dieci lezioni ognuna con i disegni e i grafici di corredo non voleva che tutto quel lavoro nel quale credeva molto andasse perso per lui e per altri sono felice di aver donato a suo tempo dopo la sua morte molti dei materiali a una scuola italiana del mosaico con sede a Parigi e qualche cornice alcuni telai alla scuola di belle arti sempre di Parigi ne rimasero contenti e commossi quando qualche anno dopo la morte dell'artista ho dovuto lasciare quello quello studio l'ultimo e forse il più importante aveva purtroppo cominciato a prevalere l'abitazione sullo studio vero e proprio qualche divano aveva preso il posto dei tavoloni qualche cavalletto serviva solo da arredamento le tavolozze erano appese al muro insieme agli strumenti da lavoro tutto si mobilizzò un po' teatralmente per ritrovare l'atmosfera dello studio di un tempo certamente ormai mancava l'odore forte della trementina con la quale ogni sera si pulivano tavolozze e pennelli questo era molto ordinato lasciando tutta la cornice però in mezzo doveva essere pulitissimo però bastava aprire un cassetto o una cartella per ritrovare insieme ai materiali da lavoro usati e riusati l'odore tipico di una polvere fossilizzata nel tempo ora questo materiale in gran parte conservato da me rappresenta non solo la testimonianza di una vita intera consacrata al lavoro ma anche un utile supporto per il lavoro degli altri completando la lunga serie di libretti album da quini oltre ai tanti scritti pubblicati e non utili a quanti vogliano produrre un lavoro eseguito come lui voleva al massimo della perfezione tornando indietro su come intendeva il lavoro mio padre qualche dispiacere se lo prese durante la preparazione dell'affresco all'università di Padova nel 41 il muro sputava a San Nitro e pare che continui a farlo e il cemento che era stato procurato per la base per due volte fu rimandato indietro causa la scarsa qualità da qui tante litigate con l'architetto anti anche perché dove avevano fretta doveva arrivare un pezzo grosso dell'epoca forse anche Mussolini addirittura dunque il cattivo umore era proprio latente nel nel 37 invece si era trasferito e affrascati vicino a Roma per affrescare una parete della villa dell'industriale innocenti il teme era bucolico pomone e vitruvio in una specie di paradiso terrestre con animali esotici pare che mio padre forse pensando all'esperienza di Leonardo con l'ultima scena voglia eseguirlo a tempera con grande quantità di uova e altrettanto grande sorpresa pare diceva mia madre degli abitanti del posto purtroppo non si saprà mai quale ne sarebbe stato il risultato perché una bomba alleata distrusse completamente la villa nell'ottobre del 43 a metà degli anni 30 si era rimesso in contatto con Jacques Marogel artista e studioso franco-americano che viveva a Parigi e che aveva trovato una formula chiamata medium di cui hanno parlato credo riemersa da vecchi scritti del monaco Teofilum ma io sono ignorante a base di olio biacca e qualche altra cosa da mescolare con qualsiasi colore per rendere molto più fluido il lavoro questi sono da scritti di mio padre con Marogel ci fu una corrispondenza amichevole che costituisce un dossier a parte per la pittura a olio durante tutto il periodo passato a Roma si riforniva dal grande negozio Pasciosi vicino a San Carlo al Corso o presso la ditta Fratelli Manieri come ho sentito da tanti altri artisti nel periodo svizzero anni 20-30 ebbe contatti con numerose ditte come quella di colori e vernici di Mutens presso Basilea o la Labitzk Erben di Zurigo e poi nel tempo la Windsor Newton di Londra che aveva fra virgolette i colori per i collage come da scritto autografo che conservava all'inizio di una all'interno poi di una all'inizio di una di un cassetto all'interno di una bustina da lavoro una quantità di piccoli cartoncini colorati da lui e da utilizzare come campioni insieme a tantissimi bigliettini tipo Biocide Verde Cuivre merveilleux alla gouache o uno degli ultimi placa colori per dipingere su gesso ho elencato questi pochissimi nomi per far vedere che non ho dimenticato il tema del convegno anche se ho parlato quasi esclusivamente degli studi in generale lascio perciò questo compito a chi avrà la pazienza un giorno di venirmi a trovare e di tuffarsi in tutto questo materiale grazie grazie molto ancora grazie molto allora l'ultimo intervento della giornata è appunto quello di Margherita Capoc che invito curatrice della Dublin City Gallery e responsabile appunto dell'importantissimo lavoro fatto di ricostruzione e di catalogazione un lavoro esemplare di catalogazione fatto sui materiali dello studio di Francis Bacon lascio la parola lascio la parola lascio la parola a Margherita ok, good evening everyone thank you very much for inviting me to speak here this evening it's a great privilege to be here in Pisa I'm going to talk about Francis Bacon's studio which was transplanted from London to Dublin where it is open to the public the studio was presented to our gallery which is this gallery here Dublin City Gallery the Hugh Lane in 1998 in 1998 and we received the gift of the entire contents of Francis Bacon's studio which you see here at 7 Rees Mews South Kensington in London and this rather unusual gift consisted of 7,500 items in this room and it marked the beginning of a unique project for the gallery I joined the gallery as project manager for Francis Bacon's studio and I'm still working on the archive I'm not a conservator I'm an art historian and a curator and in this paper I want to provide an outline of the studio and its contents and also explain the approach that we took to removing the studio from its home in London and transporting it from its original site to its present location in Dublin and how we interpreted the studio contents and how we have it presented now in a gallery context and I will also show given the audience here today which is mainly conservators I will show a sample of Francis Bacon's artist materials and some of the unfinished artworks that were found in the studio in order to ascertain what the studio tells us about Francis Bacon's practice now I want to show you the exterior of the studio this is the studio in London it's on a quiet cobblestone lane in South Kensington which is quite an exclusive part of London and Francis Bacon moved into number 7 Rees-Mews in 1961 and this was his principal studio and residence until his death in 1992 it was one of a short row of converted coach houses off of Main Street and the Meuse was quite a modest dwelling particularly when Bacon became very very successful later on in his career the ground floor which you see here was entirely occupied by a garage which Bacon used for storage and then the upper floor was reached by this very steep staircase which we have reconstructed in the gallery and people can walk over it there's glass on top of it so you have the sense of entering the studio this was his bed sitting room and you'll note that it's very neat and tidy compared with the studio you also notice the bare light bulbs that hang down and this is a motif that he uses in his paintings he had a very unusual arrangement of a kitchen come bathroom and you can see the bath here he had this bath put in at some stage in the 1970s and when he was taking a bath and it got cold he turned on the gas oven and opened the door to heat the room so quite an eccentric arrangement and here you see this is over his sink he has reproductions of his own paintings so that there was no escaping from his art so the studio was very much part of a living space so you'd come up the stairs and turn right into the artist's studio and this is what you would see the door of the studio was completely covered he used it quite extensively as a palette and in contrast to the very spartan quality of the bedroom and the kitchen come bathroom the studio was quite chaotic and Bacon said about this chaos he said I feel at home here in this chaos because chaos suggests images to me and the room was actually quite small it was 24 feet long by 12 feet wide originally it was two rooms but the dividing wall was removed at some stage in the distant past the light the main source of light was from a skylight which Bacon had put in in the 1970s and the orientation of the room was east-west which meant that it was brightly lit during the early hours of the day the studio really became Bacon's complete visual world Bacon was an artist who preferred not to work from life so very few people had access to his studio during his lifetime he eliminated the live model early on he found it too inhibiting to have a person modelling or present in his studio so everything that you see strewn around the floor the photographs the books these were all his inspiration for his paintings and these provided nearly all of his visual sources we can see the extensive range of artist materials I don't think he ever cleaned a paintbrush because there were several hundred all in these jars and this table here just consists entirely of artist materials also here we have another table which actually took three months to deconstruct catalogue and reconstruct and you notice various things just to point out you have pieces of corduroy trousers with paint on top of them which he used to print onto his paintings aerosol sprays and paint rollers household paint rollers for painting the background so you have a vast array of artist materials found in this studio and this is one end of the studio with a shelf and you can see that you've used jars of pigment and paint you've paint brushes you also have quite a lot of dust in the studio and Bacon would actually use the dust he would run his finger along the shelf for example this shelf and then he would incorporate the dust into the wet paint and apply it onto the canvases so there's a huge diversity of material and Bacon's technique was quite diverse too so it was in this cluttered and paint spattered room that Bacon realised some of his most important paintings including his large scale triptychs and it is from this small room that Bacon's stature grew into that of the preeminent figurative painter of the late 20s century and the studio was very important to Bacon he said that he couldn't work anywhere else he did have a studio for a time in Paris but he preferred the light in his Rees-Mews studio now on Bacon's death in 1992 John Edwards was the sole inheritor of the sole beneficiary of Francis Bacon's will and part of this inheritance included the studio and Edwards decided following extensive negotiations with various galleries that he would present the studio to Dublin City Gallery because Dublin is where Bacon was born in 1909 and the gift was made with the proviso that we would reconstruct the studio and open it to the public and have it on permanent display which is what we have so the Hugh Lane Gallery embarked on a very complex project which involved deconstructing the studio and relocating it from its first floor in Rees-Mews to a dedicated Francis Bacon space at the Hugh Lane now due to the nature of this project it was very very challenging in terms of presentation and interpretation a gallery is obviously a space where people expect to see finished works of art whereas by deciding to have an artist studio on display as a permanent exhibit the emphasis was being placed on process rather than the end product so this and we are a relatively small gallery relatively speaking and so it was a very big project for us and obviously from an academic point of view cataloguing 7,500 items and what it could reveal about Francis Bacon's techniques again and what it could contribute to current scholarship on the artist was really a journey into new territory for us now the task of deconstructing the entire room and transporting it to Dublin was a daunting one and after quite a lot of deliberation we decided that a team of archaeologists would be best equipped to actually remove the studio from its home and reconstruct it and this image here shows two of the archaeologists working obviously it was important that the studio contents be removed with meticulous care and obviously the print and also to ensure that the accuracy of the reconstruction was absolutely perfect and the principle obviously of archaeological excavation is to remove all the superimposed features one by one in the reverse order from which they were accumulated and this was the approach that we took so you can see here that the archaeologists set up they devised a grid system horizontal and vertical grid system and photographs were taken as they went along as they deconstructed and just in brief what they did was they ascribed a feature these are some of the original notebooks that they made so every single item in the studio had a code and the code told us where it was found what was beside it what was underneath it so first of all obviously the larger items of furniture were removed these are some of the original drawings that the archaeologists made on the spot showing detailed drawings of the various layers as they moved down and again here you see that they have wrapped up that large table with all the the artist materials and they're gradually taking everything out of the room this is a large mirror that Bacon designed himself and it's being wrapped up and removed and in tandem with the archaeological removal a team of conservators and archivists were working to number annotate and safely store each individual piece and eventually we came down to the walls of the studio and as you can see that gradually the studio is becoming more and more empty and here you have the empty studio and when the studio was empty we removed all the ceiling boards the wooden ceiling boards and also all the walls and the floor boards and transported them to Dublin on arrival in Dublin our first task was to open all these boxes of material and then create a database with an entry on every single item found in the studio and this took us almost two years to complete with four people working on it full time and every single thing found in the studio was photographed it was described its condition was described it was measured and any links that could be made with Francis Bacon's paintings or how he might have looked at the item were described so every fingerprint from Bacon every paint colour was described in detail and this has been invaluable for us so the completed database which is accessible to the public it offers a comprehensive record of the type of materials and techniques that Bacon was employing from 1961 onwards and also an inventory of visual sources and just to give you a sense of the types of materials there's 570 books and catalogues 1,500 photographs 100 destroyed canvases 1,300 pages torn from books 2,000 samples of the artist's materials and 70 drawings and also there are various other things like correspondence between the artist and other individuals magazines newspapers and furniture and as we went along obviously this is just a very simple example of a passport strip of Francis Bacon of which many were found in the studio and how it links with his art similarly on the left we have a photograph that we found you can see on the left hand side his fingerprints in paint so he's been looking at it as he painted this self portrait and again the close links between the two can be seen also in this work again this was a discovery that we made the two images on the screens on the left relate directly to these pages that we found in the studio one is of Raymond Poincaré the other is Austin Chamberlain and again Bacon's interests were very wide ranging he was interested in history politics wildlife medical imagery x-ray techniques he had a huge range of interests and all these books and magazines have provided invaluable information for us as art historians and they've provided great revelations in terms of the genesis of particular paintings again we can see on the left hand side is a photograph from a book called positioning in radiography which was a medical textbook on x-ray techniques and Bacon has directly copied the image on the left and included it in the painting on the right hand side similarly he manipulated many of the photographs found in the studio this is a photograph of Lucian Freud on the left and just to show you here Bacon has deliberately creased the photo here and if you see the paper clips here holding the crease in place and then you can see that this has been copied in this area and the chair also is something that is in his studio so these are just a sample of many of the links that we were able to make going through the contents and this really is just a small selection there are many many more also Bacon said that he never produced drawings that he didn't that he painted directly onto the canvas but we discovered a large number of drawings in the studio so clearly that was something that he kept concealed and this is probably one of the earliest drawings by Francis Bacon which shows strong influence of Picasso this is a photograph he very much liked the photography of an American photographer called Peter Beard and a large collection of photographs by Peter Beard were found in the studio including this one of a zebra carcass now aside from the art historian the art historical part where we made several links as I said with finished paintings and we've made a huge number of discoveries furthermore the studio contents have provided new information on Bacon's artistic practice and Bacon once said that the artist studio isn't the alchemist study where he searches for the philosopher's stone it would perhaps be more like a chemist's laboratory so the Rees-Mews studio aside from its role as a repository of visual sources it was also primarily a place of manufacture and all over the studio were found bowls jars of pigment paintbrushes all the things that would be expected and as I said some 2,000 samples of Bacon's painting materials were eventually uncovered and these include things like the jar of pigment there on the left hand side from Cornelison's which is an important supplier in London on the right hand side we have a bowl with used paint tubes also various packages were found in the studio too and he didn't actually use a conventional palette at all he used very very good china spode and various other good English china to actually mix his colours and again we can see the sort of recurring colours occurring here the bright pinks also saucepans were also used and various knives and forks and various just household utensils also in terms of the walls of the studio as I said these again give a good indication of the types of pigments that he was using now when these were removed from Rees-Mews we took them out of the floorboards and they were transported like a fresco and then transplanted into their new location in Dublin and again these again are invaluable also I should point out that Bacon actually had no formal training as an artist he didn't attend an art college he was very happy that he didn't attend an art college because he said he could learn from other artists so he was mainly self-educated and he was also very experimental in terms of his procedures early on in his life also he seems to have been very consistent because from 1944 he worked almost exclusively on stretched canvas but during 1947 1948 he began to paint on the unprimed side of a canvas and that is something that he discovered by accident he had run he had been gambling in Monte Carlo he ran out of money and he decided to paint on the back of a canvas and he liked the fact that it gripped the paint so of course there were advantages and drawbacks to this process of self-education for example painting 1946 which is in MoMA in New York is in a very fragile condition and is unfit to travel because of Bacon's experimentation and here you see that he actually he painted directly onto the wall but he also wrote notes to himself ideas for paintings and you can see there that he's written he's referring to a box and the rectilinear cages that are such a feature of Bacon's paintings occur in these notes and also in handwritten notes that he made as well and again you have this is an area that's to the left hand side of the door and again the colours seem to be quite consistent and Bacon rather mockingly referred to the walls of his studio as his only abstract paintings he hated abstract art and particularly the work of Jackson Pollock and these he jokingly referred to as I said his only abstract paintings and the daubs of paint again show the imprint of various textures and here we have some of the fabrics that were found in the studio on the left hand side you have corduroy trousers which he would cut up most of them came from a shop called Marks and Spencer an English shop and they were cut up and he would obviously put wet paint onto the door or the wall and then press the corduroy against it and then press it onto his paintings so for example in the cheekbones of the face of one of his subjects the imprint of corduroy can be seen he also used cashmere sweaters which we see on the right hand side I'm not sure what the function of the hammer was but it was stuck to the cashmere sweater and again he would use the weave from the cashmere sweater to actually print similarly with socks ribbed socks and various other items of clothing the artist said that orange was his favourite colour and certainly over 30 jars of cadmium orange were found in the studio and again we can see that he was happy to mix paint in anything he could find we just have a bucket that was in the studio that he was using to mix this type of paint also he the dominant Windsor and Newton pigments were chrome yellow which we see here on the left hand side also he used Windsor orange and Windsor yellow and on occasion Bacon seems to have added pigments to the oil paint to increase the intensity of its colour and most of the oil paint that was found in the studio was manufactured by Windsor and Newton which obviously would have allowed him to recreate tones and colours that he had used in previous works with relative ease also again with the jars of pigment the most common colours as I said are yellow orange black and white but also tubes of permanent rose and alizarin crimson were also found in considerable quantities also we see spray paint on the right hand side and Bacon started using spray paint more extensively in the 1980s and that atomised effect that he uses to create the flesh tones of his figures is achieved by using spray paint he seems to have been despite his experimental tendencies early on he seems to have been quite conservative in terms of the brands and the types of pigments that he used also the range of pigments wasn't actually that great because Bacon's palette and that's a feature certainly from the 1950s onwards his palette was defined by relatively few colours orange red yellow black blue and green but I suppose it's really their daring use in very striking contrasts or dramatic combinations that delivered the impact also tubes of universal stainer were found in colours like yellow yellow oxide black and blue and universal stainers are as I'm sure you all know they're highly concentrated pigment dispersions which can be used to obtain the desired shades from most solvent and water based paint also there were several empty bottles of carbon tetrachloride which were found in the studio this is a quick drying and toxic solvent which Bacon may have used for thinning his paint or possibly removing paint stains from the canvas also Bacon said in an interview with David Sylvester that he said now I nearly use always use acrylic for backgrounds but actually we found very little acrylic paint in the studio we did find many tins of household emulsion paint so Carson's vinyl mat also Dulux as well and obviously these would have offered great advantages because these wouldn't need to be mixed in advance to be applied and also we can see on the left hand side that we have a household paint brush on the left hand side and again many of these were found in the studio also the paint brushes could often be just put into these sort of tins and several of these tins of butter beans or baked beans were found in the studio the one on the left has a sock on top of it which is covered in dust which again would have been employed in some way in his application of paint also just to mention about the emulsion these would be applied with the paint rollers which you saw for the background of paintings which you saw and obviously that was advantageous because it could be applied very rapidly with the aid of a paint roller and there's over a hundred of those roller sponges found in the studio most of them soaked or caked in paint also in a number of works Bacon squeezed paint directly from the tube onto the canvas and he also used the plastic lids from paint tubes to actually create sometimes the indent of a circular white area or a mark on the canvas and you can see here actually sorry that the charts many of these charts for paint supplies were also found in the studio as well and here you have on the left hand side you have those tops of paint tubes which as I said were often used to be applied directly onto the canvas also Bacon added things like sand to his wet paint as well and as I said the dust he said himself that another thing about the chaos of the studio was that he could use the dust that accumulated and he rubbed his fingers into it also a box of Rembrandt pastels were found on a low table sometimes he used pastel for the background of a number of works and he said that it held particularly well to the unprimed canvas and also produced quite an intense colour on its surface I mentioned as well his use of spray paint the other thing that he seems to have used from the 1970s onwards were sheets of letraset which are transfer letters which we can see here just here in this gold this is just a large with numbers but many sheets with letters were actually found and these jumbled letters were often applied in a random fashion onto his canvases and without any sense or meaning and again it may have been his ongoing admiration of Picasso that might have prompted him to incorporate lettering into his work given the volume of artist materials and also the quantities of dust found in the studio because after the studio was empty the dust was swept up and put into a bag and there was quite an amount of it it's remarkable I suppose that Bacon who was a chronic asthmatic was able to work in such an unhealthy atmosphere for so long he obviously protected his skin because a lot of rubber gloves were found marigold rubber gloves were found in the studio covered in paint and possibly he may have worn the gloves to enable him to manipulate the paint more freely than with his fingers just to conclude despite Bacon's blunt assertion that he actually knew nothing about technique certainly he developed over the years a very profound understanding of his materials and their inherent characteristics and technique is taken considerably further than being a mere vehicle for representation and Bacon often spoke about the complete interlocking of image and paint so that every movement of the brush on the canvas alters the shape and implications of the image and certainly that is something that was very evident also in terms of the destroyed canvases found in the studio there were over 100 and again these are fascinating because they span from the 1940s onwards some of them were paintings that were taken to quite a realised scale and then slashed with a knife a Stanley knife in a fairly violent way Bacon actually asked some other people to destroy the canvases John Edwards would be asked to destroy other ones so there are several of these portraits they were small head portraits that he obviously disliked and had the canvas removed now the canvas was taken away out of the studio and only in one case did we actually find the two fragments that fitted into a painting and that's a painting that dates from 1946 which would suggest that Bacon brought it with him to his Rees-Mews studio so just to conclude this is the final painting that Bacon was working on at the time of his death and it would appear to be a self-portrait so it was found on his easel at the time of his death his sister told us that she remembered him working on it in November 1991 and then he died in April 1992 but it shows that he was still willing to attempt to paint on a large scale and in terms of the reconstruction the studio is open to the public in Dublin it is extremely popular so you have an audiovisual area where there's an interview with Bacon in his studio then the studio is preserved in like a glass cage that you can step into and look at in detail also there are two viewing points which give you this view from one end of the studio looking in so this is exactly how it looks reconstructed in Dublin and also this is one of our famous visitors Pierce Brosnan using the 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 audiovisual the terminals which give you full information on everything found in the studio and again people are intrigued with finding out more about what Bacon had in his studio and this is just an exterior of the gallery showing an exhibition that we had called A Terrible Beauty so just to conclude despite all the the measuring and documentation that's gone into the project I think in the end in terms of the studio it's something intangible and something almost magical that has been achieved with the reconstruction of the studio and that is the spirit of the artist in the space John Edwards before his death he visited the studio and he walked into it before the contents had been put in and he said it was absolutely identical he felt as if he was in London so that was we were very very pleased with that also I suppose that you know Bacon referred to the studio as being rather like his mind so I suppose the studio has myriad connections to the virtual spaces of experience and also imagination and the studio contents now have a dual purpose and they were cues obviously to the production of the works of art for Bacon and now they are clues to us to the process of the creation of works of art and the daubs and splashes of paint also allow us to reimagine the act of Bacon painting in the studio whereas the books the photographs the drawings and fragments of illustrations illuminate Bacon's mental processes for the visitor and the disorder of the studio was certainly a source of aesthetic inspiration for Francis Bacon and it continues to exert a fascination for visitors to the space thank you thank you margarita so austin posso parlare è scioccante misurare la differenza tra l'ordine dello studio e il rapporto con gli oggetti nello studio di Giorgio Morandi e the disorder di Francis Bacon e il diverso rapporto con i materiali allora vorrei chiedervi se ci sono domande spunti considerazioni per rompere il ghiaccio vorrei fare una domanda se è possibile Romana Severini perché abbiamo preso in considerazione soprattutto in questa oggi pomeriggio situazioni casi studio in cui come abbiamo visto anche ora l'atelier diventa una sorta di è un involucro che viene vestito abitato dall'artista che si taglia perfettamente sulle esigenze sulle modalità anche di organizzazione del lavoro dell'artista però ci sono artisti nel corso del novecento che hanno amato lavorare in situazioni che prevedevano collaborazioni forti collaborazioni mi chiedevo appunto se lei ricorda notizia di situazioni in cui Gino Severini appunto ha ospitato nel suo studio o ha avuto allievi nel suo studio andando a riconfigurare magari che so una situazione di lavoro collettivo anche all'interno dell'atelier e non solo sul cantiere non so se ha avuto allievi aiutanti che lavorano con lui no a parte per le opere decorative e lui aveva il massimo la massima stima per queste persone che appunto nelle ne ha fatte le opere dalle chiese svizzere a tutte le cose fatte in Italia insomma massimo stima amicizia formata durante il lavoro come scuole due volte ha voluto fare una scuola e poi si stufava cioè lui ha avuto sempre molto approccio per i giovani andava a tutte le mostre poi consigli se erano richiesti e se no non è che si permetteva e la prima volta ha voluto fare una scuola era finanziata da un finanziatore del filosofo meritan che è sempre rimasto anonimo dove avrebbe voluto era negli anni 23 avrebbe voluto insegnare il tempo tutte le varie tecniche poi dopo un mese ha chiuso perché si è stufato perché aveva questa amicizia però a un certo punto era il suo proprio lavoro che doveva prendere e allora chiudeva aveva insegnato il più possibile in un mese tutto quello che poteva e tanti saluti purtroppo non è andata neanche tanto bene per il mosaico che per lui era il sogno di tanti anni perché l'amministrazione i soldi che non arrivavano dall'Italia era sotto la cosa dell'ambasciata d'Italia non arrivavano i mosaicisti di Ravenna che facevano il muso lungo mogli gelose da Ravenna che protestavano e poi pochi soldi per fortuna dopo quando ha lasciato in mano appunto a Riccardo Licata è andato tutto meglio perché tanto non era più in un quartiere all'epoca lontano quasi periferia però si è formata questa scuola proprio alle belle arti dunque in pieno centro di Parigi e dunque poi credo che avrebbe funzionato questo è stato un dolore era già anziano e anche lì gli allievi li ha curati però in fondo lo deludevano e pensava al suo lavoro ecco però come collaborazione proprio dentro lo studio a parte questi suoi lavoranti insomma non li ha mai avuti grazie allora io ho notato come tutti come tutti noi ho notato appunto ci sono delle costanti proprio di interesse dei punti dei punti nodali in questo nella giornata di oggi di interesse e una cosa appunto su cui si discute molto a livello internazionale come è emerso dalla presentazione poi che ha complicato il discorso appunto di Dieterman è appunto l'interesse per la tempera che è un discorso importante di cui si parla molto tempera non tempera ad esempio avrei una domanda spero non troppo specifica a Francesca Izzo non c'è più ah d'accordo comunque il discorso che abbiamo visto ad esempio anche verso la fine dell'intervento di Joyce Townsend can you understand me maybe it's better if I speak English you just mentioned how England British artists continued had this continuous interest in tempera and we know that the sources are so important the antique sources Cianini's reprints et cetera no I remember something about a tempera society about Christiana Jane Herringham the one who edited Cianino Cianini I think this this has very much in common with the interests co-eval interests of German artists and of Italian artists and French artists in fact Francesca Izzo and Simona Rinaldi presented some mentioned some tempera and commercial tempera commercialized later in the in the 20's okay Francesca Izzo and 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 I was interested in the relation between this because they mentioned Pio René Pio who was a French painter a great fan of Delacroix who had written a whole book on the palettes of Delacroix and he actually as I had have understood from your talk he had written something on tempera of Mariano Fortuny isn't it and so I guess there is and he mentioned also other sorts of Italian tempera Muzzi and Laurenti maybe so Pio was himself a painter I remember his fresco for example in the Villa Itatti at Zettignano not such a great painter actually but I am very much interested in these relations between these interests and to understand if these relations are only written so some painters writing about other painters or if they can be documented in some cases if there are relationships between these artists because they are PO and Fortuni and they are all artists they are not scientists non so if there are any reports documented in these groups of interest Fortuni sent some sets of his tempera paints to René PO because he was friends but also he wanted to open to the French panorama and then he sent the paints to him asking about the quality of the paints and this is why René PO then wrote this short essay talking about the quality of his paints but also writing a relationship between the traditional recipes during that period but he didn't mention Muzzi or other paints other famous Italian one just relating Mariano Fortuni to the traditional Venetian but also Italian handmade painters so yeah and then the other ones like Cesare Laurenti and Mario de Maria were also friends of Fortuni I don't know if they were really friends but I mean they were colleagues they were all living in Venice so they used to talk to each other sometimes more openly and then they exchanged some recipes about using for example glycerol like tempera using glycerol or using for example adding sterine or other kind of material but I mean we only know because they wrote to each others and yeah they wrote something also like kind of very short essays but we don't have any samples to be analyzed for example from Laurenti de Maria because there are no more paint tubes from them I think I don't know if you know about them no but we don't have any tubes to see if the paint the tempera is exactly what they say or not but we analyzed some paintings from De Laurenti for example and actually he started using eggs and then mixing eggs and oil and then yolk and both yolk and album and linseed oil and then he started working with waxes as well but these paintings were also reliant so we don't know exactly if there are a lot of contamination from the new gluing or what else but temperas are very complicated that also Patrick said more times un'altra osservazione c'è un altro punto di interesse secondo me della giornata di oggi era notare come nell'intervento di su palla ma in realtà notato in altri interventi si è parlato di pittura per decoratori ecco questo è un non soltanto per cioè materiali non solo per pittori ma anche per decoratori abbiamo visto questi materiali in più occasioni queste sono cose che ci interessano molto per il novecento e che naturalmente hanno un grande interesse ora insomma per i ritrovamenti le scoperte appunto recenti su Picasso ma sono cose che per i futuristi che ora stiamo studiando penso che abbiano una grande importanza non sono naturalmente semplificabili nel fatto che costavano di meno magari così abbiamo visto come per balla fosse un discorso di poetica quello dell'opera d'arte totale che richiedeva appunto mezzi molto vari poi vabbè altre domande che sono troppo specifiche bene se ci sono altre domande altre curiosità altrimenti io vorrei ringraziare a nome di tutto il gruppo di ricerca Futurama tutti gli intervenuti i relatori ma anche coloro che sono intervenuti magari raggiungendo Pisa anche da lontano da diverse parti d'Italia da Rovereto da Genova da e poi da Locarno da Oslo quindi siamo molto grati di aver partecipato alla giornata e speriamo appunto che questo sia anche un'occasione per rilanciare allargare e coordinare le forze in questo ampio vastissimo estremamente complesso campo di indagine che è quello dello studio dei materiali usati dagli artisti e conservati all'interno degli atelier stiamo parlando del pubblicare gli atti per cui vi faremo sapere ecco grazie 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 grazie